Gli anni del focolare Gioannino Bosco, per la mamma e per tutti, solo e sempre Gioannin, fin da bambino andava matto per i divertimenti. Fra tutti però preferiva il gioco della lippa, che consisteva nel ricacciare con un'asta di legno una specie di cilindro, anch'esso di legno, gettato da un compagno. Accadeva spesso, ahimè, che la lippa, lanciata da un inesperto, lo colpisse in pieno volto o in testa e allora, tutto malconcio e sanguinante, correva dalla mamma a farsi medicare. Mamma Margherita lo rimproverava. Perché vai sempre con quei compagni? Non vedi che sono cattivi? Che ti fanno male? Appunto perché sono cattivi vado con loro. Se ci sono io, stanno più buoni e non dicono parolacce. E intanto vieni a casa con la testa rotta? È stata una disgrazia. Sta bene, ma non andare più in loro compagnia. Mamma... Mi hai inteso? Beh, se è per farvi piacere non ci andrò più. Ma pensate che se mi trovo in mezzo a loro fanno come voglio io e si estengono dalle risse, dalle parole cattive. La mamma era alquanto perplessa, ma temendo di impedire un bene, dopo un po' di esitazione, non lasciava andare. Giovannino, presago fin dall'ora della sua missione fra i ragazzi, correva, con la testa fasciata, al gioco interrotto, atteso ed acclamato da tutti per la sua ingenua allegria e per i suoi tratti spiritosi. E gridava ai compagni in tono di scherzo, Mi raccomando la testa! Almeno la testa! La testa! Volete accarezzarmi le spalle? Giovannino è orfano dall'età di due anni. Margherita, la mamma, è donna dolce, ma energica e forte. Deve fare da madre e da padre. In un angro della cucina c'è un bastoncino flessibile, la verga. Margherita, i ragazzi sanno a cosa serve. Margherita non l'usò mai, ma non la tolse mai dal suo posto. Un giorno Giovannino, per la fretta di correre alla lippa, dimenticò di chiudere la porta della gabbia dei conigli, dopo avergli dato da mangiare. A sera fu una fatica nera ripescare tutte le bestiole disperse nei prati. Appena Giovannino rientra in casa, si sente chiamare. Giovannino, portami la verga! Perché? Cosa... Cosa ne volete fare? Portamela, vedrai! Giovannino va nell'angolo, prende la verga e la porta alla madre con aria da martire. Voi volete accarezzarmi le spalle, lo so. E perché no, se mi fai di queste scappate? Mamma, non lo farò più, mai più. Giovannino, abbraccia la mamma e la verga, ritorna al suo posto. Perdono, mamma. Giovannino e il fratello Giuseppe tornano dal campo dove si miete. L'afa spacca le pietre e i ragazzi hanno una sete da svenire. Mamma Margherita trae dal pozzo una secchia d'acqua fresca e porge la mestola prima Giuseppe, che è il più grande. Giovannino fa il muso, è offeso per quella preferenza, si volta di scatto, pesta un piede e rifiuta di bere. Senza dire una parola, mamma Margherita ritira la mestola e ripone il secchio. Passano minuti gravidi di tensione, poi... Mamma, date anche a me da bere. Oh, credevo che non avessi sete. Perdono, mamma. Così va bene. E Margherita porge anche a lui la mestola gocciolante. Così cresce Giovannino, piccoletto, bruno, sano come un corno, la risata squillante, la vitalità inesauribile. Diplomazia di un ragazzo Un giorno, nel gioco, la lippa si rompe. Giovannino e Giuseppe ne tengono una di ricambio nell'armadio di cucina, dove sono anche riposte le olle, le bottiglie e i fiaschi di vino. Giovannino corre in casa, sale su una sedia e cerca la lippa, ma nella fretta urta un'olla che cade a terra e si spezza, versando tutto l'olio sul pavimento. Confuso, si dà da fare per spazzar via tutto. Ma come farà a tenere la cosa nascosta la mamma? L'olio è così caro! Pensa e ripensa, va incontro alla madre che è andata al mercato. D'un tratto, la vede da lontano. Svelto, taglia un bel ramo da una siepe, lo pota ben bene e corre verso la mamma. Come state, mamma? Avete fatto un buon viaggio? Sì, Giovannino, e tu sei stato buono? Mamma Margherita intuisce la manovra del piccolo Mariuolo. Oh, sentite, mamma, volevo dire... Prendete! E le porge la verga. Eh, tu me ne hai fatta qualcuna delle tue. Sì, mamma, questa volta l'ho fatta grossa e merito il castigo. Che ti è successo? Ho rotto... Ho rotto il vaso dell'olio. E narrò il fatto. Giovannino, mi dispiace per l'olio, ma sono contenta che non dici bugia a tua madre. Un'altra volta sta più attento, perché lo sai, l'olio è caro. La mamma sorride e Giovannino la abbraccia. Disavventura di un cacciatore di nidi Giovannino è abilissimo nell'arrampicarsi sugli alberi. Pare uno scoiattolo. Un giorno scala una grossa quercia per prendere una nidiata di uccellini. In un batter d'occhio è alla cima. Ma la nidiata si trova all'estremità di un lungo ramo, che facilmente cede sotto i suoi piedi e si piega. Giovannino non si perde d'animo. Ad agio, ad agio, raggiunge il nido e uno ad uno si pone in seno gli uccellini. Fin qui la cosa è nata liscia, ma il guaio consisteva nel ritornare verso il tronco. Difatti, ecco che ad un tratto gli scivola un piede ed egli rimane sospeso per le mani. La posizione è critica assai. Giovannino lo intuisce e dopo disperati tentativi per rimettersi sul tronco, che sempre più cede, si lascia andare, molleggiandosi con precauzione e si industria di cadere ritto sulla punta dei piedi e rimbalzando in avanti. L'acrobazia riuscì a meraviglia. Ma restò intontito dallo stramazzone preso da ricordarsene per un bel pezzo. Gli spiriti folletti Giovannino è coraggioso ed intrepido. Trovandosi una volta in casa dai nonni materni, sentì parlare di spiriti e dire che in quella casa sudivano dei rumori più o meno duraturi, ma sempre strani e spaventosi. Una sera, nel più bello della veglia, si sente sul soffitto un colpo, come di un cesto pieno di bocce, poi un rumore sordo e lento che va da un angolo all'altro della stanza. Tutti tremano. Che sarà mai? Gli spiriti, gli spiriti! Tutti fuggono. Giovannino solo grida. Voglio andare a vedere che cosa c'è, prendete il lume! Alcuni si fermano, prendono dei lumi e lo accompagnano per la scaletta di legno che porta al soffitto. Giovanni spinge la porta, entra e, alzando la lucerna, guarda attorno. Non c'è nessuno. Tutto è silenzio. I presenti si affacciano anche loro. Alcuni, anzi, entrano, ma tosto, danno un grido e si precipitano fuori. L'incesto da grano, capovolto, ondeggiava, si muoveva e avanzava lentamente. Alle grida il cesto si era fermato, ma poi aveva ripreso a muoversi fino ad arrivare ai piedi di Giovannino. Attento! È un cesto stregato! Deposto il lume su una vecchia scranna, Giovannino si curva, stende le mani e lo tira a sé. Lascia, lascia! gli gridano in coro, ma egli non dà retta e coraggiosamente lo solleva. Là sotto c'era una grossa gallina che la padrona aveva messo in soffitta a covare e aveva dimenticata. Siccome nel cesto appeso al muro erano impigliati dei granelli di frumento, la gallina, affamata, aveva cercato di beccarli, ma il cesto, rovesciandosi, l'aveva fatta prigioniera. I discorsi che si facevano di spiriti, di magie e di streghe e specialmente tutta la paura avevano fatto credere che si trattasse di cose orribili e diaboliche. Piccolo giocoliere Andando ai mercati e alle fiere con sua madre, Giovanni aveva spesso osservato che la gente faceva mucchio intorno agli acrobati e ai prestigiatori. Ciò parve subito all'intelligente fanciullo, un mezzo facile potente per guadagnare l'attenzione altrui. Incominciò pertanto a prestare la massima attenzione alle loro prodezze, tanto da sorprenderne ogni gesto, scoprirne i trucchi ed apprezzarne la destrezza. Tornato a casa, si esercitava a ripetere quei giochi che aveva veduti, finché non fosse riuscito a farli perfettamente. E' facile immaginare le scosse, gli urti, i capitomboli a cui andava soggetto quando, per esempio, voleva imitare gli artisti a ballare sulla corda, a fare salti mortali, a camminare con le mani per terra e i piedi in alto. Ma con la sua costanza e con la sua agilità ben presto ci riuscì e divenne abilissimo in ogni sorta di giochi. Quando fu ben addestrato cominciò a dare simili spettacoli, specialmente la domenica. Attaccava una fumere ad una pianta, la raccomandava per bene ad un altro albero, ad una certa distanza, poi preparava un tavolino, vi collocava sopra una sedia e stendeva un tappeto per terra. Quando ogni cosa era pronta e la gente era adunata la gran novità, egli faceva recitare il rosario, cantare una lode e poi saliva sulla sedia e ripeteva la predica udita la mattina alla messa, adornandola di fatterelli istruttivi. Se qualcuno faceva smorfio, brontolava, Giovanni, ritto sulla sedia come un re sul trono, lo zittiva severamente. Poi dava inizio allo spettacolo. Fare la rondinella, il salto mortale, camminare sulle mani con i piedi in alto, mangiare gli scudi e andarle a ripigliare sul naso altrui, moltiplicare le pallottole e le uova, cambiare l'acqua in vino, uccidere un pollo e farlo volare via. Erano le cose più ordinarie. Sulla corda camminava come per un sentiero, vi saltava e danzava, vi si appendeva ora con un piede, ora con tutti e due, talora con ambe le mani, talora con un'aria sola, e poi di nuovo si slanciava sopra con un'agilità sorprendente, accompagnando ogni cosa con motti sortite e amenità piacevolissime. Tutti ammiravano i statici, ridevano, gli battevano le mani, gli gridavano «Evviva!» Ed egli, tra felato e ansante, occupava gli intermezzi col canto di qualche lode e con la morale di qualche favola. Uno solo faceva l'ognorri ed era il fratellastro Antonio, il quale lo scherniva dicendo «Sah, pagliaccio, farai il ciarlatano per tutta la vita!» Piccole industrie Per allestire quanto correva per gli spettacoli di Giovannino occorrevano spese e lui, che era intelligente e sveglio, si aggiustava era bravissimo a catturare uccelli con la trappola, con la gabbia, col vischio, con l'accio praticissimo poi d'immediate faceva buona raccolta di uccelli di ogni specie che sapeva vendere assai bene fabbricava cappelli di paglia, canestri e cestelli che portava al mercato anche i funghi e le erbe aromatiche erano per lui fonte di guadagno e perfino le serpi che portava in farmacia aveva imparato a filare stoppa cotone lino fiorone di bozzoli da seta riusciva anche a fare calze e maglie sui ferri e da tutto traeva profitto la mamma che osservava ogni cosa lo lasciava fare perché intuiva lo scopo nobile del suo Giovannino il quale fin da quell'età faceva presagire di sé grandi cose Giovannino sfida per la prima volta un ciarlatano una domenica sera in una cappella di un'altra borgata vi doveva essere la predica la chiesa era ormai piena di gente quando all'improvviso si ode un suono di tromba era quella di un ciarlatano non fu possibile trattenere i ragazzi e i giovanotti che si precipitarono fuori e le ragazze li tennero dietro così fecero a poco a poco gli uomini e in chiesa non restarono che poche donnette Giovanni esce anche lui sulla piazzetta si mette in prima fila e sfida il ciarlatano ad arsaggi di destrezza questi guardò il piccolo con aria di scherno ma siccome tutti gridavano accettò la sfida e propose il gioco della bacchetta magica tratta di fatti una bacchetta invitò il ragazzo a provare Giovanni prese la bacchetta vi infilò il suo cappello quindi appoggiata l'altra estremità sulla palma della mano la fece saltare sulla punta del dito mignolo dell'anulare del medio dell'indice del pollice quindi sulle nocche della stessa mano sul gomito sulla spalla sul mento sulle labbra sul naso sulla fronte indi rifacendo lo stesso cammino la bacchetta gli ritornò sulla palma della mano e la presentò al ciarlatano perché facesse altrettanto la gente che mirava e statica scoppiò in applausi e tutti presero a gridare a voi a voi a voi non temo di perdere esclamò il ciarlatano ed afferrata la bacchetta con sdegno la fece camminare quasi con ugualde strezza fin sulle labbra ma qui avendo il naso alquanto lungo la bacchetta inciampò perdette l'equilibrio e scivolò a terra le risate divennero omeriche le grida le urla gli schiamazzi toccarono le stelle e il poveretto raccolte in fretta le sue carabattole si ecclissò sdegnato allora giovanni rivolto la gente gridò in tono perentorio e ora in chiesa alla predica neppure uno mancò addio piccolo merlo avendo un giorno preso un merlo lo allevò con cura e lo addestrò al canto zuffolandoli all'orecchio note e ariette di modo che dopo un po' di tempo quell'uccello era diventato il suo divertimento e la sua delizia ma ogni cosa qua giù passa e non dura un brutto giorno ritornando da scuola trovò la gabbia vuota un gatto l'aveva sfondata e il merlo era sparito rimaneva un ciuffo di piume insanguinate giovanni si mise a piangere sua madre cercò di calmarlo dicendogli che di merli nei nidi ne avrebbe trovati ancora ma giovanni continuò a singhiozzare non gli importava niente degli altri merli era quello lì il suo piccolo amico che era stato ucciso che non avrebbe mai più visto rimase triste alcuni giorni e nessuno riusciva a farlo ritornare allegro finalmente si fermò a riflettere sulla nullità delle cose mondane e pigliò una risoluzione superiore all'età sua propose di non attaccare mai più il cuore a cosa terrena pane nero e buon cuore giovanni bosco aveva per compagno di pascolo un certo secondo matta servitorello di una fattoria vicina queste di solito riceveva per la colazione un pezzo di pane nero mentre giovanni riceveva dalla mamma una bella fetta di pane bianco spesso giovannino diceva a secondo mi fai un piacere volentieri facciamo cambio del pane perché il tuo deve essere più gustoso del mio o almeno mi piace di più matta nella sua semplicità pensando che bosco trovasse il suo pane realmente più gustoso accettava subito così continuò per tre primaveri quantunque il pane nero e duro di matta non fosse davvero una ghiottoneria solo quando fu adulto secondo matta si rese conto della bontà di giovannino bosco l'anima dei divertimenti giovannino si rivela l'anima dei divertimenti il suo è un vero complesso di leader sarà così anche in seguito il gioco sarà sempre per lui un mezzo per conquistarsi il cuore dei ragazzi a fin di bene con la sua fine osservazione per spicacia aveva imparato molti giochi carte tarocchi pallottole stampelle salti corse era conosciuto da tutti ed aveva spesso pubblici e privati spettacoli e questo recava meraviglia perché in quei tempi tali giochi erano poco conosciuti tutto ciò senza parlare dei giochi di prestigio di corse salte ginnastiche nelle quali cose era addirittura insuperabile egli aveva fatto suo il detto letare et bene facete lasciar cantare le passere ogni volta che vedeva crocchi di compagni amici o conoscenti e poteva temere che uscissero in qualche discorso poco onesto bellamente vi si introduceva e cominciava ad estrarli con parole cortesi poi intraprendeva qualche gioco gustoso ora li sfidava a prendere un soldo da terra col dito mignolo e con l'indice della stessa mano ora a far arco della persona rivoltandosi totalmente indietro così da toccare il suolo col capo ora a congiungere bene i piedi e a chinarsi a baciare la terra senza toccarla con le mani altre volte li sfidava a prendere con la bocca un pomo galleggiante in un mastello ripieno di acqua o una moneta nascosta in un recipiente pieno di farina oppure a correre e saltare coi piedi legati da una funicella altre volte prendeva a declamare versi parlare in latino e in greco improvvisava sermoni dialoghi commedie così più nessuno pensava a discorsi pericolosi e partivano sempre con qualche salutare pensiero nei quali Bosco era maestro perfetto sempre ridere e scherzare ma senza mai peccare lo stilicidio dell'adolescenza ragazzo di stalla alla cascina moglia quando mamma Margherita ventirò la proposta di far continuare gli studi a Giovannino che aveva già 12 anni esplose l'ostilità del fratello Antonio lui vuole diventare prete ma i soldi chi li dà Giovannino si mise a studiare da solo la grammatica Antonio non lo può soffrire gli strappa il libro di mano adesso basta voglio farla finita con questa grammatica io sono venuto su grande e grosso senza masticare sui libri anche il nostro asino non mastica libri ed è più grande di te rispose risentito Giovannino Antonio si avventò sul fratello Giovannino fu pestato nonostante le lacrime di mamma Margherita la quale meditò a lungo quella notte sulla situazione domestica così non poteva continuare da donna energica prese una decisione dolorosa il mattino dopo disse tristemente a Giovannino è meglio che tu vada via di casa tuo fratello non ti può più soffrire vai a nome mio nelle cascine qui intorno se qualcuno ti può prendere come servente per un anno poi si vedrà Giovannino con il suo fagottello sulla spalla uscì di casa e si accasò presso i fratelli moglia di Castelnuovo faceva il ragazzo di stalla un giorno il giovane padrone Luigi moglia condusse sé col piccolo garzone perché l'aiutasse a piantare le nuove viti Giovannino legava con vimini vicino a terra le nuove viti ai rispettivi pali ad un certo punto stanco del faticoso ed incomodo lavoro esclamò ah che mal di schiena avanti avanti rispose il padrone se non vuoi aver mal di schiena quando sarai vecchio bisogna che ti avvezzi adesso che sei giovane Giovanni continuò il lavoro e poco dopo guardandolo con aria sorridente soggiunse ebbene queste viti che ora leggo faranno l'uva più bella daranno il vino migliore e dureranno più delle altre vala bocci chi vuol dire minchione rispose il moglia fosse vero e fu proprio vero quel filare produsse ogni anno il doppio degli altri che con l'andar del tempo perirono e più volte furono rinnovati mentre le viti del filare di Don Bosco prosperarono con ammirazione da tutti dal 1828 al 1890 cioè per oltre 60 anni quando dopo tanti anni i nipoti dei moglia si recavano all'oratorio in Torino portavano al santo di quell'uva ricordando il prodigio continuo un altro giorno il vecchio Giuseppe zio di Luigi moglia padrone della fattoria arriva dalla campagna tutto sudato e con la zappa in spalla è mezzodì e sulla torre di Moncucco scocca il suono delle ore il vecchio si siede a tirare il fiato e vede Giovannino in ginocchio sul fieno che recita l'Angelus come mamma Margherita gli ha insegnato ma bravo noi padroni ci logoriamo la vita sulla zappa gli disse in tono semiserio e il garzone se la prende calma e se ne sta a pregare in pace ma quando c'è da lavorare barba Giuseppe sapete che non mi tiro indietro ribatte pronto Giovannino ma mia madre mi ha insegnato che quando si prega da due grani nascono quattro spighe se invece non si prega da quattro chicchi nascono due spighe sole sarà meglio che preghiate un po' anche voi salute conclude il vecchio adesso abbiamo anche il prete in casa nella bella stagione il garzone porta le mucche al pascolo e mentre gli animali brucano l'erba intorno Giovannino all'ombra di un albero perde la testa sui suoi libri perché leggi tanto? gli chiede Luigi moglia voglio diventare prete e dove li prendi i soldi che ci vogliono oggi per studiare? se Dio vuole qualcuno ci penserà c'è in casa una bambinetta Anna che vedendo Giovannino intento a leggere invece di badare i suoi giochi si indispettisce piantala di leggere Giovanni ma io diventerò prete e dovrò predicare e confessare sì prete lo canzona la bambina un vaccaro tu diventerai no tu adesso mi prendi in giro ma un giorno verrai a confessarti da me e così fu la predica ben pagata nel novembre del 1829 ci fu una missione predicata a bottigliera d'asti e vaccorreva anche la gente dei paesi d'intorno Giovanni Bosco vi andò assiduamente tutto felice di poter ripetere la sera la predica a mamma Margherita una sera tornando a casa si trovò a camminare vicino a un vecchio prete reduce anche lui dalla missione ragazzo gli dice il vecchio prete con aria bonaria ti do quattro soldi se mi sei dire quattro parole della predica di oggi Giovanni attacca e recita l'intera predica come se leggesse un libro olà olà bene che scuola hai fatto? ho imparato a leggere e a scrivere mi piacerebbe studiare ancora ma mio fratello più grande non ne vuole sapere e perché vorresti studiare? per farmi prete ebbene vieni a stare con me il prete è Don Giovanni Melchiorre Calosso 70 anni in pensione che fa il cappellano a Morialdo Margherita fu lieta di sistemare Giovannino presso il vecchio prete che gli avrebbe fatto scuola Giovannino è alle stelle trovava di colpo quel che gli mancava confidenza paterna senso di sicurezza fiducia passò così un anno in un batter d'occhio orfano un'altra volta racconta Giovanni nessuno può immaginare la mia contentezza amavo Don Calosso come un padre quell'uomo di Dio mi portava a tanto affetto che mi disse più volte non darti pena per l'avvenire Giovannino finché vivrò non ti lascerò mancare niente e se muoio provvederò a te ugualmente un disastro fece crollare tutte le speranze un mattino di novembre del 1830 Giovanni era a casa da mamma Margherita per farsi cambiare la biancheria quando arriva una brutta notizia Don Calosso è stato colto da un infarto il ragazzo vola a Morialdo e trova Don Calosso morente che non potendo più parlare gli indica la chiave di un cassetto facendo segno di non consegnarla a nessuno per lui la morte del buon prete fu uno schianto vennero i nipoti di Don Calosso per i funerali Giovanni scrupoloso e sincero come sempre consegnò loro la chiave erano gente onesta che capiva la situazione e gli dissero pare che lo zio volesse lasciare a te questo denaro nel cassetto c'erano 6.000 lire tu prendi pure quello che vuoi non voglio niente si sentì gridare Giovanni con il pianto in gola non era il denaro che gli premeva era affranto per la sua situazione a 15 anni si ritrovava solo senza maestro senza padre senza mezzi senza una prospettiva per il futuro piangevo inconsolabile scrive se riesco a farmi prete Dio è grande con l'aiuto di Barba Michele Giovanni si iscrive all'unica scuola di grammatica oggi diremmo scuola media che è aperta a Castelnuovo il capoluogo di comune qui vede spesso molti preti e li osserva se per caso ne trova qualcuno che somiglia a Don Calosso ma sono diversi egli li saluta con deferenza e si aspetta un sorriso una buona parola niente a quei tempi si credeva che la gravità sostenuta fosse il vero contegno delle persone di chiesa e quindi restituivano appena il saluto passando senza curarsi di lui che spesse volte se ne lamentava con la madre che cosa costerebbe loro una buona parola un buon suggerimento oh quanto bene farebbe alla mia anima Gesù non faceva così io vedete se riuscirò a farmi prete voglio consacrare tutta la mia vita ai ragazzi non mi vedranno mai troppo serio sarò sempre il primo a parlare e a tenerli allegri li farò giocare li farò cantare e con l'allegria tutti li vorrò salvare e pareva che già pregustasse la sua futura nobilissima missione a scuola ma con i buoni nell'ambiente scolastico ci si ritrova tutti buoni e cattivi i ragazzi impegnati di solito sono disciplinati e silenziosi gli scapestrati sono spavaldi e fanno chiasso Giovanni fu addescato da questi vieni con noi facciamo sega ma regniamo la scuola andiamo in giro a dar fastidio alle ragazze lasciatemi perdere non ho denari da spendere come? non hai denari? ah mio caro è tempo di svegliarsi bisogna imparare a vivere al mondo so via cercati i soldi prendine dove ce n'è e godrai anche tu come noi a tale suggerimento Giovanni rispondeva come? voi dunque vorreste che io imparassi a rubare? ma non sapete che chi ruba fa peccato e che i ladri e i giocatori fanno trista fine? se voi fate questo mestiere andrete a finire male via da me che non sarò mai vostro amico tanto bastò perché da quel giorno i pochi cattivi lo lasciassero tranquillo mentre i buoni si assiepavano attorno a lui uno scolaro assai dotato Giovanni aveva passione per lo studio buona capacità di apprendere memoria prodigiosa ma il suo maestro si era ficcato in testa che Bosco essendo della frazione dei vecchi e figlio di contadini non poteva che essere scarso di mente la sua stessa età sedici anni ormai lo dimostrava un giorno c'era compito in classe Bosco che era in prima grammatica chiese al maestro che gli lasciasse svolgere il compito assegnato a quelli di terza grammatica l'insegnante si offese come? e come pretendi? tu che sei dei vecchi piuttosto dimmi un po' ti pare che questo sia pane per i tuoi denti? Bosco educatamente insistete di poter fare l'uno e l'altro compito fa pure come ti piace ma non penserai che io legga le bestialità che metterai in carta? il compito di terza era un passo di un autore classico assai scabroso Bosco si raccolse lavorò di lena e in breve tempo consegnò la sua traduzione l'insegnante prese il foglio e lo gettò sul tavolo senza guardarlo la prego professore legga e mi dica gli errori che ho fatto legga legga professore anche noi vogliamo sentire i suoi spropositi fece coro la classe l'insegnante lesse era una traduzione insolitamente fluida e corretta ma egli deponendo il foglio disse in tonno di scherno io lo pensavo Bosco ha copiato tutto da capo a fondo e da chi avrei copiato professore obiettò serenamente Giovanni indicando i compagni intenti ai loro elaborati ancora incompiuti l'albero della cuccagna è una provvidenza nelle vicinanze a Montafia paese vicino a Castelnuovo c'era la sagra con le consuete attrazioni e giochi tra i quali l'albero della cuccagna una bete ben liscio insaponato in cima al quale svettava una bella corona di premi tra i quali una borsa con venti belle lire mi farebbero comodo pensò Giovanni una folla stragrande assisteva allo spettacolo i giovani del paese l'uno dopo l'altro si avvicinavano e tentavano la scalata uno giungeva ad un terzo l'altro a metà ma poi non potendone più scivolavano a terra le grida della gente che ora incoraggiava ora fischiava andavano alle stelle Giovanni che intanto osservava attentamente notò che tutti i contendenti davano la scalata con rapidità e la continuavano senza prendere fiato per cui arrivati ad un certo punto si sentivano venire meno e trascinare a terra dal proprio peso venuto al suo turno si presentò risoluto in mezzo allo spazio e prese ad arrampicarsi con calma incrociando di quando in quanto le gambe per annodarle all'albero e sedersi sulle calcagne a riposare gli spettatori che non intendevano il perché di quella manovra si aspettavano di vedere anche lui da un momento all'altro ripiombare a terra ma Giovanni saliva saliva e allorché fu vicino alla cima che dondolava perché molto sottile si fece un silenzio generale che poi scoppiò in frenetico applauso quando aggrappatosi al cerchio e gli prese ad intascare gli oggetti del premio giunto a terra sgattaiolò fra la gente e corse giubilante a casa saggio di capacità dalla scuola di Castelnuovo passò al ginnasio di Chieri qui gli toccò un professore molto severo il quale al vedersi dinanzi un allievo alto e grosso come lui scherzando gli disse in piena scuola costui o è una grossa talpa o è un gran talento la scuola rescarise e Bosco sorridendo anche lui rispose qualche cosa di mezzo ho però buona volontà erano passati appena due mesi e un giorno Bosco aveva dimenticato a casa il libro di testo il professore dopo aver spiegato e fatto i commenti accortosi che Bosco non teneva il libro di nanzi lo chiamò a leggere il testo latino che aveva spiegato Bosco non si scompose prese in mano un libro qualunque ripete a memoria il testo la costruzione e tutti i commenti fatti dal professore appena finito i compagni diedero in un battimani generale il professore andando sulle furie volle sapere il perché di quel disordine allora presero a dire Bosco ha in mano un altro libro e legge e spiega come se avesse il testo il professore volle accertarsi prese in mano il libro che Bosco teneva lo fece ancora proseguire per alcuni periodi e passando dallo sdegno all'ammirazione gli disse siete un prodigio di memoria procurate di servirvene in bene prodigio di memoria nel leggere tutte queste cose di San Giovanni Bosco studente qualcuno potrà pensare che trascurasse lo studio tutt'altro essendo stato abituato fin da bambino a dormire assai poco impiegava due terzi della notte sui libri e talvolta accadeva che l'ora della levata lo trovava ancora con i libri in mano messosi d'accordo con un libraio si era associato alla lettura dei classici latini ed italiani e li leggeva non solo per divertimento ma per penetrare il giusto senso e la bellezza li studiava e riteneva non solo i punti più salienti ma spesso l'intero testo non faceva distinzione fra leggere e studiare e con facilità poteva ripetere il contenuto di qualsiasi libro di italiano latino o greco letto o udito leggere un giorno un compagno col quale si preparava ad un esame gli disse Bosco vuoi che scommettiamo chi impara per primo questa pagina proviamo pure letta la appena il compagno la recitò alla lettera e adesso a te soggiunse Bosco la ripeté tale e quale e poi continuò e ora sapresti dirla dalla fine al principio che stranezza esclamò il compagno ebbene io te la dico e prese a recitarla dall'ultima parola alla prima altri doti sorprendenti e più che naturali nella vita di Don Bosco i sogni costituiscono un capitolo a sé da studiare attentamente per ora tradiscono una capacità prodigiosa di preveggenza che riesce molto utile al nostro amico eccone un saggio una notte sognò che il professore aveva dettato il compito in classe e che egli stava eseguendolo svegliatosi balzò di letto e scrisse quel compito che era un testo latino poi prese a tradurlo con tutta comodità al mattino il professore detta davvero il compito e precisamente quello sognato da Giovanni questi senza aiuto di vocabolario e in brevissimo tempo consegnò il foglio con meraviglia di tutti ma la meraviglia crebbe d'assai quando interrogato dal professore confessò ingenuamente di aver sognato quel compito nella notte altra volta capitò la stessa cosa Bosco aveva consegnato in pochi minuti il compito eseguito a perfezione il professore grandemente ammirato comandò che gli portasse la brutta copia Giovanni obbedì il professore aveva preparato quel compito la sera precedente ma vedendo che era troppo lungo ne aveva dettato solo la metà ora con suo grande stupore lo trovava tutto intero nel quaderno del ragazzo quale arcano si nascondeva là sotto che Bosco fosse dunque penetrato di notte nella camera del professore a copiarlo era impossibile dunque Bosco candidamente confessò ho sognato cioè aveva sognato il dettato e la traduzione e li aveva scritti interi sul quaderno mentre sul foglio da consegnare si era limitato a scriverne quanto aveva dettato il professore muscoli di ferro a proposito della vigoria fisica di Don Bosco l'autore di queste pagine può attestare quanto segue nel dicembre del 1884 recatosi Don Bosco a San Benigno per la seconda vestizione clericale dei suoi novizi passò con loro tutta la giornata raccontando amenità della sua gioventù ad un certo punto uno dei chierichetti che il santo teneva per mano si fece a dirgli Don Bosco lei quando era giovane vinceva nelle corse ai saltimbanchi ed ora può appena trascinarsi peccato che le gambe non servano più veramente le gambe non mi vogliono più servire ma le mani mi servono ancora rispose sempre sorridente il santo e prese a stringere così fortemente le mani di quanti le avevano fra le sue che tutti con grandi stenti poterono liberarsi meno il poveretto di qui sopra che fu costretto a chiedere pietà tergendosi allora i sudori e stropicciandosi le dita livide esclamò davvero che le servono le mani ha dei muscoli di ferro io ho provato anni verdi e sereni la veste nera e il seminario a 19 anni Giovanni Bosco deve decidere il suo avvenire ha ancora voglia di farsi prete anzi pensa addirittura di farsi francescano inoltre regolare domanda e viene accettato ma non è questa la volontà di Dio la madre Margherita Bosco gli fa questo discorsetto sentimi bene Giovanni io voglio che tu ci pensi bene e con calma quando avrai deciso segui la tua strada senza guardare in faccia a nessuno la cosa più importante è che tu faccia la volontà del Signore il parroco vorrebbe che io ti facessi cambiare idea perché in avvenire potrei aver bisogno di te ma io ti dico in queste cose tua madre non c'entra Dio è prima di tutto da te io non voglio niente non mi aspetto niente io sono nata povera sono vissuta povera e voglio morire povera anzi te lo voglio dire subito se ti facessi prete e per disgrazia diventassi ricco non metterò mai piedi in casa tua ricordalo bene il suo amico Luigi Comollo intanto ha deciso di entrare nel seminario di Chieri Bosco è ancora perplesso l'amico Evasio Colli gli dice vai a Torino a consigliarti con Don Caffasso è il più bravo prete che io conosca Bosco va a Torino e cerca di Don Giuseppe Caffasso un pretino di 23 anni che lo ascolta con calma e attenzione questi alla fine taglia netto e gli dice entrate in seminario per il denaro non ci pensate qualcuno provvederà il 25 ottobre di quell'anno 1834 Giovanni Bosco nella chiesa di Castelnuovo prima della messa grande riceve dal parroco la veste da prete la talare nera è stata cucita da mamma Margherita di notte Bosco la riceve tutto commosso alle solenni parole del rito mio Dio che io cominci davvero una vita nuova il 30 ottobre successivo entra in seminario il colpo di timone alla sua vita ormai l'ha dato per sempre novello Sansone quando era nel ginnasio a Chiere un giorno durante l'ingresso nella scuola alcuni discepoli si diedero a molestare Luigi Comollo che era il più intimo amico di Bosco e che era anche il più virtuoso della scolaresca Bosco ne prese la difesa ma essi indispettiti passarono alle busse con pugni e calci al povero Comollo a quella vista Bosco perde il controllo di se stesso e ha brancato uno di quei mascalzoni per le spalle tale novello Sansone se ne serve come di un manganello e sbatacchia per dritto e per rovescio quegli scalmanati in quella entra il professore che vedendo braccia e gambe rotear per l'aria montò sulle furie e volle sapere il perché di quella scenata Bosco per nulla atturbato disse la pura verità ed il professore apostrofò quei cattivi soggetti dicendo vi meridereste un castigo assai più grave ma per questa volta vi basti quello ricevuto da Bosco attenti però a non più molestar nessuno specialmente che è più saggio e più virtuoso di voi suonatore di violino Acchieri dal capo cantore del Duomo aveva anche imparato a suonare il violino e con questo accompagnava le funzioni invitato da un suo zio di 102 anni ad intervenire ad una festa in una frazione di bottigliera d'asti per aiutare a cantare e anche a suonare il violino e si presentò e ogni cosa andò benissimo fin dopo il pranzo fatto in casa di quello stesso zio che era il priore della festa finito di desinare i commensali fra cui anche il parroco lo invitarono a suonare qualcosa a mo' di sollievo ed egli per compiacere specialmente il vecchio zio che più di tutto insisteva non seppe rifiutarsi e suonò per un buon tratto applauditissimo quando ecco ode un bisbigliare un calpestio nel sottostante cortile si fa la finestra che era aperta e vede una frotta di ragazzi e ragazze che danzava al suono del suo violino non si può esprimere lo sdegno da cui fu invaso in quel momento il chierico bosco come gridò ai commensali io che tanto protesto contro il ballo ne sono diventato il promotore ciò non sarà mai più e gettato a terra il violino vi saltò sopra con i piedi lo fece in mille pezzi e non ne volle più sapere di suonarlo per l'avvenire più forte di un cavallo nelle vacanze pasquali del 1835 bosco aveva 20 anni andò a trovare un suo amico a Pinerolo un certo Annibale Strambio che fu poi un uomo di stato console a Marsiglia e grande amico dei Salesiani in quei giorni bosco e l'amico stabilirono di fare una passeggiata a Fenestrelle si incamminarono con un calesse trainato da un cavallo la cosa andò bene sulle prime ma ad un certo punto si levò un vento così furioso che respingeva il cavallo e toglieva ogni forza anzi sollevava un turbinio di sabbia e pietruzze che sbatteva nei loro volti e negli occhi del povero animale l'aria si faceva buia la bestia ansante urtava qua e là sbuffando e non voleva più proseguire mentre il vento impetuosissimo minacciava di precipitarli fra i diruti a buon punto però scorsero poco distante accanto alla strada un incavo nel monte che offriva sicuro rifugio ma come raggiungerlo il cavallo non voleva più saperne le ruote erano affondate la strada deserta bosco dice al compagno annibale prendi la bestia nel morso e io andrò a spingere così fecero ma il cavallo anziché avanzare indietreggiava ebbene ripigliò bosco tu annibale passa qua a spingere piglierò io il cavallo passò innanzi prese l'animale per la cavezza e adoperando tutta l'energia e la potenza dei suoi nervi trascinò cavallo calesse ed amico sotto il provvidenziale rifugio il numero con il cavallo nelle stesse vacanze andava a ripetizione presso il parroco di Castelnuovo il quale gli diede l'incarico di tenergli pulito il cavallo Giovanni ben lieto ne aveva ogni cura e nei giorni in cui il parroco non ne abbisognava lo conduceva a passeggio e faceva numeri di ogni sorta lo spingeva al caloppo e correndoli a fianco gli saltava in groppa e riusciva a stargli in piedi sul dorso mentre il cavallo continuava la corsa un bel giorno però gliene capitò una di brutta mentre cavalcava allegramente il cavallo si adombrò per uno stormo di uccelli sollivatesi all'improvviso da una siepe accanto alla via sbalzò di groppa il cavaliere e si diede ad una corsa sfrenata per i campi questa volta il numero l'aveva fatto il cavallo coraggio alla prova Don Bosco studente di teologia nel seminario di Chieri si era fatto un amico buono e santo come lui nella persona del Chierico Luigi Comollo e con lui passava spesso i giorni delle vacanze Comollo si recò una volta ai vecchi e la mamma dopo i primi convenevoli disse ai due amici vorrei farvi onore ma siccome devo attendere la mia titura vi lascio padrone di casa con l'ordine di accopparvi un pollo e mangiarvelo in santa allegria e se ne andò i due dopo aver ragionato a lungo dei loro studi e di molte altre cose utili e buone si accorgono che punge l'appetito e allora Bosco dice su via è tempo facciamo l'obbedienza della mamma ebbene risponde Comollo io accenderò il fuoco e tu metterai la pentola benissimo continua Don Bosco ma prima sarà meglio acciuffare il pollo che ci serva di brodo e di pietanza il metterle mani addosso a un pollo non fu difficile cosa il più fu poi ucciderlo nell'uno nell'altro si sentiva di farlo quindi decisero di tirar la sorte che toccò a Comollo questi prese il pollo per la testa lo roteò alquanto in giro sopra il capo e l'abbandonò all'avventura il povero pollo andò a cadere stramazzoni in mezzo all'aia ma tosto si raddrizzò e passato il momento di sbigottimento prese allegramente a cantare un delizioso chichi sbattendo le ali in segno di trionfo i due restarono con un palmo di naso risero della mena scenetta e decisero di prenderne un secondo questa volta si provò il bosco lo agguantò per il collo e dopo due tiratine coi fiocchi lo scaraventò per l'aia in modo che andò a cadere in pigliato fra i rami di una pianta addossata al muro di casa non la scappi più gridarono entrambi e corrono a raccogliere il morto avvicinano una scala alla pianta uno tiene e l'altro sale e allunga la mano alla preda ma ecco che il pollo con uno strappo si libera dalla stretta e vola sul tetto la burla era bella ma l'appetito pungeva e allora decisero di accapparne un terzo e di accopparlo addirittura col falcetto eccoli all'opera comollo tiene il galletto per il collo sopra un ceppo e bosco mena il colpo spietato la testa del povero galletto spiccata dal busto salta un metro distante ed essi spaventati alla vista di quel collo sanguinante si danno alla fuga piangendo oh sciocchi disse poco dopo bosco ce lo ha comandato la mamma dunque coraggio senza altra difficoltà raccolgono il pollo lo spennano lo cuociono e pranzano in santa allegria un'allegra scampagnata nelle vacanze del 1836 bosco cedendo ai ripetuti inviti dell'amico comollo si era deciso a fare una scampagnata a Cinzano paese distante circa tre ore di viaggio da Castelnuovo dove era parroco lo zio di comollo e vi si recò per l'ora di pranzo con tre dei suoi migliori amici giunti con un appetito da cacciatori si sentono dire dalla persona di servizio la signora maddalena che il parroco non c'è perché insieme col nipote era andato a Scholz per un'adulanza di sacerdoti torneranno presto? ah certamente non prima di questa sera ed io capiranno non posso ricevere nessuno e allora mormorarono tra loro i quattro amici andare a Scholz a stomaco vuoto chi se la sente? oh ritornare a Castelnuovo di Giuni peggio che peggio dunque come si fa? bosco facile a superare ogni ostacolo non si lascia battere per così poco in un baleno studia il piano e si accinge all'attacco esclamando oh almeno ci fosse la signora maddalena so che è come padrona la mano destra del signor prevosto una vera benedizione per questa casa vorrei almeno salutarla salutare chi? risponde la serva la signora maddalena e fare la sua conoscenza giacché mi fu parecchie volte decantata come persona modo gentilissima graziosissima a questi colpi di signora e a questi paneggirici inattesi ella si sente cotta dalla gioia e tutta raggiante dice alla maddalena sono io in persona e lei chi è che mi conosce così bene? io sono Bosco dei Becchi il compagno e l'amico del chiarico comollo nipote del signor parroco ah il chiarico bosco l'ho sentito tante volte elogiare dal signor prevosto viene dunque da Castelnuovo precisamente e questi sono tre amici miei e anche amici di comollo che ci ha ripetutamente invitati ma lei dunque è proprio la signor maddalena la padrona di casa oh niente padrona sono la povera serva faccio quello che posso nell'interesse di questa casa e del signor padrone che da più di trent'anni mi tiene in piena fiducia oh sappiamo tutto sappiamo tutto signora maddalena lo dice sempre il signor prevosto che come la maddalena non ce n'è un'altra economa premurosa attiva che ha occhio a tutto che arriva a tutto maddalena sotto questa pioggia di riterati complimenti è cotta interamente e balbettando parole di scusa soggiunge oh quanto mi rincresce che il padrone non sia in casa rincresce anche a noi ma pazienza sarà per un'altra volta o un'altra volta ma dove vogliono andare andremo all'osteria no non si è mai detto passino entrino si accomodino ci aggiusteremo ma non c'è il prevosto beh se non c'è il prevosto ci sono io il prevosto sarà ben contento avanti avanti oh quanto disturbo vanno esclamando uno dopo l'altro entrando non vorremmo non vorremmo abusare della sua bontà lei ha tanto da fare non si diano pensiero e lasciano fare a me si accomodino e un boccone di pranzo sarà presto preparato va bene così? oh va benissimo ma non c'è mai che tenga si troveranno contenti oh anche qui battendosi sul fianco le chiavi della cantina ringiovanita di trent'anni si rimbocca le maniche corre in cucina e ritorna e va e viene e apparecchia la tavola e racconta le sue gesta e neggia la bontà del padrone e alla santità del nipote in breve il pranzo fu pronto e che pranzo tutto andò gonfie vele tutto finì con gli evviva la cuoca alla prima occasione Bosco raccontò l'avventura il signor prevosto che ne rise proprio di cuore erano queste fin da allora le sante astuze di Don Bosco con le quali otteneva indicibili effetti Un morto che parla Giovanni Bosco e il suo intimo amico Luigi Comollo si erano fatta reciproca promessa di pregare l'uno per l'altro e con l'impegno che chi fosse stato il primo a morire avrebbe recato notizia della propria salvezza al compagno supersite qualora Dio l'avesse permesso il chierico Comollo morì in seminario a Chieri la notte del 2 aprile 1839 e nella notte della sepoltura dal 3 al 4 aprile mentre Bosco e compagni dormivano si ode un rumore cupo e prolungato che dal fondo del corridoio si avanza facendosi sempre più tetro e spaventoso i seminaristi si svegliano ma nessuno osa parlare il rumore si avanza sempre più la porta del dormitorio si spalanca appare una luce che si fa sempre più vivida in mezzo a quel rumore di tuono e si accosta alla cella di Bosco qui la luce diventa vivissima cessa il fragore e si ode risuonare distinta la voce del chierico Comollo che dice per tre volte Bosco 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 io sono salvo il fragore riprende più rumoroso di prima e si allontana la porta sbatte paurosamente tutta la casa si scuote come di terremoto e poi ogni cosa tacce i compagni di Bosco balsano dal letto e fuggono all'impazzata Bosco li chiama li incoraggia li calma e racconta loro la vicendevole promessa fatta col Comollo Predicatore improvvisato in quelle stesse vacanze Giovanni Bosco fu invitato dal parroco di Cinzano Monferrato a prender parte come inserviente alla festa di San Rocco Già si davano i segnali del Vespro e il predicatore invitato non compariva il povero parroco ne era assai impenserito e il chiarico Bosco per togliero dall'impiccio si rivolgeva ora all'uno ora all'altro dei sacerdoti presenti pregandoli con insistenza che facessero la predica ma come volete lasciar dunque partire tanta gente senza dire due parole diceva uno di loro seccato da quelle le insistenze rispose ingenuo che sei un discorso su San Rocco lì su due piedi non è come bere un bicchier d'acqua sai e fallo tu se te la senti Bosco alquanto ferito nel suo amor proprio soggiunse ebbene giacché ognuno si rifiuta accetto cantati i vespri egli salì sul pulpito e fece un discorso che fu sempre detto il migliore di quanti se ne erano uditi in quella circostanza ciò si ripetè altre volte la grazia della parola l'aveva chiesta a Dio nella sua vestizione e clericale egli fu abbondantemente concessa berretta nuova Don Bosco fin da giovanetto e da chierico era ad una squisitezza d'animo straordinaria in seminario a Chieri vedendo che un suo compagno era messo in burla perché portava una berretta di una forma alquanto strana un bel giorno gli si avvicinò e gli disse Giacomelli mi lasci per un momento la tua berretta e perché no prendila pure egli la prese e dopo qualche ora ritornò con una berretta nuova fiammante e gliela mise in capo dicendo guarda un po' se ti va bene oh mi vai greggiamente e la mia la tua la terrò per memoria sei contento? contentissimo ma io tu con quella sembravi un semplice cappellano con questa sembri un parroco con i fiocchi camperete 90 anni nelle vacanze pasquali di quell'anno 1839 passando a far visita al suo antico padrone Luigi Moglia prima di allontanarsi salì a salutare la moglie di lui che era malata sentendola lamentarsi ed esclamare che la era finita per lei Giovanni sorridendole disse fatevi coraggio padrona estate di buon umore voi non morrete ma camperete fino ai 90 anni di fatti guarì e pose tanta fiducia in quella promessa di Giovanni Bosco che quantunque colpita in seguito da malattie e anche gravi non volle mai prendere una medicina perché diceva Bosco mi ha assicurato che vivrò fino a 90 anni è inutile quindi ogni rimedio sopravvisse di fatti a Don Bosco stesso e moriva in età di anni 91 tutti la chiamavano la vecchia di Don Bosco qui c'è un mago aveva creato tra i suoi compagni la società dell'allegria e come presidente Giovanni Bosco era solito dare saggi della sua abilità coi giochi di prestigio ora siccome i più non sapevano darsi una spiegazione delle meraviglie che operava si venne a poco a poco nella persuasione che egli fosse un mago e che operasse quei prodigi con l'intervento del diavolo così la pensava anche un certo Cumino Tommaso suo padrone di casa il giorno del suo nomastico Cumino aveva preparato un pollo in gelatina per i pensionati recato il piatto in tavola e scopertolo con meraviglia di tutti ne salto fuori un gallo che svolazzando si diede a cantare allegramente altra volta dopo aver fatto bollire una pentola di maccheroni nell'atto di versarli nel piatto trovò altrettanta crusca asciutta spesso dopo aver riempito le bottiglie di vino versandone nei bicchieri vi trovava acqua limpida altre volte invece volendo bere acqua trovava il bicchiere pieno di vino spesso ancora trovava le confetture convertite in fette di pane il denaro nella borsa convertito in pezzi di latta il cappello cambiato in cuffia noce nocciole di un sacchetto in minuta ghiaia la gente esterefatta si chiedeva ma che sia un mago costui o dio o diavolo a simili scherzi che succedevano quasi ogni giorno il buon cumino suo padrone andava pensando costui o è un dio o è un diavolo ma un dio non può esserlo quindi è un diavolo io debbo denunziarlo pertanto non usando parlarne con i suoi pensò di consigliarsi con un sacerdote vicino di casa sua andò a visitarlo e quasi esterefatto gli narrò una filastrocca di cose viste non viste dipinte con tale vivacità di colori che trasfuse la sua persuasione in quel buon sacerdote il quale decise di riferire la cosa all'autorità ecclesiastica fu tosto incaricato un canonico che mandò a chiamare Bosco questi si presentò mentre quel canonico stava distribuendo l'emosina dei poverelli fattoli entrare nel suo studio presa dirgli con tutta serietà caro Bosco i superiori sono stati fin qui molto contenti del vostro studio e della vostra condotta ma ora si raccontano tante cose di voi si dice che conoscete pensieri degli altri che indovinate i denari che altri tiene in tasca che fate vedere quello che è bianco o nero e quello che è nero o bianco che conoscete le cose lontane e simili insomma fate parlare di voi fate sospettare che vi serviate della magia e che nelle vostre opere vi sia l'intervento del demonio ditemi dunque in strettissima confidenza in qual modo fate queste cose delle vostre confidenze non me ne servirò che per farvi del bene bosco senza scomporsi gli chiese cinque minuti di tempo a rispondere e gli domandò l'ora il canonico mise la mano in tasca e non trovò più il suo orologio se non ha l'orologio soggiunse bosco mi dia una moneta da quattro soldi il canonico frugò in ogni tasca e non trovò più la sua borsa o briccone prese allora dirgli alzandosi incollerito o voi servite il demonio o il demonio serve voi voi mi avete rubato la borsa e l'orologio non posso più tacere sono obbligato a riferire al bescovo e non so chi mi tenga ad aldarvi un sacco di legnate a queste invective bosco sorridente rispose stia tranquillo signor canonico tranquillo un corno dove sono la mia borsa e il mio orologio signor canonico si calmi è tutta destrezza di mano bella destrezza di mano rubare borse e orologi le spiego tutto in breve quando giunsi qui da lei lei stava distribuendo le lemosina dei poverelli e lasciò la borsa su quell'inginocchiatoio andando poi nell'altra camera lasciò l'orologio su questo tavolo io ho preso e nascosto l'una e l'altro sotto questo paralume così dicendo alzò il paralume che stava sul tavolo e apparvero tutti e due gli oggetti il buon canonico si fece dar saggi di altri giochi di destrezza fece un buon regalo a bosco e lo licenziò dicendogli andate a dire a tutti che l'ignoranza è maestra di ammirazione una sfida memorabile nel 1832 racconta Don Bosco nei suoi quaderni di memorie i gesuiti tenevano uno stupendo catechismo durante le loro feste nella loro chiesa di Sant'Antonio Bosco vi conduceva regolarmente i suoi amici della società dell'allegria a guastare le feste una domenica un santo in banco viene proprio a piantarsi davanti alla chiesa di Sant'Antonio era un vero atleta correva e saltava come una macchina la gente correva a vederlo e addio catechismo Bosco aveva 17 anni e si sentiva in grado di sfidarlo la società dell'allegria fece le cose in regola fu inviata al giocoliere regolare sfida studente contro atleta professionista stabiliti tempo luogo regola del gioco e nominata una giuria il Sant'Inbanco propose una corsa a piedi percorrendo tutta la città dall'una all'altra estremità con la posta di 20 lire Bosco non le possedeva ma gli amici gli vennero in aiuto Bosco si tolse la giubba si fece il segno della croce e iniziò la corsa il rivale all'inizio si avvantaggiò di una decina di metri ma Bosco riacquistò subito il terreno e lo lasciò talmente indietro che quegli si fermò a metà strada dandogli partita vinta non contento però anzi avvilito per le risate della gente che era a corsa numerosissima sfidò Bosco al salto raddoppiando la posta l'atleta scelse il punto contro il muricciolo che arginava un canale d'acqua e saltò per primo ponendo il piede vicinissimo al muro di modo che più in là non si poteva andare dovette anzi attaccarsi ad un alberello della ripa per non ricadere nel canale tutti erano perplessi e non sapevano che cosa avrebbe fatto Bosco giacché più oltre era impossibile spingersi egli fece il medesimo salto in modo però che gettate le mani sul muricciolo slanciò il corpo al di là e vi rimase in piedi a questa inaspettata ed impensata acrobazia di acclausi furono generali e il povero atleta vedendosi sfumare tutto il suo patrimonio presa a gridare piuttosto qualunque emiliazione ma non quella di vedermi vinto da un ragazzo mi restano solo cento franchi e li scommetto e guadagnerà chi di noi due porterà i piedi più vicini alla cima di quell'albero era un grosso olmo che fiancheggiava il viale bosco incoraggiato dai compagni accettò l'atleta abbracciatosi al tronco salì per primo e spinto dall'affanno e dal livore in un attimo fu alla cima e tant'alto che il ramo minacciava di piegarsi e rompersi tutti gli spettatori gli giudicano certa la vittoria già che era impossibile salire più in alto bosco tenta la prova ugualmente sale e sale arrivando fin dove era arrivato l'avversario poi tenendosi con le mani all'albero si capovolge ossia spinge in alto il corpo e porta i piedi ad un bel metro oltre l'altezza raggiunta dal suo contendente chi può ridire le acclamazioni i battimani gli evviva il vincitore e la rabbia dell'atleta sconfitto bosco però ebbe compassione e gli propose di restituirgli il denaro guadagnato a condizione che pagasse una merenda a lui e ai suoi amici quelli accettò di ben cuore ma da quel giorno il ciarlatano non si fece più vedere a disturbare le funzioni salvato dal fulmine sul finire di quell'anno scolastico e proprio l'ultimo giorno nel quale si doveva partire per le vacanze essendo il tempo piovoso bosco se ne stava alla finestra del dormitorio guardando il cielo minaccioso mentre i compagni si affacendavano a fare i bauli quando ecco all'improvviso cade il fulmine sul parapetto della finestra alla quale era affacciato bosco i mattoni di velte dal fulmine lo colpiscono in pieno petto ed egli cade svenuto in mezzo alla camerata i compagni accorrono lo portano sul letto gli spruzzano acqua in faccia lo piangono morto ma alla frescura di quell'acqua bosco rinviene apre gli occhi e balzando dal letto esclama a che tanta paura la madonna mi ha salvato una birbonata del diavolo poco prima dell'ordinazione sacerdotale di don bosco mamma margherita era salita sopra un gelso a raccogliere la foglia per i bacchi da seta d'un tratto si ruppe il grosso tronco sul quale poggiava ed ella cadde battendo pesantemente al suolo ne bastò il rame o spezzato le piombò sopra cadendole sulla fronte e lasciandole un'impronta che portò finché visse ma ella salzò prontamente e come se nulla fosse caduto corse a sfamare i bacchi che attendevano saputasi poi la cosa don bosco le andava ripetendo vedete madre mia quanto è buona la madonna il demonio ha tentato la vita vostra per privarvi della gioia di baciare la mano al vostro figlio prete ma non ci è riuscito ha però voluto lasciarvi il ricordo di questa sua birbonata il volto di un giovane prete sacerdote per sempre il 5 giugno 1841 nella cappella dell'arcivescovado di turino Giovanni Bosco è ordinato sacerdote dal suo arcivescovo Monsignor Luigi Franzoni è diventato Don Bosco per sempre ecco come egli narra nelle memorie gli esordi del suo sacerdozio la mia prima messa scrive con semplicità l'ho celebrata nella chiesa di San Francesco d'Assisi assistito da Don Giuseppe Caffasso mio insigne benefattore e direttore mi aspettavano ansiosamente al mio paese era la festa della Santissima Trinità dove da molti anni non si era avuta una prima messa ma ho preferito celebrarla a Turino senza rumore all'altare dell'angelo custode quello posso chiamarlo il più bel giorno della mia vita nel momento in cui si ricordano i defunti ho ricordato i miei cari i miei benefattori specialmente Don Calosso che ho sempre considerato grande il giovedì seguente festa del Corpus Domini allora festa di precetto Don Bosco dice la messa al suo paese le campane hanno suonato e squillato a lungo tutta la gente è ammucchiata nella grande chiesa mi volevano bene ricorderà Don Bosco e ognuno era contento insieme con me quella sera mamma Margherita trova un momento per parlargli da solo e gli dice ora sei prete sei più vicino a Gesù io non ho letto i tuoi libri ma ricordati che cominciare a dir messa vuol dire cominciare a soffrire non te ne accorgerai subito ma poco a poco vedrai che tua madre ti ha detto la verità d'ora innanzi pensa soltanto alla salvezza delle anime e non prenderti nessuna preoccupazione per me come San Filippo Neri pochi mesi dopo essere stato ordinato Don Bosco partì a piedi per Torino onde seguire il corso di preparazione al Ministero delle Confessioni quali fossero i suoi pensieri e le sue splendide fantasie quando dal colle di Superga vide apparire la città di Torino le espresse lui stesso nel tessere il panegirico di San Filippo Neri nella città di Alba quel giorno entrò in argomento in modo poetico immaginò di trovarsi sopra uno dei colli di Roma di avere la città distesa innanzi a sé e di vedere un giovane il quale stanco dal lungo cammino si era arrestato assorto in gravi pensieri con lo sguardo fisso allo splendido panorama quindi proseguì avviciniamoci ed interroghiamolo giovanotto chi siete voi che cosa ammirate con tanta ansietà io sono un povero forestiero rimiro questa grande città e un pensiero mi occupa la mente ma temo che sia follia o temerità quale pensiero? consacrarmi al bene di tante povere anime di tanti poveri fanciulli che per mancanza di istruzione religiosa camminano per la strada della perdizione avete scienza? ho fatto poche scuole e non sono annoverato tra i dotti avete mezzi materiali? niente non ho un tozzo di pane oltre quel che ogni giorno mi dà il mio padrone avete chiese? avete case? non ho altro che un misero alloggio con più miseri su pellettili dunque come volete senza nome senza scienza senza sostanze senza casa intraprendere un'impresa così gigantesca è vero ed è appunto la mancanza di mezzi che mi tiene sospeso amate la madonna? oh questo sì tanto a questo punto Don Bosco sospese il dialogo descrisse le sembianze di quel giovane il lampo degli occhi il suo sorriso e proseguì ad interrogarlo come vi chiamate? qui Don Bosco voleva rispondere Filippo Neri ma dagli uditori si suscitò un bisbiglio anzi un grido Giovanni Bosco soffocato il grido ed acquetatosi il bisbiglio continuò la predica veramente bella e smagliante ma poi all'uscire di chiesa fu un applauso generale e tutti gridavano con gran festa Giovanni Bosco Giovanni Bosco Astuzze sante fin da principio della permanenza di Don Bosco a Torino si diffuse la fama della sua virtù e non poche famiglie andavano a gara per stringere relazioni con lui ora accadde che un giorno un'intera famiglia era venuta a fargli visita avidissima di ascoltare la sua parola Don Bosco al vedere la poca modeste nel vestire della signora e delle figliole e pur volendo toccarle al vivo rivolse tosto il suo discorso alla più piccina dicendole vorrei che tu mi dessi una spiegazione si si mi dica pure reverendo rispose la bambina fuori di sé per la contentezza dimmi perché disprezzi così le tue braccine io? io non le disprezzo eppure sembra che sia così oh tutt'altro prese a dire la madre se sapesse debbo sgridarla per la sua vanità oltre a lavarle le profuma con acque odorose appunto per questo continuava il santo sempre rivolto alla ragazza io ti dico che tu disprezzi le tue braccia e perché? perché quando morrai le tue braccia saranno gettate a bruciare nell'inferno ma io non faccio nulla di male io all'inferno non ci voglio andare eppure sarà così o perlomeno al purgatorio e chissà per quanto tempo dunque questo avviso fa anche per me esclamò una delle più grandi arrossendo sì e le fiamme saliranno dalle braccia al collo e lo bruceranno ho capito concluse la mamma ho capito tocca a me mettere rimedio e lo farò da quel giorno molte altre volte quella famiglia fu a far visita a Don Bosco ma sempre con vestiti compitissimi pillole di pane nel 1844 a Montarla Dasti cadeva ammalato di febbre ostinate un certo signor turco e nessuna prescrizione medica valeva a guarirlo la famiglia ricorse a Don Bosco il quale consigliata al malato la confessione e la comunione gli consegnò una scatola di pillole da prendere ogni giorno in un dato numero recitando tre salve regina alla Madonna prese le prime pillole il malato che effettivamente si era confessato e comunicato guarì completamente tutti ne furono meravigliati il farmacista del paese volle fare l'analisi di quelle pillole miracolose e non trovò altro che pane ripetè l'analisi più accurata presso un altro farmacista e insieme conclusero è pane nient'altro che pane non c'è dubbio allora signor Turco si recò a Torino a trovare Don Bosco per ringraziarlo e gli narrò l'analisi delle pillole e il grandire che se ne faceva in paese Don Bosco ridendo rispose sì quello quello era pane e le tre salve regina che voi avete recitato in stato di grazia furono il companatico prodigioso o la borsa o la vita un prete è sempre un prete soleva dire Don Bosco e tale deve dimostrarsi in ogni circostanza e in ogni sua parola un sacerdote deve sempre avere di mira la salvezza delle anime e non deve mai permettere che chi si avvicina a lui ne parta senza aver udito una buona parola alle parole corrispondevano i fatti in quei tempi ossia nei tempi delle pillole di pane di qui sopra egli si portava spesso ai becchi a trovare i suoi fratelli una sera andandosene solo per una strada di campagna si imbatte in uno sconosciuto il quale gli intimò o la borsa o la vita Don Bosco si fermò di botto lo fissò un istante negli occhi e poi gli disse abbi pazienza che pazienza o i denari o vi uccido denari per te non ne ho in quanto alla vita me la data Dio e degli solo me la può riprendere quantunque quell'individuo avesse il cappello sugli occhi Don Bosco riconobbe lui Antonio Cortese un giovane che aveva incontrato nelle carceri di Torino delle quali era uscito da pochi giorni per sua raccomandazione lo chiamò quindi per nome e continuò sottovoce come tu Antonio fai questo brutto mestiere così mantieni le promesse che mi hai fatte là a Torino il disgraziato che aveva riconosciuto Don Bosco prese a balbettare oh Don Bosco mi perdoni non l'avevo riconosciuto le chiedo perdono non basta mio caro Antonio bisogna mutare vita glielo prometto non basta ancora bisogna cominciare subito e confessarsi ebbene sì mi confesserò quando? anche subito se vuole solo non sono preparato ti preparerò io ma tu prometti al signore di farla finita per sempre con questa vitaccia sì sì lo prometto Don Bosco presolo per una mano si ritirò sul margine della via e lo fece inginocchiare quel poveretto si confessò con tutti i segni di un vero pentimento il santo gli regalò una medaglia e quel poco denaro che aveva in tasca il giorno seguente lo condusse a Torino e gli procurò un impiego che disimpegnò onoratamente divenendo un buon cristiano e virtuoso padre di famiglia predicazione fruttuosa nell'anno 1850 il papa Pio IX aveva indetto un giubileo straordinario per riparare ai danni spirituali cagionati dalle ribellioni e guerre di quei tempi in Milano però nessuno osava intraprendere una qualsiasi predicazione perché dopo le famose cinque giornate sembrava che la prima la città sedesse su un vulcano ancora acceso e la polizia teneva l'occhio specialmente sul clero temendo che dal pulpito facesse allusioni all'insurrezione appena domata in queste condizioni Don Bosco si presentò al parroco di San Simpliciano dicendosi pronto a predicare il giubileo in quella sua parrocchia il parroco tentennava e lo mandò dall'arcivescovo ma anche l'arcivescovo era titubante e solo quando vide che Don Bosco era risoluto ed insisteva si limitò a a dirgli signor Abate io non ho nulla in contrario ma se vi accadranno disgrazie io non centro sapete in che tempi ci troviamo la vostra prudenza non sarà mai troppa grazie eccellenza rispose Don Bosco lo predicherò come si predicava cinquecento anni fa mi dia la sua benedizione incominciò incominciò le sue prediche sulla necessità della conversione sul ritorno dei peccatori a Dio sui novissimi senza mai il più piccolo accenno alle vicende politiche la folla correva con curiosità ed ansietà sempre maggiori e i frutti furono straordinari dalla parrocchia di San Simpliciano passò a Santa Maria Nuova a San Carlo a Santo Storgio e contemporaneamente predicava anche a Monza dai Barnabiti per questa coincidenza di predicazione si ingegnò nel popolo la persuasione che Don Bosco predicasse a Milano e a Monza nello stesso tempo tale notizia volò a Torino ove a suo ritorno tutti lo andavano interrogando ed egli ridendo rispondeva già già a Milano mi hanno tenuto per una masca folletto Gesù in fuga i moti del 1848 avevano acceso in tutti una tal febbre di novità che pareva che i più avessero perduto il senno Don Bosco ne era grandemente preoccupato per il timore non infondato di gravi mali alla chiesa celebrando un giorno nell'istituto del Buon Pastore ora all'elevazione quando una suora mandò all'improvviso un grido altissimo che turbò tutta la comunità finita la messa Don Bosco fece chiamare a sé quella suora e le chiese che cosa avete visto Gesù nell'ostia rispose la suora Gesù vivo in forma di bambino tutto grondante sangue e ciò che vuol dire non lo so ve lo dirò io vuol dire grandissima persecuzione che si prepara contro la chiesa tenetelo a mente e pregate quando Don Bosco ritornò a celebrare la messa a Colà quelle buone suore lo interrogarono ancora sul come e perché di quell'apparizione e gli sorridendo si limitò a rispondere forse Gesù me l'avrebbe meglio spiegato se quella suora con quel grido non l'avesse messo in fuga avete una veste troppo sottile da poche settimane si trovava a Torino e già molti giovani si accalcavano intorno a lui lo attendevano all'uscita lo accompagnavano per via una sera si incontrò con un canonico cottolengo il quale fissatolo in viso gli disse voi mi avete la faccia da galantuomo venite a lavorare con me nella piccola casa della provvidenza il lavoro non vi mancherà Don Bosco tenne quell'invito provvidenziale e dopo pochi giorni si recò a Valdocco ove era l'opera del cottolengo il canonico lo accolse con amorevolezza e gli fece visitare tutti i locali dove giacevano ammalati di ogni genere storpi paralitici ebeti ulcerosi invalidi tutto insomma a rifiuto degli altri ospedali finita la visita Don Bosco si aspettava un nuovo invito di fermarsi a lavorare in quella casa ma il cottolengo fissandolo di nuovo bene in viso soggiunse ben altro è il vostro campo una messa più basta una vita più movimentata vi attende e stringendo fra le sue dita le maniche della veste del giovane sacerdote soggiunse però voi avete una veste di panno troppo sottile e leggero procuratevene d'un'altra di panno molto più forte e più consistente perché i giovani possano attaccarvisi senza strapparla verrà un tempo in cui vi sarà strappata da tanta gente Don Bosco intravide in quelle parole una vera profezia una vera conferma dei suoi sogni che ben presto preserò ad avverarsi i giovani la grande passione confessore dei piccoli delinquenti a Torino insieme con Don Cafasso che è chiamato il prete della forca Don Bosco comincia il suo ministero in qualità di confessore alle carceri nuove la vedere un gran numero di giovinetti dai 12 ai 18 anni tutti sani robusti di ingegno sveglio vederli inoperosi rosichati dagli insetti stentar di pane spirituale e materiale fu cosa che mi fece non ridire parlò con loro venne a conoscere le loro povere storie l'avvilimento la rabbia li rendevano spesso feroci il delitto più comune era quello di furto avevano rubato per fame per desiderio di qualche altra cosa oltre il pane o anche per invidia della gente ricca che li sfruttava e li lasciava nella miseria erano nutriti di pane nero e acqua dormivano in cameroni collettivi e i più spavaldi la facevano da caporioni cercò di capire erano abbandonati a sé stessi non avevano famiglia e i parenti li respingevano perché essi li avevano disonorati dicevo a me stesso questi ragazzi dovrebbero trovare fuori di qui un amico che si prenda cura di loro che li assista li istruisca li conduca in chiesa nei giorni festivi cerca di farli riflettere promettono di farsi più buoni ma quando ritorna da loro tutto è tornato come prima Don Bosco piange oi perché piange quel prete perché ci vuol bene anche mia madre piangerebbe se mi vedesse qua dentro l'esperienza delle carceri è traumatizzante per Don Bosco ormai l'oratorio è il suo chiodo fisso vuol realizzare un centro una famiglia in cui i ragazzi abbandonati trovino un focolare un amico i giovani ex carcerati abbiano un punto di riferimento un sostegno un oratorio che non funzioni solo la domenica per il catechismo ma si prolunghi lungo tutta la settimana mediante amicizia assistenza interessamento a procurare un'occupazione incontri sul lavoro Don Bosco ha ormai compreso la sua vera missione i suoi sogni appaiono chiari si dedicherà tutto ai ragazzi a educarli a redimerli a salvarli fra alcuni mesi guarito da una grave malattia per le preghiere dei suoi monelli dirà loro la mia vita la devo a voi e vi do la mia parola la spenderò tutta per voi parole gravi parole definitive cui fanno ecco le ultime che Don Bosco pronunciò prima di morire dite ai miei ragazzi che li aspetto tutti in paradiso l'incontro provvidenziale la mattina dell'8 dicembre 1841 Don Bosco si trovava nella sacristia di San Francesco d'Assisi Uve era vice curato e stava vestendosi per celebrare la messa il sacristano vedendo un giovanetto in un canto lo invitò a servire non so rispose il ragazzo tutto mortificato bestione che sei esclamò il sacristano se non sai servire messa perché vieni in sacristia prende la pertica dello spolverino e giù colpi sulle spalle e sulla testa del malcapitato l'altro intanto se la dà a gambe gridando e Don Bosco prendendo le difese apostrofa il sacristano dicendo che fate perché battete quel poveretto non sa servire la messa e viene in sacristia chiamatelo ho bisogno di parlargli è mio amico il sacristano gli corre dietro lo chiama lo persuada di tornare in sacristia e lo presenta a Don Bosco che con amorevolezza gli dice hai già udito la messa no vieni dunque ad ascoltarla dopo ho da parlarti di una cosa che ti farà piacere celebrata la messa prese ad interrogarlo mio buon amico come ti chiami Bartolomeo Garelli di che paese sei di Asti quanti anni hai sedici sai leggere scrivere no non so niente che mestiere fai il garzone di un muratore e tuo padre e tua madre sono morte tutti e due da un pezzo sei già promosso alla comunione non l'ho mai fatta e ti sei già confessato sì ma quando ero piccolo vai al catechismo non oso più perché i miei compagni mi burlano e se ti facessi il catechismo qui a parte verresti ci vorrei ma molto volentieri purché non mi diano delle bastonate sta tranquillo d'ora innanzi sarai il mio amico quando vuoi che incominciamo beh quando le piace anche adesso sì anche adesso con molto piacere si diede così principio a lui si unirono ben presto altri compagni e Bartolomeo Garelli restò la pietra fondamentale degli oratori festivi di Don Bosco e di tutta l'opera salesiana ricordando poi il fatto il Garelli andava ripetendo le busse del Sacrestano mi fecero felice potenza dell'entusiasmo se i poeti narrano di Orfeo che traeva dietro il suo canto le piante e i sassi ben si può dire che Don Bosco traeva dietro di sé col suo fascino irresistibile i ragazzi che al solo vederlo ne restavano elettrizzati e gli correvano incontro un giorno si imbatté presso Porta Palazzo in uno dei suoi giovanetti che tornava dal fare la spesa con due bottiglie in mano una d'olio l'altra di aceto il piccino appena lo vide si mise a saltare per l'allegrezza e gridare viva Don Bosco il santo sorridendo gli rispondeva evviva poi appressatosi al ragazzo gli disse per scherzo sei capace di fare come faccio io e si mise a batter le palme delle mani il fanciullo fuori di sé per l'entusiasmo mette le bottiglie sotto il braccio e fa per battere anche lui le mani le bottiglie cadono a terra e vanno in frantumi al rumore dei vetri rotti e alla vista dei liquidi sparsi restò come sbalordito e si mise a piangere a dirotto dicendo oh quante busse mi darà la mamma mia allegro allegro gli disse Don Bosco è un male al quale si rimedia subito vieni con me lo condusse in una vicina bottega dove narrato l'episodio e la padrona la pregò di provvedere il ragazzo di quanto aveva perduto ecco fatto esclamò la donna piena d'ammirazione per il giovane sacerdote e soggiunse chi è lei sono Don Bosco il padre dei birichini quale son maledebbo beh sarebbero 23 soldi ma tutto è saldato Don Bosco ringraziò della generosità ed uscì col fanciullo un altro di questi ragazzi era detto come garzone in una bottega di stoffa la quale per mezzo ad una grossa porta vetri immetteva su una delle vie principali di Torino un giorno mentre stava accudendo alla pulizia vide passare Don Bosco nel primo slancio del cuore corre per andare a riverire ma non riflettendo di aprire la porta disbatte col capo e la manda in frantumi nel rumore dei cristalli accorre tutto il personale del negozio il padrone alza la voce e grida la gente si ferma e fa crocchio e il povero fanciullo si fa da presso a Don Bosco tutto tremante cosa hai fatto prese a dirgli sorridendo il santo ho veduto lei passare e non ho badato che la porta era chiusa ebbene pagherò io il danno sei contento ma il padrone che aveva capito che si trattava di una svista soggiunse non sia mai che il buon cuore di questo ragazzo e la carità di Don Bosco abbiano a soffrire spero che un'altra volta il nostro Carluccio non pretenderà più di passare attraverso i vetri come uno spirito folletto la cuffia di una impertenente Don Bosco vedendo che i locali uve teneva il catechismo non bastavano più ad accogliere tutti i suoi giovani andò in cerca di un sito più spazioso e lo trovò presso la cappella dell'antico cimitero detto di San Pietro in Vincoli accordatosi col cappellano la domenica 25 maggio 1844 condusse il suo piccolo mondo a San Pietro il luogo ampio e libero eccitò nei giovani il più vivo entusiasmo e li rese frenetici di gioia ma ahimè avevano appena incominciato a gustarla che si mutava tosto in grande amarezza per opera di una donna era la domestica del cappellano la quale all'udire i canti le voci gli schiamazzi dei 400 giovanetti uscì di casa su tutte le furie e con le mani sui fianchi e la cuffia per traverso si diede ad apostrofarli come sa fare la lingua di una donna inviperita insieme con lei inveiva anche una ragazza abbaiava un cane miagolava un gatto chiocciavano le galline si sarebbe detta eminente una guerra europea Don Bosco tentò dapprima di sedare con la tempesta ma si sentì scaricare addosso un nugolo di insulti da quella poveretta che urlando come uno sesso e stringendo i pugni finiva gridando via via e lei Don Bosco si guardi bene dal tornare domenica ventura in questo luogo perché altrimenti saranno guai il santo per troncare quella scena disgustosa rispose semplicemente e pacatamente mia buona signora neppur lei è sicura di essere qui domenica ventura radunati quindi i suoi giovani se ne andò dicendo loro poveretta ci intima di non portare più i piedi qui e domenica ella sarà già al cimitero e così avvenne realmente come crescono i cavoli Don Bosco obbligato a sloggiare da San Pietro in vincoli ottenne dal municipio di riunire i suoi ragazzi nella chiesa dei Molazzi ossia dei mulini della città anche qui però al primo giungere di quella schiera di ragazzi allegri e schiemazzanti tutta la popolazione dei dintorni insieme coi padroni e coi mugnai preso da protestare il più feroce di tutti fu il segretario dei mulini il quale raccogliendo qua e là false voci contro quei povri ragazzi e contro chi li radunava scrisse al municipio una lunga lettera di accuse in seguito alla quale il consiglio municipale decretò lo sfratto a Don Bosco anche di là quando il santo annunziò la cosa ai suoi giovani li incoraggiò dicendo dobbiamo fare un'altra volta San Martino ma niente paura i cavoli trapiantati diventano più belli e noi diventeremo dei gran cavoloni ma soggiungeva in tono profetico la provvidenza prenderà la difesa della vostra innocenza una colazione al monte sloggiato anche dai molini Don Bosco si vide costretto ad affittare un prato per i suoi giovani là faceva il catechismo e le prediche in quanto la messa li conduceva or di qua or di là nelle chiese della periferia una domenica si portarono al monte dei cappuccini dove tutti fecero la santa comunione dopodiché usciti sul largo piazzale Don Bosco distribuì loro la colazione e mentre tutti allegramente mangiavano ne vide uno che in disparte stava ammestamente osservando gli si avvicinò e gli chiese come ti chiami? Paolino hai preso la colazione? no signore perché? perché non mi sono né confessato né comunicato non occorre né confessarsi né comunicarsi per aver la colazione e che cosa ci vuole? nient'altro che l'appetito oh quello ce l'ho e come? vieni dunque con me lo condusse al cesto gli diede in abbondanza pane e frutta e soggiunse sorridendo d'ora in poi non avrai più paura di Don Bosco ma gli sarai amico? oh sì sì tanto fu di parola si unì ai giovani dell'oratorio e lo frequentò assiduamente scorta d'onore ma anche in quel prato non mancarono a Don Bosco le molestie un giorno vi si recò in persona niente meno che il marchese Michele Cavour sindaco di Torino il quale vedendo Don Bosco seduto per terra fra un circolo di giovani domandò ma chi è quel prete? è Don Bosco Don Bosco? esclamò stupito il marchese o egli un pazzo oppure un illuso e fatto lo chiamare a sé gli disse mio buon prete prendete il mio consiglio lasciate perdere quei mascalzoni essi non daranno che dispiacere a voi e fastidie alle autorità io vedo che queste adunanze sono pericolose e perciò non posso più tollerarle alle calme ed umili osservazioni del santo il marchese finì col soggiungere ma che importa a voi di questi monelli lasciatele nelle loro case non prendetevi delle responsabilità mi importa la loro istruzione religiosa la loro salvezza rispose Don Bosco intanto io vi farò sorvegliare e da quel giorno la questura ogni domenica continuò per un bel pezzo a mandare carabiniere e guardie a passeggiarne dintorni di quel prato e dovunque egli conducesse i suoi giovani Don Bosco sorrideva nel vedersi accompagnato come un sovrano da quella scorta d'onore e usava chiamare quei tempi i più romantici del suo oratorio cantori in barca Don Bosco si serviva del canto e della musica come di mezzo potente per attirare e trattenere i suoi giovani e questi canti accrescevano potentemente l'entusiasmo nei fanciulli e l'ammirazione nelle popolazioni un giorno condusse i suoi birichini ad una passeggiata in barca sul Po fino alla Madonna del Pilone quando le tre barche furono in mezzo al fiume intonarono una lode a quel canto la gente che si trovava sulle sponde si mise a seguire il corso delle barche una compagnia di trombettieri che a caso si trovavano là di passaggio diedero fiato alle trombe e presero ad accompagnare quel motivo facilissimo con mirabile effetto man mano che le barche e il canto avanzavano la gente si accresceva e quando si giunse la Madonna del Pilone tutti gli abitanti uscirono fuori dalle case per portarsi a far festa ai giovani cantori e a regalar loro frutta e dolci l'allarme dei parroci tra le molteplici opposizioni che trovò Don Bosco nei primi tempi della sua opera vi fu anche quella dei parroci della città parecchi di questi parroci vedendo a correre all'oratorio tanti giovani presero ad allarmarsi e forti del loro diritto di istruire e promuovere ai sacramenti i propri parrocchiani pregarono l'arcivescovo che comandasse a Don Bosco di desistere dalla sua impresa e lo destinasse viceparroco in qualche paesino di montagna allora l'arcivescovo dietro invito di Don Bosco mandò alcuni di questi parroci all'oratorio perché vedessero quanti erano i giovani appartenenti alle loro parrocchie radunata quella moltitudine e requietà presero ad interrogarli a quale parrocchia appartenessero io sono di San Biagio e dov'è questa parrocchia? a Biella io sono di Santa Filomena ma dov'è? sul lago di Como io sono di Santa Zita presso Genova io di Santa Eufemia sul Ticino io sono di San Eusebio di Vercelli io di San Zeno di Milano ed io sono di San Martino nel Cadore basta basta non mi stordite ma qui a Torino dove abitate? a quale parrocchia appartenete? silenzio generale alcuni sapevano il nome della via e non quello della parrocchia altri in pochi mesi avevano cambiato domicilio più volte altri dormivano all'avventura cercando un rifugio notte per notte chi non stava più con i parenti chi li aveva perduti chi non li aveva mai conosciuti perduta la pazienza quel primo parroco passò le armi ad un altro collega il quale incominciò oh bravi sentite a te di dove sei? io sono di Valsesia provincia di Novara e tu? io di Valtellina provincia di Sondrio io di Vallumellina Pavia io di Valpolicella Verona io di Valnegra beh basta ho capito tutti forestieri a quanto pare indivolgendosi dall'altra parte e voi? e voi di dove siete? noi siamo di Valvasone presso Udine e noi di Valtrompia di quel di Brescia noi di Valsugana nel Trentino ah ancora ancora un poco e andremo a finire nella valle di Giosafat nessuno dunque delle parrocchie di Torino? nessuno anche costui perduta la pazienza voleva rimettere le armi di un terzo ma tutti si persuasero che non avevano nulla a fare e se ne andarono uno però ve ne fu che volle ostinarsi ad accampare delle pretese e Don Bosco gli mandò tutti i ragazzi che dovevano essere ammessi alla prima comunione al vedersi arrivare quella turba schiamazzante questo parroco allibì e domandò seccamente che cosa volete da me? l'esame di catechismo per la prima comunione tornate un'altra volta ora sono occupatissimo i giovani tornarono all'oratorio vociando l'esame non ce l'ha voluto dare ma glielo avete detto che vi mandavo io questo no bene disse Don Bosco ritornate e pregatolo in nome mio che abbia la bontà di esaminarvi i ragazzi obbedirono e invece del parroco trovarono due vicecurati i quali vedendo che la maggior parte erano adulti presero a canzonarli ma bravi alla vostra età ancora da fare la prima comunione questa è una vergogna si vede che non avete fretta e potete ancora aspettare per ora non abbiamo tempo da perdere con voi ritornerete domani o fra otto giorni quei poveri giovani rifecero una seconda volta la strada confusi e umiliati protestando che non sarebbero ritornati mai più Don Bosco allora riferì all'arcivescovo e ne ebbe i più ampi permessi e larghe concessioni piange e ride con i suoi figlioli nel mese di luglio del 1846 Don Bosco fu assalito da una potentissima bronchite che lo ridusse in fin di vita tutti pregavano per lui una notte pareva che dovesse essere l'ultima di sua vita il teologo Borel che lo assisteva si sentì ispirato a suggerirgli che facesse anche lui una preghiera per la sua guarigione Don Bosco taceva e il teologo replicò Don Bosco lei sa che lo Spirito Santo ci consiglia di pregare nelle nostre infermità dunque preghi a questo fine lasciamo che faccia il Dio la sua volontà ebbene dica almeno con me signore se così vi piace fatemi guarire e Don Bosco taceva ancora mi faccia il piacere caro Don Bosco glielo domando a nome dei suoi figli piangenti dica con me e lo dica di cuore signore il malato per consolarlo prese a ripetere signore se a voi piace se a voi piace fatemi guarire fatemi guarire appena fatta quella preghiera il buon teologo salzò ed asciugandosi le lacrime esclamò basta così lei guarirà certamente ne sono sicuro ne si sbagliò Don Bosco prese sonno e quando si svegliò era ritornato a vita novella i medici recatisi a fargli visita col timore di trovarlo morto toccandogli il polso gli dissero caro Don Bosco si alzi e vada a ringraziare la sua madonna che ne ha ben ragione la notizia di quella improvvisa guarigione inondò di consolazione il cuore di tutti la domenica lo adagiarono su un seggiolone e lo portarono in giro come in trionfo la marchesa di Barolo godeva ad una gran fama in Torino e in tutto il Piemonte la marchesa di Barolo signora ricchissima e di grande pietà tutta dedita ad opere di beneficenza costei piena di venerazione per Don Bosco vedendolo ridotto in fin di vita ritenne necessario un suo energico intervento perché abbandonasse l'oratorio un bel giorno chiamatolo a sé prese a dirgli Don Bosco intendo farle una proposta per lei assai vantaggiosa lasci i suoi ragazzi e passi alla direzione dei miei istituti Don Bosco senza esitare rispose che dice signora lasciare i miei fanciulli oh no io non posso non debbo abbandonarli vostra signoria ha denari e mezzi molti troverà facilmente chi la possa e la voglia a coagiovare chi invece si prenderà cura dei miei giovani dunque lei preferisce i suoi piccoli vagabondi ai miei istituti e che cosa potrà fare così povero senza un soldo senza aiuti signora marchesa continuò Don Bosco io sono povero non ho un soldo ma non ho bisogno di lei ecco il superbo si trova nella miseria e non ha bisogno di me esclama la marchesa no signora non ho bisogno di lei ma qualora la provvidenza volesse servirsi di lei per aiutarmi ne approfitterei ben volentieri e gliene sarei riconoscente no no a Don Bosco niente non mi venga più innanzi perché gli chiuderei la porta in faccia Don Bosco se ne partì inchinandola profondamente la marchesa che dopo tutto era donna di insigne e pietà e fine criterio ritornò poco dopo a più miti consigli e tratto tratto mandava a Don Bosco le sue generose offerte incredibile affetto tutti i giovani che anche per una volta sola si incontravano con Don Bosco e lo sentivano parlare erano presi per lui da un incredibile affetto nel 1846 per consiglio dai medici si era recato a Sassi borgata nei pressi di Torino per un poco di riposo in quel tempo gli allevi delle scuole cristiane avevano atteso ad un corso di esercizi spirituali durante il quale quasi nessuno si era confessato in attesa della venuta di Don Bosco giunto il mattino della chiusura quei buoni ragazzi vedendo che Don Bosco non arrivava corsero a cercarlo a Valdocco e di là a Sassi ove arrivarono a gruppi di 50 o 60 in numero di oltre 300 molli di sudore coperti di zacchere perché il tempo era piovoso e così stanchi e sfiniti da fare pietà Don Bosco al vedere quella turba e a sentirne il motivo ne fu teneramente commosso siccome poi quei poveri giovani erano digiuni e sprovvesti di tutto il buon parroco mise fuori pane polenta riso patate caccio frutta a lui si unirono i borghigiani e la cosa finì in una festa campagnola delle più amene fiori e fiori la sua bontà e squisitezza d'animo lo rendeva caro a tutti di modo che era da tutti grandemente amato una splendida prova di questo grande amore la ebbe quando dopo una lunga e terribile malattia che lo portò sull'orlo della tomba pote ritornare in mezzo ai suoi giovani fu una giornata di festa straordinaria in quella mattina furono comperati quanti più fiori si potè e si sparsero per tutta la via dal rifugio all'oratorio le rivendugliole di porta palazzo meravigliate di tanti giovani che venivano a comperare fiori domandarono per chi sono tanti fiori che festa fate che santo è oggi che santo è santo sono per Don Bosco egli è guarito da una grave malattia oggi ritorna fra noi e correvano affannosi a sfogliarli lungo il percorso e adornarne le siepi e il recinto dell'oratorio quando poi Don Bosco comparve appoggiato ad un bastoncino fu un'eviva formidabile anzi i più grandicelli gli si fecero attorno e tolta da una casa una sedia lo obbligarono ad adagiarsi e lo portarono fino all'oratorio mentre gli altri li marciavano avanti accanto appresso sempre ripetendo evviva evviva è creduto pazzo né solo le autorità civili molestavano il povero Don Bosco e tentavano di impedirne lo sviluppo della sua opera ma anche i suoi colleghi sacerdoti anzi costoro si erano messi in testa che Don Bosco stesse dando i numeri e che tutto questo affacendarsi appresso ai ragazzi fosse una vera mania alcuni e non so andarono e con tutta carità presero a dirgli caro Don Bosco tu capiscilo comprometti il carattere sacerdotale con le tue stravaganze con l'abbassarti a prendere parte ai giochi di quei monelli con l'accompagnarti con loro per le vie per le piazze per il decoro Desti ammirazione, ti fai ridere appresso. E siccome Don Bosco, sicuro dell'opera sua, dava segno di non essere persuaso della logica di quegli avvisi, essi andavano continuando. Ma tu hai perso la testa, non ragioni più. Povero e caro Don Bosco, non bisogna ostinarsi, tu non puoi far l'impossibile. Non vedi che anche la provvidenza è contraria alla tua opera e che non trovi nessuno che ti voglia affittare un locale? Oh, la provvidenza! esclamò a questo punto Don Bosco, alzando le mani al cielo. La provvidenza mi aiuterà? Lei mi ha inviati questi ragazzi e io non respingerò neppure uno di loro. Ritenetelo bene, voi siete in errore. La provvidenza farà tutto ciò che è necessario. E poiché non mi si vuole affittare un locale, ne fabbricherò uno io, con l'aiuto di Maria Santissima. Vi saranno vasti edifizi, con scuole, laboratori, officine di ogni specie, spaziosi cortili e porticati. Una magnifica chiesa. E poi anche chierici, catechisti, assistenti, professori, capi d'arte e numerosi sacerdoti. Vedrete, vedrete. All'udire tali parole, quei suoi amici si sentirono profondamente commossi. Essi vi vedevano una prova certa della pazzia del loro amato collega e se ne andarono crollando il capo e ripetendo fra loro Poveretto, davvero gli ha dato di volta il cervello? Occorre subito provvedere. Don Bosco attendeva gli eventi, pronto ad ogni più dura lotta. Al manicomio Quei tali, prese gli accordi con la curia vescovile, andarono a parlare col direttore del manicomio. Ottenuto un posto al creduto pazzo, due di loro, i più svelti e coraggiosi, accettarono di eseguire il pietoso disegno. Presero a Nolo una vettura chiusa, si recarono all'abitazione di Don Bosco e, fatti i primi convenevoli, lo invitarono ad una passeggiata dicendogli Un po' d'aria ti farà bene, caro Don Bosco. Vieni, abbiamo qui una carrozza che ci aspetta. Il santo si avvide subito del gioco che gli volevano fare, ma accolse l'invito esclamando Corbezzoli! Una carrozza! Evviva la carrozza! Veramente non ci sono a suo effatto, ma via, andiamo! Giunti alla vettura, lo invitarono ad entrare per primo, ma egli si scusò dicendo «Oh no, sarebbe una mancanza di rispetto per parte mia! Favoriscano loro per primi!» Quelli salirono senza alcun sospetto, persuasi che Don Bosco li avrebbe seguiti, ma egli, appena li vide dentro, chiuse con fragore lo sportello gridando al cocchiere «Presto! Al manicomio!» Il vettorino sferza il cavallo e, più veloce che non si dica, giunge la meta, ove, trovato il portone spalancato e gli infermieri pronti in attesa, entra di corsa. Il custode chiude prontamente il portone, gli infermieri circondano la carrozza, aprono gli sportelli e, invece di un pazzo, ne vedono due. «Quantunque entrambi protestassero energicamente, furono condotti al piano superiore ed, essendo assenti i medici e direttore, perché era l'ora del mezzogiorno, dovettero adattarsi a pranzare coi ricoverati. Solo verso sera, chiarito l'equivoco, poterono essere messi in libertà. La cosa fece in un baleno il giro della città e, da quel giorno, si corressero le idee nei riguardi del santo e l'ammirazione verso di lui s'accrebbe assai. Campane che suonano da sé Ad applaudire al fatto del manicomio e a ridere coi cittadini, si unirono anche le campane della Madonna di Campagna, quasi volessero attestare la grande bontà della provvidenza che proteggeva il nostro santo. La Domenica delle Palme, ultimo giorno in cui era permesso a Don Bosco di fermarsi in quel prato, egli annunziò ai suoi giovani che si sarebbe andato ad ascoltare la messa alla Madonna di Campagna, ufficiata dai cappuccini. La proposta fu accettata con giubilo. Per via si recitò il rosario e si cantarono le litanie e lodi sacre. Quando la lunga schiera di quei quattrocento ragazzi mise piede nel viale che dà il convento, ecco che le campane del santuario presero a suonare a festa. La cosa destò ammirazione. La gente del rione accorse alla chiesa, accorsero anche i frati tutti, chiedendo il perché di quei suoni, chi ne fosse l'autore, chi li avesse ordinati. Ma nessuno aveva dato ordini. Nessuno aveva toccato le campane. E si dovette constatare che veramente le campane avevano suonato da sé. Don Bosco era confuso per la protezione così palese della providenza. Minacce e castigo Ma che! Il demonio che mai lascia tranquilli i santi suscitò ben presto altri nemici, i quali fecero di tutto per disperdere Don Bosco e l'opera sua. Ed ecco che il sindaco, Marchese Michele di Cavour, lo fa chiamare e senza preambogli gli dice È tempo di finirla, mio caro abate, e poiché volete ostinarvi nella vostra opera, io sono costretto a farvi chiudere l'oratorio. Mi perdoni, signor Marchese, rispose Don Bosco, ma se io chiudessi il mio oratorio, avrei timore delle maledizioni di Dio su di me e su di lei. Meno ciance! Io sono obbligato a tutelare la tranquillità pubblica. Manderò quindi a sorvegliare la vostra persona e le vostre adunanze. Al primo atto compromettente farò disperdere i vostri monelli e voi sarete responsabile di quanto sarà per accadere. Quelle furono le ultime parole pronunziate dal Marchese in municipio. Tornato a casa, fu assalito da un ostinato a Podagra, la quale, dopo molte sofferenze, lo condusse alla tomba. Quella morte produsse impressione in tutta Torino e per diversi anni, specialmente nella sfera dei Magnati, non vi fu più alcuno del municipio. del governo che recasse molestia a Don Bosco. Scherzo della provvidenza. Quando Don Bosco ebbe improvvisata la prima cappella sotto la tettoia Pinardi, si accorse che gli mancava il calice per la prima messa. Come fare a provvederlo? Rivoltosi a mamma Margherita e esclamò quasi ispirato, Madre, cercate e frugate per ogni dove. Manca il calice e voi dovete trovare i denari per comprarlo. Si mette tuttavia all'opera, cerca, fruga e alla fin fine trova in fondo ad un vecchio cassettone fuori uso un rotolo contenente otto scudi d'oro quanti appunto erano necessari per la compra del calice. «Oh, bella! Chi ve li avrà messi?» chiedeva di poi la mamma. «Oh, bella!» ribatteva Don Bosco. Gli ha messi colà la provvidenza che ci ha voluto fare uno scherzo. Altro scherzo della provvidenza. Un giorno entrò da Don Bosco un forestiero che lo salutò con la solita formula. «Oh, Don Bosco, come sta?» «Senza un quattrino», rispose Don Bosco. «Cosa singolare!» replicò il forestiero. «E se in questo momento ella avesse bisogno urgente di una somma come farebbe?» «Mi rivolgerei alla provvidenza». «Sì, provvidenza, provvidenza è una bella parola ma se ne abbisognasse in questo momento». «In tal caso, direi a lei, mio buon signore vada in anticamera e troverà una persona che in questo momento reca appunto un'offerta a Don Bosco». «Come?» dice davvero. «Ma non c'era nessuno quando io entrai. Chi gliel'ha detto?» «Nessuno me l'ha detto ma io lo so e lo sa la provvidenza». Quel signore, fuori di sé per la meraviglia, va nell'anticamera dove trova davvero un altro signore a cui chiede «Viene da Don Bosco?» «Sì, vengo a portare un'offerta». Il santo si presenta sulla porta ed esclama «Vede se io avevo ragione di confidare nella provvidenza?» Carnevale che non guasta. Un giorno mamma Margherita gli corre incontro tutta ansante gridando «Oh Giovanni, Giovanni, se sapessi!» «Che cosa? Hai guadagnato un terno all'otto?» «Altro che guadagno! Perdita, mio caro, perdita!» «Ti hanno rubato la veste nuova, la sola buona che hai!» «Era stata stesa al sole e te l'hanno rubata!» «Se l'hanno rubata a pazienza, che vuoi farci? Bisogna cercare il ladro, deve essere vicino!» «Vuoi che faccia il poliziotto?» «Ecco, sempre lo stesso, non ti importa niente ed ora come farai ad uscire?» «Oh bella, prenderò uno di quei cappotti regalati dal municipio ed uscirò vestito da militare!» «Bella figura, sarà un carnevale!» «Un po' di carnevale non guasterà niente!» Poi cambiando tono soggiunse «Guardate madre, il ladro ne aveva forse più bisogno di me, forse è già pentito e se venisse a confessarsi io mi contenterei del fermo proposito di non farlo più e gli regalerei la veste o l'equivalente, gli darei l'assunzione in lungo e in largo. Pregate intanto la Madonna che me ne mandi un'altra!» «La coda del diavolo» «Il grappino al quale evidentemente non garbava che tutti quei ragazzi corressero presso a Don Bosco, cercò in tutti i modi di rovinargli l'opera. Nei primi tempi un uragano travolse ben due volte i ponti della nuova costruzione. Una terza volta un fulmine cadde così vicino da mettere in serio pericolo la vita di Don Bosco e dei suoi ragazzi. Appena la prima costruzione fu ultimata accaddero cose strane e singolari. Appena andava a letto ecco che con rumori strani cercava di disturbarlo. Erano terribili colpi di pietra, rumori assordanti di ogni genere su tutto il soffitto della stanza e quasi non bastasse una volta gli sollevò il letto e lo sbatté ripetutamente a terra con veemenza inaudita. Don Bosco non potendo più dormire da molto tempo era dimagrito e minacciava un'altra malattia per cui si decise di farla finita. si armò di un quadretto della Madonna salì con quello sul solaio e fece un giro tutto attorno tenendo sollevato il quadro e gridando diavolo diavolo via di qua diavolo diavolo via di qua poi appese il quadretto al muro e pregò la Madonna di liberarlo da quei disturbi e scherzi diabolici. Da quel momento tutto finì come per incanto né si udirono più rumori né voci. il quadretto stette colà appeso per ben sei anni fino a che quella casa venne demolita per farne un'altra. Eppure caleranno La casa era divenuta stretta e da tempo Don Bosco stava meditando di comprare la casa vicina di Francesco Pinardi per poter ampliare l'oratorio ma questi pretendeva una somma assai rilevante. Caso volle che la sera del 19 febbraio 1851 nell'osteria di fronte a detta casa succedesse una rissa violentissima con feriti e contusi. Il Pinardi stanco di assistere a tali scene si portò tosto da Don Bosco e gli disse Don Bosco è una cosa che non va più è una continua disperazione risse e sempre risse se dunque vuol comprare la mia casa eccomi disposto a cedergliela. E per quanto? Per quello che le ho detto 80.000 non posso fare offerte perché? Perché il prezzo è esagerato mi rimetto a lei me la date per il suo valore? Parola d'onore sentite signore io l'ho fatta stimare e mi si assicurò che nello stato attuale vale dalle 26 alle 28.000 io ve ne offro 30.000 va bene? Sia pure ma pagherai in contanti? pagherò in contanti quando faremo il contratto? quando vi piacerà? un'altra settimana? come volete si strinsero la mano e si lasciarono ma dove prendere i denari per pagarla? ecco il pensiero assillante di Don Bosco in quei giorni ricordò in buon punto che il venerabile Antonio Rosmini gli aveva promesso 20.000 lire ma 20 non erano 30 e le altre 10? a quelle pensò ancora la stessa provvidenza ecco di improvviso capitare all'oratorio il suo amico e consigliere Don Caffasso il quale facendosi l'incontro con festante sorriso quasi che i santi si leggessero in cuore e gli disse sono venuto a portarti una generosa offerta sono 10.000 lire che la contessa Casazza ti manda per le tue opere Teo grazias esclamò Don Bosco sono proprio il cacio sui maccheroni gli raccontò il contratto della casa Pinardi poi si recò di filato da questi a dirgli quando volete che facciamo l'istrumento i denari sono pronti e tutti in oro la parola suzzicò il signor Pinardi che accettò di andare subito dal notaio Giuseppe Cotta al momento di firmare Don Bosco tirò fuori il suo sacchettino e spiattellò l'una dopo l'altra le 30.000 lire d'oro ma le spese per il contratto e il regalo promesso alla signora del Pinardi restavano 3.500 lire da sborsare Don Bosco che non vi aveva pensato restò un istante perplesso ma il suo buon umorismo cambiò subito la momentanea confusione e inamenità prese a scuotere il sacchetto che ancora teneva in mano dicendo spero che caleranno devono calare notaio e testimone scoppiarono in una risata ed il signor Cotta grande benefattore di Don Bosco esclamò vuol dire che le 3.500 lire le aggiungerò io va bene così? vedete un po' se sono calate continuò Don Bosco oh lo sapevo che la provvidenza non mi avrebbe lasciato negli imbrogli l'ospizio fallito una sera dell'aprile 1847 rincasando a tarda ora dalla visita a un malato mentre appunto pensava a tanti poveri giovani che privi di tetto vagavano tutta la notte in cattive compagnie venne ad imbattersi in un crocchio di ragazzetti i quali al vedere un prete cominciarono a lanciare frizzi poco gentili Don Bosco avrebbe voluto evitarli ma accortosi che non era più in tempo pensò di fare buon viso a cattiva sorte e avvicinatosi li salutò dicendo buonasera miei cari amici come state? poco bene signor teologo abbiamo sete e non abbiamo quattrini rispose uno non ci offrirebbe una pinta doppio giro? soggiunse un altro sì sì una pinta presero a gridare gli altri in coro ci paghi una pinta e lo accerchiarono in modo da impedirgli il passo ben volentieri ma voglio bere anch'io in vostra compagnia sicuro? oh che buon prete se tutti i preti fossero così andiamo dunque alla trattoria delle alpi qui presso don bosco fa portare una poi un'altra bottiglia e quando li vede mansueti e benevoli dice ora mi dovete fare un piacere dica dica non uno ma due ma tre d'ora in avanti vogliamo essere suoi amici ebbene ora tornate alle vostre case domenica poi vi attendo tutti all'oratorio ma noi non abbiamo casa dormiamo qua e là nelle stalle sul fieno allora facciamo così venite con me e per questa sera ci aggiusteremo alla meglio seguito da quel gruppo che si sarebbe detto di malandrini arrivò a casa e li consegnò a mamma margherita dicendo madre ecco i primi ospiti pensate a ricoverarli fatto recitar loro il paternoster e l'ave maria che avevano dimenticato per una scala a pioli li condusse sul fienile diede a ciascuno una coperta ed un lenzuolo e raccomandando loro il silenzio e il buon ordine scese soddisfatto e contento credendo di aver dato così principio all'ideato ospizio così però non la pensava il signore né di tal gente voleva servirsi la provvidenza fattosi appena giorno Don Bosco esce di camera per destare i suoi amici e dir loro una buona parola con meraviglia non ode rumore li crede addormentati li chiama poi sale per svegliarli ma che i mariuoli se l'erano svegnata portandosi via coperte e lenzuola il suo tentativo era andato fallito fulmine provvidenziale altri giovani vennero a bussare alla porta di Don Bosco in cerca di pane e di alloggio e Don Bosco e la mamma si ingegnarono in tutti i modi per ricoverarli ma ben presso ogni posto fu occupato perfino la cucina si tramutava di notte in dormitorio come fare addocchiò una casa lì presso e la domandò in affitto la padrona signora Valienti gli chiese un prezzo esorbitante e dopo lungo disputare si stava per rompere le trattative quando un caso affatto singolare tosse di mezzo ogni difficoltà il cielo che si era improvvisamente rannuvolato divenne scuro scuro ed ecco che si vede all'improvviso un guizzo di lampo vivissimo e poi si sente un colpo di fulmine così gagliardo da far tremare la casa dalle fondamenta al tetto la signora sbalordita si volge tremante a Don Bosco ed esclama se Dio mi salva dal fulmine le concederò la casa per la somma che lei mi offre aveva appena finito di parlare che il cielo si rischiara e appare un bel sole Don Bosco non pone tempo in mezzo acquista la casa e subito è uno spettacolo vedere alla sera le stanze illuminate piene di ragazzi e di giovani in piedi dinnanzi ai cartelloni con un libro in mano nei banchi intenti a scrivere seduti per terra a scarabocchiare sui quaderni le lettere grandi alcuni confratelli sacerdoti sono venuti ad aiutarlo la faccenda della sua fissazione si è spenta da tempo quando Don Bosco ha un'idea fissa dicono i ragazzi è capace di sputare sangue per realizzarla anche la marchesa di Barolo ha cambiato idea e gli manda generose offerte per i suoi monellacci vino nel santo nome di Dio l'appetito viene mangiando dice il proverbio ebbene questo è appunto il caso di Don Bosco comperata la casa sente tosto il bisogno di dare principio ad una chiesa ovvero ad unare comodamente in preghiera tutti i suoi ragazzi e dice a mamma Margherita madre ora voglio innalzare una bella chiesa in onore di San Francesco di Sales nostro protettore ma dove prenderai i soldi lo sai che non ne abbiamo più tutto ci divorano questi poveri figlioli pensaci bene prima intenditi col signore è appunto quello che faccio il signore è tanto buono del denaro egli ne ha per tutto il mondo niente paura chiamato pertanto l'architetto Blanchier lo pregò di fargli il disegno chiamato poi l'impresario Federico Bocca gli affidò i lavori e tosto una trentina di muratori e manovali si accinsero all'opera tra questi muratori venerano alcuni che tratto tratto si lasciavano sfuggire qualche bestemmia che feriva all'orecchio di Don Bosco e di sua madre i quali li pregavano di non bestemmiare ma essi si scusavano dicendo che volete è l'abitudine ci sfuggono contro la nostra volontà è impossibile vincersi ci sfuggono contro la nostra volontà ebbene faremo così disse loro Don Bosco se non bestemmierete ogni sabato vi regalerò un bicchiere o due di vino questo linguaggio fu più potente e persuasivo d'ogni predica e per l'amore del vino promisero e mantennero la parola per più di un anno mamma Margherita ogni sabato recava loro un barilotto di vino e quando chiedevano mamma Margherita che vino è questo essa rispondeva è vino del santo nome di Dio mangerò un cane quando Don Bosco lanciò l'idea di costruire la chiesa un suo collega Don Cogliotti gli lanciò questa sfida povero Don Bosco se tu riuscirai a costruire una chiesa come tu dici io mangerò un cane di chiese Don Bosco ne costruì non una ma decine in diverse parti d'Italia ma Don Cogliotti di cani non ne mangiò neppure uno il santo incontrandolo altre volte gli diceva ridendo eh Cogliotti e il cane? la chiesa di San Francesco di Sales fu consacrata il 22 giugno 1852 fu la chiesa madre la porziuncola della famiglia salesiana il cuore pulsante di Valdocco fino al 1868 quando fu consacrato il sontuoso santuario dedicato a Maria Ausiliatrice un caffè dal boia dopo la morte di San Giuseppe Caffasso 23 6 1860 era divenuto confessore delle carceri e vi si recava ogni settimana per tale ufficio un giorno dopo aver atteso per più ore alle confessioni uscì nei corridoi talmente spossato che quasi più non ci vedeva ed invece della porta di uscita infilò la porta dell'alloggio del boia e si trovò davanti ad un uomo una donna ed una loro ragazza che stavano cenando accortosi dello sbaglio fece buon viso a cattiva sorte e disse disinvolto sono molto stanco e ho bisogno di una tazza di caffè avreste la bontà di favorirmelo? ma sì venga pure avanti il reverendo si accomodi l'uomo porge una sedia e la donna e la figlia si accingono a preparare una tazza di caffè il carnefice intanto continuò ma lei il reverendo sai in casa di chi è venuto? certo in casa di un bravo uomo eppure lei si trova in casa del boia che importa so che siete un bravo cristiano e questo mi basta voglio che siamo amici quel povero uomo che non si era mai sentito trattare così bene da persona distinta cadeva dalle nuvole e si sprofondava in mille gentilezze venne intanto il caffè e siccome fu recata una tazza sola don Bosco si affrettò a chiederne una seconda dicendo oh bisogna che la prendiamo insieme e questo poi no rispose il carnefice e io che mando la gente all'altro mondo prendere il caffè con lei che la manda in paradiso appunto appunto fra tutte e due compiamo un'opera salutare voi riguardo la società e io riguardo a Dio la seconda tazza fu portata il santo la porse al boia ed entrambi lo sorbirono allegramente ne sarà stata l'ultima già che da quel giorno anche il carnefice si univa ai carcerati a confessarsi e fare la comunione fino a che lasciò di praticare quel poco glorioso mestiere il santo si compiaceva di raccontare l'episodio toccatogli e finiva col dire dunque io e il boia siamo due buoni amici con i discoli della generale nel 1855 Don Bosco aveva predicato gli esercizi spirituali ai ragazzi rinchiusi nella generale di Torino l'istituto correzionale per discoli la mattina della comunione generale chiese ed ottenne dal ministro dell'interno Urbano Rattazzi il permesso di condurli tutti in numero di 350 ad una passeggiata fino a Stupinigi distante 6 chilometri da Torino la più schietta allegria durò per tutta quella giornata di libertà e quando alla sera vi ricondusse a casa nessuno mancò all'appello impossibile immaginare le meraviglie di tutti del personale del direttore e dello stesso ministro e di chiedersi come mai un povero prete solo senza guardie e carabinieri avesse potuto tenere a bada un sì grande numero di corrigenti il santo prese occasione per spiegare i vantaggi del suo sistema di educazione e quei signori ne furono talmente persuasi che pochi giorni dopo gli fecero la proposta di accettare la direzione dell'istituto Don Bosco però si scusò col dire miei cari signori non posso perché col mio sistema farei di questi giovani altrettanti preti e frati e voi non ne sareste contenti o religione o bastone un ministro inglese desideroso di far conoscenza con Don Bosco del quale sentiva tanto parlare e anche desideroso di apprendere il metodo di educazione si recò nel 1855 a Torino e chiese di visitare l'oratorio salesiano lo ricevette Don Bosco stesso che lo accompagnò in giro per quella grande casa la meraviglia del ministro cresceva di mano in mano che attraversava laboratori e reparti ma quando fu introdotto nel grande salone dove attendevano allo studio con la massima serietà e nel più perfetto silenzio oltre 500 giovani con la sola assistenza di due chierichetti la meraviglia si cambiò in stupore e rivolto al santo esclamò reverendo non sa che questo è uno spettacolo magnifico mi dica di grazia qual è il segreto per ottenere tanto silenzio e tanta disciplina me lo dica perché io voglio prenderne nota e riportarlo in Inghilterra signor ministro rispose Don Bosco il mio segreto non serve per loro e perché perché è un segreto dei cattolici mentre voi siete protestanti il mio segreto è la confessione frequente e settimanale se è così noi manchiamo davvero di questo potente mezzo di educazione ma non si potrebbe supplire altrimenti eh no se non si usa questo elemento di religione è necessario ricorrere al bastone dunque padre o religione o bastone sì o religione o bastone rispose Don Bosco ridendo bene bene o religione o bastone ho capito voglio raccontarlo a Londra addio mamma margherita da qualche tempo era morta mamma margherita 25 novembre 1856 ma Don Bosco sempre la ricordava con viva commozione un giorno un giorno del 1860 la rivide in una visione fugace ma consolatissima era tutta agile e sorridente ed egli le disse oh madre voi qui ma non siete dunque morta sì sono morta rispose la madre ma vivo siete felice felicissima in paradiso in paradiso quantunque sia passata per le fiamme del purgatorio vi sono dei nostri giovani in paradiso sì tanti e ne nominò parecchi e che cosa si gode lassù tu mi chiedi l'impossibile perché ciò che si gode quassù nessuno mai lo potrà né dire né esprimere improvvisamente fu avviluppata da una luce di inesplicabile bellezza ed esclamò Giovanni ti aspetto per restare sempre uniti disparve nell'armonia d'un canto di voci angeliche Don Bosco raccontando ai suoi figlioli questa visione diventava come ispirato e finiva sempre con ripetere oh la rivedrò sì la madre mia e la vedrete anche voi se saremo perseveranti nel servizio del signore coraggio dunque allegri e mai peccati la grande chiesa sognata nel 1863 Don Bosco volle dare principio alla magnifica chiesa di Maria Ausiliatrice e le maggiori difficoltà gli vennero dal municipio portato il disegno per l'approvazione il capo ingegnere non volle approvarlo dicendo ma questo titolo di Ausiliatrice è impopolare inopportuno sa troppo di bigottismo insomma non è adatto ai tempi ebbene rispose Don Bosco eliminiamo il titolo e quale altro titolo metterà al posto questo sta a me trovarlo ci pensi dunque per ora non ne ho nessuno e così sarò in libertà di darle a suo tempo il titolo che mi parrà meglio ma lei trama un inganno qui non c'è inganno lei non vuole approvare il titolo e non l'approva io glielo voglio dare e glielo darò così saremo contenti tutti e due perché tutti e due avremo compiuto i nostri desideri l'ingegnere sorrise e sebbene a malincuore approvò di qui la mia gloria Don Bosco affidò il progetto del nuovo santuario all'architetto Antonio Spezia che lo sviluppò in forma di croce latina sopra una superficie di 1200 metri quadrati con una lunghezza di metri 48 era prevista la cupola con intorno la scritta da lui veduta in sogno di qui la mia gloria bisognava sentire le meraviglie della gente che accorreva a vedere la grandiosità dell'impresa come farà Don Bosco ad andare avanti dove prenderà i denari si caricherà di debiti avrà trovato un tesoro finirà con una bancarotta è una pazzia una temerità il santo sentiva taceva e continuava compiuto lo sterro si pose la prima pietra con una grandiosa funzione e appena finita rivolto al capomastro Carlo Buzzetti disse bravo Buzzetti ti voglio subito dare un acconto per i grandi lavori non so se sarà molto ma è tutto quello che ho così dicendo tirò fuori il borsellino l'aprì e lo versò capovolto nelle mani del capomastro che credeva di averle piene di marenghi ma quale non fu la sorpresa sua e di tutti al vedere la somma di otto poveri soldi e Don Bosco soggiunse sta tranquillo la Madonna ci penserà e provvederà a lei il denaro per la sua chiesa così avvenne infatti la chiesa di Maria Ausiliatrice costò oltre un milione ma la Madonna aiutò a pagare tutto con grandi e continui miracoli Don Bosco solleva dire ogni mattone di questa chiesa è una grazia della Madonna grazie ottenute con la medaglia Don Bosco confidava molto in Maria Ausiliatrice e ne diffondeva la medaglia un giorno si presentano a lui cinque dei suoi primi chierici a sei sconsolati per essere richiamati al servizio militare Don Bosco li guardò sorridendo ed esclamò oh soldati di Polenta che cosa ne farà di voi il governo poi tirato fuori il suo portamonete ne trasse cinque medaglie benedette e le distribuì loro dicendo prendete tenetele preziose riportatemele fra pochi giorni il giorno fissato si presentarono al distretto e si sentirono dire che si trattava di uno sbaglio ritornassero pure ai loro studi corsero giubilanti a portare la medaglia a Don Bosco che sorridendo esclamò l'avete provata la potenza e la bontà di Maria Ausiliatrice un altro giorno ricevette una lettera da una signora d'America che diceva reverendo Don Bosco è la terza volta che tento l'impianto di una vigna in queste regioni ma sempre senza esito chiedo a lei una benedizione speciale per riuscire nell'intento Don Bosco le speditosto un pacco di medaglie di Maria Ausiliatrice con accluso un biglietto che diceva ecco la benedizione speciale che vos signoria mi chiede per l'impianto della sua vigna ritenti la prova mettendo in capo ad ogni filare una delle qui unite medaglie ed abbia fiducia in Maria Ausiliatrice la buona signora seguì il consiglio di Don Bosco ritentò la prova e vide il miracolo la vigna tecchie ottimamente e da suo tempo diede frutti mai veduti in quei paesi l'oratorio di Valdocco l'anno 1846 è il tempo di grazia della grande realizzazione Don Bosco riesce ad acquistare una faticente tettoia da Francesco Pinardi e vi inaugura un oratorio stabile nella regione Valdocco Don Bosco trasforma la tettoia in cappella nel giorno di Pasqua la benedice centinaia di ragazzi la stipano all'inverosimile poi afferrando al volo la pagnotta che Don Bosco va pescando da un'immensa cesta sciamano sui prati intorno esplodendo per la gioia di avere finalmente una casa tutta per loro la vita nell'oratorio si moltiplicano le ostie il giorno della natività di Maria Santissima del 1847 circa 650 giovani erano stati confessati ed erano pronti per la comunione Don Bosco incominciò la messa e la continuò credendo che nel tabernacolo vi fossero le ostie consacrate la piscide invece era quasi vuota ed il sacristano si era dimenticato di mettere sull'altare l'altra piscide da consacrare giunto alla comunione Don Bosco si accorse della dimenticanza del sacrista ma come fare non c'era rimedio alzò gli occhi al cielo trasse un gran respiro poi cominciò e continuò la comunione a tutti come se nulla fosse e le particole si moltiplicarono nelle sue mani in modo che poté comunicare tutti senza spezzare neppure una particola interrogato poi dai suoi giovani come avesse fatto tranquillamente rispose oh bella per la dimenticanza del sacristano aveva forse da restarne disgustato Gesù che desiderava tanto venire nei vostri cuori e le castagne la domenica dopo la festa dei santi del 1849 si era fatto nell'oratorio l'esercizio della buona morte ossia la confessione e la comunione da tutti i giovani interni ed esterni e alla sera Don Bosco li condusse a visitare il camposanto con la promessa di regalare loro le castagne quando fossero ritornati mamma Margherita ne aveva comprati tre sacchi ma poi pensando che mezzo sacco sarebbe bastato per far divertire quei giovani si limitò a far cuocere quelle ritornati giovani e schieratisi come soldati in attesa Don Bosco si accinse la distribuzione riempiendo ad ognuno il berretto che fai? gli gridò allora la madre non ne abbiamo abbastanza ma sì soggiunse Don Bosco ne abbiamo tre sacchi sì ma le altre non sono cotte o cotte continuiamo come abbiamo cominciato e continuò realmente a dare ad ognuno pieno il berretto intanto il cesto si svuotava non ve ne erano più che poche manate e i giovani erano ancora molti alle grida di gioia successe a poco a poco un silenzio d'ansietà tutti temevano di restare senza ma Don Bosco che non si sgomentava mai li incoraggiava dicendo le migliori stanno in fondo niente paura e rimboccatesi le maniche continuò a cacciare le mani nella cesta e riempire i berretti per quante ne cavasse non diminuivano mai di modo che tutti furono serviti e quando si portò il cesto in cucina ne rimaneva ancora la porzione di Don Bosco e quella della mamma in quella sera nel cortile e sulle vie fu un grido solo Don Bosco ha moltiplicato le castagne in memoria di questo fatto in tutte le case di Don Bosco si distribuiscono la sera dei santi le castagne lessate una signora dell'aristocrazia torinese amante dei poveri e generosissima con loro era solita recarsi ogni mese da Don Bosco e fargli le sue offerte un giorno si presentò vestita ad un'ampia veste con crinolina come si usava allora e volendo entrare nella stanza di Don Bosco la cui in vetriata era aperta solo per metà si ruppero le laminette di acciaio che tenevano rigunfio l'abito la signora mortificata e indispettita protestò che non sarebbe mai più venuta all'oratorio il santo dispiacentissimo le disse eccellenza ella forse non ricordava che le porte di Don Bosco non sono larghe come quelle del suo palazzo queste parole non valsero a rabbonire la dama la quale fatta avvicinare la carrozza se ne partì ripetendo che non avrebbe mai più messo piede nell'oratorio va bene va bene così mi obbligherà a venire io da lei rispose Don Bosco con tutta calma e sorridendo difatti prese a recarsi ogni otto giorni dalla dama la quale alla terza volta esclamò come va che siete ritornato così presto se vostra eccellenza non viene più da me rispose Don Bosco bisogna bene che io venga da lei altrimenti come potrò tirare avanti con i miei giovani che mancano di tutto la dama capì l'arguzia e l'umiltà del santo e riprese a recargli personalmente ogni mese le sue generose offerte placido sonno era la vigilia di una solennità Don Bosco era sempre pronto ad ascoltare con ammirabile pazienza quanti giovani gli si presentassero per confessarsi aprirgli il loro cuore o togliersi qualche inquietudine dall'animo quella sera confessava nella sacrestia e quantunque si appressasse alla mezzanotte molti dei suoi ragazzi aspettavano ancora il loro turno affaticato per il duro lavoro della giornata e spossato per la veglia della notte antecedente fu a poco a poco vinto dal sonno e la sua testa venne piano piano a posarsi sulla spalla del piccolo penitente che si stava confessando il fanciullo fu dapprima meravigliato ma poi contento di fare come da sostegno a un tanto padre si guardò bene dal fare il più piccolo movimento e anzi preso a dormire anche lui placidamente gli altri giovani schierati intorno vedendo prolungarsi soverchiamente l'attesa si addormentarono a loro volta e così confessore penitenti facevano senza saperlo a chi dormiva meglio sono le due del mattino e il povero Don Bosco si risveglia di soprassalto con stupore misto a meraviglia ed umiliazione guarda di intorno il piccolo penitente ha il capo reclinato sull'inginocchiatoio e riposa saporitamente Don Bosco si alza leggero leggero e va a dare uno sguardo al posto dove attendevano gli altri sono ancora là ma anche loro dormono che fare rientra in confessionale svegli dal piccolo penitente e lo manda a dormire ripete la stessa cosa uno ad uno e li manda a letto rimettendo le confessioni a giorno fatto ho perduto i peccati un giorno fu condotto dinanzi a Don Bosco un suo giovanetto tutto piangente costui desideroso di fare la sua confessione generale con la maggior precisione possibile aveva scritto i suoi peccati e ne aveva riempito un quadernetto ma non si sa come aveva perduto il volumetto delle ingloriose sue gesta e per quanto frugasse in ogni tasca il manoscritto più non lo trovava e a nessuno voleva palesare il motivo della sua desolazione Don Bosco fattolo appressare a sé presa ad interrogarlo che hai caro Giacomino ti senti male hai dispiaceri ti hanno picchiato il ragazzo preso un po' di coraggio rispose ho perduto i peccati a queste parole i compagni e anche Don Bosco diedero in uno scroscio di risa ma poi il santo soggiunse te è felice se hai perduto i peccati e felicissimo se non li troverai mai più perché senza peccati andrai sicuro in paradiso Giacomino credendo di non essere stato inteso alza gli occhi rigonfi a guardare il buon padre e grida ho smarrito il quaderno dove li avevo scritti allora Don Bosco che aveva trovato il quadernetto trattolo di tasca esclama sta tranquillo mio caro i tuoi peccati sono caduti in buone mani eccoli qui a quella vista il poveretto si rasserenò e sorridendo concluse se avessi saputo che le aveva trovati lei invece di piangere mi sarei messo a ridere e questa sera venendo a confessarmi avrei detto padre io mi accuso di tutti i peccati che lei ha trovato e che tiene in tasca battaglia nell'orto si era al tempo delle prime guerre di indipendenza italiana 1848-49 ed anche nei giovani si era infuso un fermento bellico da non dirsi Don Bosco che sapeva servirsi di tutto per attirare maggiormente i fanciulli permetteva che si facessero anche nell'oratorio delle guerricciole innocenti con bastoni fucili sciavole di legno un giorno essendo molti ragazzi schierati in ordine di guerra datosi l'ordine dell'attacco l'impeto fu così vehemente che la mischia si spinse senza vedersene fin oltre il cortile giù giù nell'orto di mamma Margherita smantellata la siepe tutti i pesti seminati e sciupati raccolti quell'orto divenne una desolazione mamma Margherita a corsa tutta fannata ne faceva le lagnanze con quei guerrieri in erba senza potersi dar pace di tanto sciupio e Don Bosco a lei oh madre che volete farci sono giovani chiamato poi il generale il quale se ne stava tutto confuso in tanta gloria gli fece animo con le più dolci parole e tratto fuori un grosso cartoccio di caramelle glielo diede dicendogli prendi distribuisce i vincitori ai vinti ma non dite nulla alla mamma perché non mi bastoni e se morissi stanotte da qualche tempo Don Bosco usava le più delicate cure per un ragazzo dell'oratorio che a dispetto di tutto si manteneva chiuso e si dimostrava ritroso ed ostinato il santo ricorse allora ad uno stratagemma preso un foglietto di carta vi scrisse sopra queste parole e se morissi stanotte e andò a deporlo tra il lenzuolo e il guanciale di quel poveretto venuta la sera tutti vanno a dormire e anche il nostro giovane si sveste e fa permettersi a letto ma gli salta agli occhi quel foglio oh che sarà mai lo prende lo legge lo rilegge e se morissi stanotte don bosco ma don bosco è un santo conosce l'avvenire chissà che non debba essere così e se morissi davvero ma io non voglio morire no intanto si corica si copre per bene e tenta di addormentarsi ma che addormentarsi in quello stato con quelle parole che lo pungono come acuta spina è impossibile si volta e rivolta e chiude stretti gli occhi tutto inutile sente più vivo il suono di quelle parole gli par di vedere realmente lì dinanzi a sé la morte il divin giudice l'inferno un brivido la sale e tutto in sudore esclama oh povero me ma io non voglio andare all'inferno voglio confessarmi si raccomanda la madonna si alza si veste pian piano discende le scale attraversa i corridoi sale alla stanta di un bosco e picchia il santo che l'attendeva apre e lo introduce dicendogli oh se sapessi quanto di cuore ti ho atteso fatta la sua confessione dolorosa e sincera se ne ritornò tranquillo e felice a letto non gli ho firmato il passaporto uno dei migliori giovani dell'oratorio era accaduto gravemente ammalato don bosco era assente al suo arrivo superiore e giovani li vanno incontro pregandolo di correre subito al letto del moribondo don bosco per nulla allarmato a quella notizia non si affrettò a punto anzi disse sorridendo eh no Davico non muore non gli ho ancora firmato il passaporto giunto poi appresso il malato che era in delirio si chinò e gli disse una parola all'orecchio poi fece inginocchiare i presenti perché pregassero Savio Domenico di cui Davico portava il nome appena finita quella breve preghiera il malato salza a sedere sul letto ed esclama sono guarito sono guarito e bene vieni a cena con me soggiunse don bosco fra le meraviglie di tutti pareva una follia far alzare uno ed invitarlo a cena mentre poco prima era moribondo il giovane si alzò andò a cena con lui e quella sera vi fu grande allegria perché tutti vedevano che Davico stava benissimo risuscita un morto nel 1849 cadeva gravemente ammalato un giovane sui 15 anni di nome Carlo che frequentava l'oratorio come esterno era figlio dell'albergatore di una vicina trattoria e quando il medico lo diede spacciato si pensò di chiamargli un sacerdote Carlo voleva don bosco suo confessore solito e don bosco era fuori Torino nella notte il ragazzo morì sempre chiamando don bosco quando questi giunse e seppe di Carlo si affrettò a quella casa quando vi giunse il cameriere che gli fece incontro e si inghiozzò troppo tardi don bosco troppo tardi Carlo è morto stanotte ma che chiamò il santo e subito fu condotto nella camera dove il cadavere già vestito dei suoi abiti era ricoperto di un velo bianco don bosco si appressò fece una fervida preghiera poi disse ai presenti ritiratevi un momento lasciatemi solo con lui dopo quella preghiera in tono di comando lo chiamò Carlo Carlo alzati a quella voce il giovane si muove e come svegliandosi da un profondo sonno apre gli occhi li volge attorno e dice dove sono don bosco è proprio lei se sapesse quanto l'ho sospirato ho bisogno di lei ha fatto bene a svegliarmi intanto la madre che origliava udita la voce del figlio si precipitò nella stanza don bosco gridò aspettate non è ancora tempo andate a richiamare la famiglia vi avvertirò io il rivolto di nuovo a Carlo continuò sono qui per te di pure tutto quello che vuoi oh don bosco io dovevo essere all'inferno l'ultima volta che mi confessai non osai palesare un peccato ora ho fatto un sogno spaventoso ho segnato di essere sull'orlo di un'immensa caverna molti demoni mi spingevano volevano precipitarmi dentro quando ho sentito la sua voce voglio confessarmi e cominciò subito la sua confessione coi segni del più grande pentimento appena finito ad un cenno di don bosco rientra la madre con tutti quei di casa e Carlo volgendosi a loro grida don bosco mi ha salvato mi ero confessato male don bosco mi ha salvato dall'inferno stette circa due ore pienamente padrone della sua mente rispondendo a tutte le interrogazioni ma intanto per quanto si muovesse e parlasse il suo corpo era sempre freddo la sua faccia cerea i suoi occhi smorti e smarriti finalmente don bosco gli chiese ora sei in grazia di dio il paradiso è aperto per te vuoi andare lassù o rimanere con noi e Carlo rispose risoluto e festante desidero andare in paradiso arrivederci in paradiso e si lasciò cadere sul guanciale immobile riaddormentato nel signore la fama di questo fatto durò viva per molti anni tutti ne parlavano e da tutti si conosceva il posto l'insegna di quella locanda il nome e il cognome del giovane e della famiglia guai a Torino tra i giovani dell'oratorio vera un certo Gabriele Fassio tredicenne di illibati costumi e di grande pietà don bosco ne aveva grande stima e spesso esclamava quanto è buono ma presto morrà e fu profeta caduto ammalato e ridotto agli estremi dopo aver ricevuto tutti i conforti religiosi come ispirato dall'alto si pose a gridare guai a Torino guai a Torino ai compagni che l'assistevano e che domandarono il perché di quel guai rispose un orribile terremoto quando sarà il 26 aprile guai a Torino che cosa dobbiamo fare pregare San Luigi che protegga l'oratorio e quelli che lo abitano poco dopo moriva santamente e i giovani dell'oratorio presero ad aggiungere alle orazioni del mattino e della sera un pater ave gloria ad onore di San Luigi con la invocazione ab omnimalo libera nos domine venne il 26 aprile 1852 sul mezzogiorno un rombo tremendo udito a 15 miglia all'intorno faceva traballare la città sgangherando usci e porte e finestre e non lasciando un vetro intatto era scoppiata la polveriera e poco mancò che riducesse Torino in un cumulo di rovine la casa dell'oratorio che distava appena 500 metri dalla polveriera restò intatta ed i giovani fuggiti nelle vie e nei prati vicini furono tutti salvi Don Bosco fece stampare un'immagine ricordo nel cui sfondo si vedevano la città di Torino e la polveriera in fiamme in alto la vergine della consolata e sul davanti giovani inginocchiati rivolti a Maria sotto si leggeva questa strofa noi dalle accese polveri per tua mercè scampati ai piedi tuoi gran vergine grazie rendiam prostrati il santo e i suoi giovani cantando sovente questa lode finivano con un grido di evviva alla vergine ausiliatrice che le aveva scampati da un tanto pericolo il colera del 1854 sul principio dell'agosto 1854 scoppiò in Torino il colera Don Bosco l'aveva preannunziato e già fin dal mese di maggio aveva detto ai suoi giovani quest'anno ci sarà il colera a Torino e vi farà grande strage ma se voi farete ciò che vi dico sarete salvi e che cosa dobbiamo fare prima di tutto vivere in grazia di Dio poi portare al collo una medaglia che io benedirò e darò a tutti e recitare un pater ave e gloria ad onore di San Luigi i casi di colera salirono ben presto a 50 al giorno in tre giorni superarono i 1400 la regione più afflitta fu quella di Valdocco dove si trovava appunto l'oratorio e mentre molte famiglie furono interamente distrutte dei giovani e del personale dell'oratorio nessuno fu menomamente toccato quantunque una gran parte si fossero offerte di andare ad assistere i colerosi nelle case e nei lazzaretti Don Bosco che loro andava ripetendo se non farete peccati io vi assicuro che nessuno sarà toccato fu veramente profeta un giovane di nome Pietro che era stato parecchi anni con Don Bosco all'oratorio finì col cadere nelle reti dei Valdesi e a scriversi alla loro setta essendosi gravemente ammalato questi si erano piazzati accanto al suo letto per impedirgli di chiamare il prete cattolico Don Bosco saputolo corse alla casa dell'infermo gli apre un pastore che gli dice chi cerca signor Abate cerco di parlare al povero ammalato non può ricevere nessuno è rigorosamente proibito dal medico il medico certamente non intende di estendere a me la sua proibizione mi lasci passare farò una semplice commissione così dicendo si fa strada ed entra esclamando oh Pietro mio come stai ti ricordi ancora di me mi riconosci oh sì lei è Don Bosco l'antico amico della mia anima il pastore a questo punto grida Don Bosco insomma la prego di ritirarsi lei non ha niente a che fare con questo giovane ho invece molto da fare e da dire con lui e lei chi è che comanda qui dentro io sono ministro valdese e io sono Don Bosco il direttore dell'oratorio di Valdocco ebbene che cosa vuole da questo ragazzo voglio aiutarlo a salvarsi l'anima mentre lei lo vuole perdere ma egli non ha nulla a che fare con lei e perché mai perché si ha scritto la chiesa valdese io l'ho iscritto prima di lei nel catalogo dei miei figli ma lei turba la coscienza di questo povero infermo ed avrà a pentirsene quando si tratta di salvare un'anima non temo conseguenze ripeto che lei deve andarsene subito da qui sappia signora Batte che io ho l'autorità ed io ripeto che rispetto tutti ma non temo nessuno perché sono sicuro che l'infermo è pentito di aver dato il nome alla vostra setta e desidera morire cattolico questa è una seduzione una menzogna grida più forte il ministro e volgendosi al malato l'interroga non è vero Pietro che volete continuare nella chiesa evangelica no risponde il giovane io io sono cattolico e voglio vivere e morire da cattolico a questa aperta e franca confessione il ministro se ne andò gridando ritornerò a tempo migliore il tempo migliore è appunto questo soggiunse Don Bosco accompagnandolo alla porta quindi rivolto al giovane con aria sorridente e rassicurante gli disse vedi Pietro che gli abbiamo fatto mettere Berta in sacco chiuso la bocca oh quanto è buono il signore sappia essere fedele lo confessò e gli ridiede la pace il giovane guarito da quella malattia rimase poi fedele alla sua fede Robiole e peccati nell'aprile del 1876 si era ammalato un alunno della terza ginnasiale che era la consolazione e anche la speranza dei superiori per la sua ottima condotta e per l'eccellente riuscita negli studi tornando poi all'oratorio dopo essere stato in famiglia per un po' di convalescenza salì da Don Bosco e con inaccurato accento gli disse signor Don Bosco i miei genitori trovandosi in gravi strettezze non possono più pagare la pensione e neppure il debito già esistente l'unica cosa che abbiamo potuto fare per compensarla in qualche modo si fu di mandarle queste sei Robiole così dicendo trasse da un sacchetto sei piccole forme di cacio brianzolo Don Bosco ammirando l'umila disinvoltura e tutta la grazia di quel suo caro figliolo soggiunse ma dunque i tuoi parenti non potrebbero fare proprio più nulla 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 io però potrei darle ancora qualche cosa e che i miei peccati con una confessione generale rise il santo di tanta ingenuità e conchiuse bene bene le Robiole le terrò per mandarle in cucina e la confessione verrai a farla questa sera quello stesso giorno al pranzo dei superiori fu servita una di quelle Robiole e Don Bosco esilarò i commerciali raccontando il fatto la lezione di Don Bosco cedendo all'insistenza di un buon parroco della diocese di Alba era andato a predicarvi nella circostanza dei fedeli defunti la sera del 2 novembre scendeva da quelle colline per andare alla stazione di Bra ma avendo smarrito la via ed essendo l'ora tarda e la pioggia dirotta si vide costretto a chiedere ospitalità al cappellano di una chiesetta che sorgeva a fianco della strada fu accolto con un po' di malumore ed esposto ad una specie di interrogatorio chi è lei? un povero prete di Torino ho smarrito la via chiedo un po' di ricovero e quale ufficio esercita in Torino? ufficio una chiesetta dalle parti di Valdocco e avrà anche da cenare se nella sua carità vuole darmi qualche cosa accetterò volentieri mi rincresce di non aver niente in casa posso offrire un po' di pane e formaggio ma sì anche troppo gliene sarò riconoscente e forse stasera farebbe conto di fermarsi qui? vede bene con questo tempo tanto più che il treno è già partito già lecche io e non avrei più lette disponibili in quanto a questo si rimedia subito due sedie bastano se è così si accomodi mi dispiace di doverla trattare in questo modo mentre la perpetua metteva in tavola il pane il formaggio il padrone continuò dunque lei viene da Torino? sì signore conosce conosce forse un certo Don Giovanni Bosco? sì un poco io non mi sono mai incontrato con lui ma ma vorrei pregarlo di un favore è facile ad accordare favori a chi si rivolge a lui beh quando può è ben contento di essere utile al prossimo avevo pensato di scrivergli domani una lettera per far ricoverare un povero orfano nel suo oratorio lo accetterà volentieri glielo posso assicurare davvero? ma lei è un amico con Don Bosco? sì amicissimo fin dall'infanzia dunque mi otterrà il favore il favore è bello ottenuto vada per la carità che mi fa presentemente ma dunque lei lei insomma lei chi è? sono Don Bosco in persona oh Don Bosco lei lei è Don Bosco oh se me lo avesse detto subito mi perdoni se non l'ho trattato bene oh chi l'avrebbe immaginato lasci lasci qua quel formaggio mi ricordo che è rimasto qualche poco d'avanzo è tutto confuso affannato chiama la perpetua fa porre in tavola una tovaglia e ordina una minestrina e alcune uova al tegame corre ad un armadio trae fuori un mezzo pollo arrosto e non sa darsi pace mentre Don Bosco sorride vedendolo così affacendato finita la cena fu condotto a dormire in un soffice letto e al mattino il cappellano l'accompagnò alla stazione ripetendo tratto tratto le più umili scuse nell'accomiatarsi Don Bosco gli disse veda signor cappellano prendiamo lezione da quello che accade se non abbiamo nulla non diamo nulla se abbiamo poco diamo poco e se abbiamo molto diamo ciò che crediamo conveniente ma lasciamoci sempre guidare dalla carità la quale tornerà sempre a nostro vantaggio non toccate Don Bosco controversia coi valdesi finite le persecuzioni del governo incominciarono quelle dei protestanti questi per far desistere Don Bosco dalla lotta instancabile che loro faceva presero a sfidarlo con le discussioni vi si provarono dapprima tutti i capoccia di Torino e dei dintorni poi vedendo che sempre rimanevano sconfitti fecero intervenire il famoso pastore Meiglie con due maggiorenti valdesi costoro si recarono all'oratorio di Valdocco e dopo i primi complimenti intavolarono una disputa che durò dalle 11 alle 18 e che finì in modo comico la disputa si svolgeva sul purgatorio Don Bosco l'aveva provato con la ragione con la storia e con la sacra scrittura servendosi del testo latino ma uno dei contraddittori che voleva fare il saputo non volendosi arrendere disse il testo latino non basta bisogna andare alla fonte bisogna consultare il testo greco a queste parole Don Bosco si alza ballo scaffale ne toglie la bibbia in greco ed appressatosi al ministro soggiunse ecco signore il testo greco consulti pure e lo troverai in pieno accordo col testo latino quel tale quel tale che conosceva il greco come l'asino i marenghi non osando confessare la propria ignoranza prende il libro e si pone a sfogliarlo da capo a fondo fingendo di cercare il passo in questione ma che volle il caso che prendesse il libro a rovescio Don Bosco che se n'era accorto lo lasciò sfogliare per un pezzo trattenendo astento il riso poi pietosamente gli disse scusi signor ministro forse non troverà più la citazione perché tiene il libro a rovescio lo volte così e glielo mise per il suo verso come rimanesse colui è facile immaginare rosso in faccia come un gambero cotto gettò il libro sul tavolo ed alzatosi di botto troncò la discussione e se ne andò me ne rido vedendo che con le dispute non la potevano vincere i valdesi ricorsero ad altri mezzi per farlo tacere una domenica dell'agosto 1853 si presentarono all'oratorio due signori che domandarono di parlare col santo condotti alla sua camera uno di essi che era pastore dopo mille elogi al suo ingegno e al suo zelo venne a dire ma reverendo se lei invece di attendere alle letture cattoliche e scrivere libri di religione attendesse a cose di storia o d'altro procurerebbe un bene assai maggiore al suo istituto prenda intanto questa prima offerta sono quattro biglietti da cento e le assicuro che ne avrà altri Don Bosco rifiutò con sdegno l'assubdo la proposta ed essi alzandosi in piedi dissero con volto alterato e voce minacciosa lei fa male a rifiutare e ci offende se esce di casa è poi sicuro di rientrare Don Bosco dopo essersi assicurato che alla porta stava qualcuno dei suoi giovani in guardia rispose vedo che i loro signori non conoscono bene chi sono i preti cattolici sono pronti anche a morire per la gloria di Dio e per il bene delle anime cessino dalle loro minacce perché io me ne rido a queste parole l'irritazione di quei signori non ebbe più ritegno e fattisi da presso stavano per mettergli le mani addosso Don Bosco impugnò prudentemente la sedia esclamando se volessi adoperare la forza mi sentirei di far loro provare quanto costi una violazione di domicilio ma no la forza del sacerdote sta nella pazienza e nel perdono tuttavia è tempo di finirla in quella si spalanca la porta della camera e si presenta il nerboruto Giuseppe Buzzetti uno dei più fidi di Don Bosco al quale il santo dice pacatamente accompagna questi signori fino al cancello quei due si guardarono in faccia e uno dietro l'altro seguirono la guida vino avvelenato quelle minacce furono l'inizio di una serie di persecuzioni contro Don Bosco una sera venne chiamato a confessare un malato egli sempre pronto si dispose a partire ma per prudenza si fece accompagnare da alcuni dei suoi giovani giunto al luogo indicato lasciò i giovani sulla porta ed entrò in una stanza dove trovò una mezza dozzina di buontemponi che seduti a tavola mangiavano delle castagne questi al vedere il prete si alzarono e coi segni del maggior rispetto li invitarono a sedersi e servirsi delle loro castagne mentre sarebbero andati ad avvertire il malato grazie ho già cenato almeno un bicchiere del nostro vino non mi sento e via non le farà male ed ecco che uno mesce nei bicchieri dei compagni ed un altro con un'altra bottiglia mesce per Don Bosco questi si avvide subito che c'era del mistero ma dissimulando prese in mano il bicchiere brandò alla salute di tutti poi senza assaggiarlo lo ripose sul tavolo ma perché non beve vogliamo che beva ad ogni costo e passando dai detti ai fatti due lo presero per le spalle ed un altro afferrò il bicchiere e soggiunse se non vuole bere per amore berrà per forza Don Bosco così forzato ricorre ad un'astuzia se assolutamente volete che beva lasciatemi libero perché così stretto verserò il vino ha ragione risposero quelli e lo lasciarono egli che già con l'occhio aveva misurato lo spazio fece un salto indietro spalancò l'uscio ed invitò i suoi giovani ad entrare l'improvvisa comparsa dei giovanotti fece rinsavire quei farabutti i quali conclusero se non vuole bere pazienza una persona amica racconta Don Bosco fece indagini e seppe che un tale aveva pagato una cena a patto che mi avessero costretto a bere del vino preparato per me grandine di bastonate chiamato un'altra sera a confessare un'ammalata vi accorre prontamente ma di nuovo accompagnato dai suoi quattro fidi due li lascia ai piedi della scala e due li fa fermare sul pianerottolo presso l'uscio della camera entrato scorse a letto una donna tuttansante la quale sapeva fingere così bene da sembrare che stesse per dare l'ultimo respiro presso di lei quattro facce torve di uomini assai sospetti Don Bosco pregò costoro di allontanarsi per poter confessare l'ammalata ma ella esclamò prima di confessarmi voglio che quel briccone la ritratti la calugna che mi ha buttato addosso ma che calugna rispose quegli inferocendosi si no taci infame a me infame e tutti urlarono e impugnarono i bastoni intanto si spengono i lumi e in un buio completo incomincia una grandine di bastonate tutte dirette a Don Bosco che capito il gioco abbraccia una scranna e se la caccia in testa a capovolta cercando riparo e modo di guadagnare la porta a quel frastuono indiavolato i giovani di guardia danno di spalla alla porta la quale cede e si spalanca e Don Bosco può così aver salve le spalle e la vita e ritornare sano e salvo ai suoi figlioli o si decide o è morto vedendo fallite le loro ipocrisie i protestanti vengono ai fatti in un pomeriggio di gennaio del 1854 due signori elegantemente vestiti salivano alla camera di Don Bosco che li riceveva con la solita cortesia i giovani erano in chiesa per i vespri ma Giovanni Cagliero che aveva visto quei signori entrò in sospetto e andò a sostare presso la porta del santo non poteva intendere le parole ma s'accorse che la disputa si andava accendendo e ad un tratto quei due pronunciarono forte queste parole in fin dei conti o lei la smette di pubblicare le letture cattoliche o noi la faremo smettere per forza io non la smetterò mai rispose risoluto Don Bosco o si decide o è morto ed estraggono le loro pistole e gliele puntano sul petto tirino pure esclamò Don Bosco con voce risoluta e sguardo imponente ma in quell'istante sode un gran colpo alla porta era Cagliero che temendo qualche disgrazia aveva dato un fortissimo pugno all'uscio che si era spalancato mentre a tutta voce si era messo a gridare aiuto aiuto i due messeri riposero in fretta le armi ed uscirono mentre Don Bosco con la berretta in mano li salutava con cortesia il grigio per quanti insulti e minacce dovesse subire e per quanto terribili fossero le insidie cui andava soggetto Don Bosco non portò mai armi né mai adoperò la sua forza per respingere gli assalti chi lo vegliava in ogni pericoloso incontro fu sempre alla provvedenza la quale si servì anche del grigio chi era il grigio? un cane portentoso alto più di un metro che più volte salvò Don Bosco in circostanze veramente strane una sera del 1852 Don Bosco tornava a casa solo quando giungendo da piazza Emanuele Filiberto al Rondò sente qualcuno corrergli dietro si volta di botto e veduto a pochi passi un tale armato di un nodoso randello si mette anche lui a correre nella speranza di poter arrivare a casa prima di essere raggiunto era ormai in fondo alla via che mette all'oratorio quando scorge sul crocicchio di quella con la via Cottolengo parecchi altri che stanno per prenderlo in mezzo visto il pericolo pensa di liberarsi prima da colui che lo insegue e fermandosi di improvviso gli punta in petto i gomiti con tanta destrezza che il misero rimbalza a terra gridando sono morto sono morto il buon esito di quella ginnastica lo salva da uno ma gli altri quei bastoni sono lì per circondarlo in quell'istante eccoti il grigio provvidenziale che saltando di qua e di là a fianco di Don Bosco manda latrati ed urli formidabili e si agita con tanta furia che quei ribaldi temendo di essere fatti a brani pregano Don Bosco di ammansirlo e tenerlo presso di sé mentre l'uno dopo l'altro si eclissano lasciando che il prete faccia la sua strada Don Bosco scortato dal grigio che lo festeggia giunse tranquillamente a casa ancora il grigio sul finire del dicembre 1854 in una notte scura e nebbiosa ritornava dal centro della città e discendeva dalla consolata alla casa del Cottolengo ad un certo punto si accorse che i due uomini lo precedevano a poca distanza e acceleravano o rallentavano il passo secondo che lo accelerava o lo rallentava lui non c'era più dubbio erano malintenzionati il santo pensò di tornare indietro per mettersi in salvo in qualche casa vicina ma non ebbe più il tempo voltatisi improvvisamente essi gli furono addosso e gli gettarono un mantello sulla faccia Don Bosco abbassandosi con rapidità liberò per un istante il capo e prese a dibattersi chiedendo aiuto ma gli assalitori avvolgendolo ancora più gli turarono la bocca con un fazzoletto proprio in quel momento ecco comparire il grigio che ruggendo come un leone si slancia con le zampe su quei due sbattendoli di qua e di là nel fango poi fermo accanto a Don Bosco ringhia e fissa quei due con aria di trionfo e di sfida quei poveretti luridi di fango e tremanti di spavento si alzano alla meglio e gridano Don Bosco per carità ci liberi da questo cane chiediamo scusa e perdono sempre il grigio altra volta ancora il grigio invece di accompagnarlo a casa gli impedì di varcare la soglia era notte Don Bosco doveva uscire per una commissione mamma Margherita cercava di dissuaderlo ma egli esortatala a non temere prende il cappello e si avvia accompagnato da alcuni dei suoi giovani giunti al cancello trovano il grigio sdraiato oh il grigio esclamò Don Bosco tanto meglio saremo in buona compagnia alzati dunque e vieni con noi ma il grigio invece di obbedire manda un cupo ringhio e resta al suo posto qualcuno dei giovani lo tocca col piede per farlo alzare ma esso risponde con un ringhio più forte e cupo mamma Margherita che era accorsa avvolgendosi a Don Bosco gli dice se non vuoi ascoltare me almeno ascolta il cane non uscire il santo per contentare la madre rientra in casa e subito sopraggiunge un vicino tutto ansante e trafelato a raccomandargli di non uscire di casa perché quattro individui armati si aggirano nei dintorni così era infatti come si seppe poi da altre persone degne di fede ci chiameremo Salisiani nasce una nuova congregazione nel 1854 nascono i Salesiani Don Bosco raggruppa quattro giovanotti dell'oratorio che ha coltivato con particolare cura fin dal loro ingresso a Valdocco e fa un discorso e narra un sogno di quelli che esaltano e fanno correre i brividi il discorso è questo voi vedete che Don Bosco fa quello che può ma è da solo se voi mi darete una mano invece insieme faremo miracoli di bene migliaia di fanciulli poveri ci aspettano vi prometto che la Madonna ci manderà oratori vasti e spaziosi chiese case scuole laboratori e tanti preti pronti a darci una mano e questo in Italia in Europa in America io tra voi già vedo una mitria vescovile i quattro giovanotti si guardano in faccia sbalorditi sembra di sognare eppure Don Bosco non scherza è serio e sembra leggere nel futuro la Madonna vuole che noi iniziamo una società ho pensato a lungo che nome darle ho deciso che ci chiameremo salesiani e il sogno è il seguente il giardino il pergolato e le rose un giorno dell'anno 1847 avendo io molto meditato sul modo di far bene alla gioventù mi comparde la regina del cielo espressione molto rara in Don Bosco in genere dice ho sognato una signora bellissima e mi condusse in un giardino incantevole vi era un bellissimo porticato con piante rampicanti cariche di foglie e di fiori questo portico metteva in un pergolato incantevole fiancheggiato e coperto da meravigliosi rosai in piena foglioritura anche il terreno era tutto coperto di rose la beata vergine mi disse va avanti sotto quel pergolato è quella la strada che devi percorrere cominciai a camminare molti rami scendevano dall'alto come festoni io non vedevo che rose ai lati rose di sopra rose innanzi ai miei passi ma le mie gambe si impigliavano nei rami stesi per terra e ne rimanevano ferite rimuovevo un ramo trasversale e mi pungevo sanguinavo nelle mani e in tutta la persona le rose nascondevano tutta una grandissima quantità di spine tutti coloro che mi vedevano camminare dicevano Don Bosco cammina sempre sulle rose tutto gli va bene non vedevano che le spine laceravano le mie povere membra molti chierici preti e laici da me invitati si erano messi a seguirmi festanti attirati dalla bellezza di quei fiori ma si accorsero che si doveva camminare sulle spine e incominciarono a gridare siamo stati ingannati non pochi tornarono indietro rimase praticamente solo allora cominciai a piangere possibile dicevo che debba percorrere tutta questa strada da solo ma presto fui consolato vidi avanzarsi verso di me uno stuolo di preti chierici secolari i quali mi dissero siamo tutti suoi siamo pronti a seguirla precedendoli mi rimisi in via solo alcuni si perdettero di coraggio e si arrestarono una gran parte di essi giunse con me alla meta percorso tutto il pergolato mi trovai in un bellissimo giardino i miei pochi seguaci erano dimagriti scarnigliati sanguinanti allora si levò una brezza leggera e a quel soffio tutti guarirono soffiò un altro vento e come per incanto mi trovai circondato da un numero immenso di giovani e di chierici di laici coadiutori e anche di preti che si misero a lavorare con me guidando quella gioventù parecchi li riconobbi molti non li conoscevo ancora allora la santa vergine che era stata la mia guida mi interrogò sai cosa significa ciò che tu vedi ora e ciò che hai visto prima no sappi che la via da te percorsa tra le rose e le spine significa la cura che tu dovrai prenderti della gioventù le spine significano gli ostacoli i patimenti i dispiaceri che vi toccheranno ma non vi perdete di coraggio con la carità e con la mortificazione tutto supererete e giungerete alle rose senza spine appena la madre di dio ebbe finito di parlare rinvenni e mi trovai nella mia stanza vi ho raccontato questo concluse perché ognuno di noi abbia la sicurezza che è la madonna che vuole la nostra congregazione e perché ci animiamo sempre più a lavorare per la maggior gloria di dio salus ex inimicis nostris pensare a fondare una società religiosa in quei tempi era una temeraria follia le note leggi di soppressione condannavano alla estinzione quelle già esistenti un giorno il ministro rattazzi che come si sa aveva la sua parte in quelle famigerate leggi gli disse quasi d'improvviso caro Don Bosco io ammiro lo scopo eminentemente filantropico dell'opera sua e faccio voti che viva molti anni per il bene di tanti giovani ma lei è mortale come ogni altro e se venisse a mancare che cosa ne sarebbe di questa sua opera ha già pensato a questo caso eccellenza rispose Don Bosco è questo il mio maggior fastidio e se lei istituisse una società di gente sacerdoti o laici sotto certe norme imbevuti del suo spirito animati dallo stesso zelo che fossero suoi aiutanti e poi suoi continuatori gran bella cosa eccellenza ma in questi tempi di persecuzione crede che sia possibile possibilissimo e lei istituisca una società secondo le esigenze dei tempi che sia soggetti alle vigenti leggi che paghi le imposte una società insomma di liberi cittadini i quali si uniscono a vivere insieme a scopo di beneficenza quella proposta fu per Don Bosco una rivelazione essendo Rattazzi riputato un oracolo in materia politica e subito lo prese in parola soggiungendo e l'eccellenza vostra me la passerebbe una società in questa forma ma si la proverei e la farai approvare il santo ne abbozzò le regole le quali furono davvero approvate e la società salesiana prese vita e visse e vivrà in grazia di quello stesso che due anni prima aveva proposto la legge contro le corporazioni religiose Don Bosco parlandone con gli altri amici e con i suoi figlioli andava scherzosamente ripetendo salus ex inimicis nostri l'istituzione della nostra congregazione religiosa la dobbiamo i nemici delle istituzioni religiose vedete un po' gli scherzi della provvidenza faremo a metà nel 1854 Don Bosco incontra un giovanetto sui 17 anni Michele Rua che gli viene incontro chiedendogli un'immagine e si ferma a guardarlo poi facendo segno con la destra di dividere la mano sinistra a metà gli dice Michelino noi faremo a metà il fanciullo che non aveva mai veduto né conosciuto Don Bosco non comprese allora l'arcano di quelle parole ma ripetendosi più volte la scena si sentì attratto verso di lui e prese a seguire il santo come l'ombra segue il corpo divenne il suo primo chierico il suo primo sacerdote il suo primo principale aiutante il suo primo successore Don Rua il quale dopo aver fatto a metà con il suo maestro nello splendore delle virtù farà a metà anche nello splendore della santità fu beatificato da Paolo VI nel 1976 fede che vince gli ostacoli nel 1869 era tornato a Roma risoluto di ottenere l'approvazione della Pia società salesiana alla stazione lo attendeva la vettura del cardinal Berardi con preghiera di recarsi subito da lui a visitare e benedire un suo nipotino di 11 anni figlio unico di famiglia nobile e ricchissima che da 15 giorni lottava tra la vita e la morte travagliato da forte febbre tifoidea ribelle ad ogni cura all'apparire di Don Bosco tutti i familiari gridarono oh Don Bosco lo faccia guarire ed egli rivolto al cardinale disse sono venuto perché vostra eminenza mi aiuti presso il santo padre ad ottenere l'approvazione della società salesiana ebbene e la faccia guarire questo mio nipote ed io andrò parlerò farò di tutto presso il santo padre Don Bosco raccomanda a tutti di aver fiducia in Maria ausiliatrice s'appressa all'entuccio dell'infermo lo benedice e all'istante il bambino è libero dalla febbre e perfettamente guarito tutti acclamarono al santo mentre egli esclamava rendete grazie a Maria ausiliatrice la podagra del cardinale ma questo non era che l'inizio i cardinali che dovevano dare il voto erano parecchi e tutti contrari chi poteva influire assai era il cardinale Antonelli segretario di stato di Pio IX Don Bosco si recò a fargli visita e lo trovò immobile su un seggiolone venga avanti carissimo Don Bosco venga avanti Eminenza come sta? eh vede come sto sono inchiodato qui da parecchi giorni soffro terribilmente di podagra Eminenza mi aiuti nei miei affari ed io le garantisco che starà meglio che cosa desidera da me sono venuto per supplicarla di occuparsi della società salesiana già è cosa assai difficile questa tuttavia le prometto di occuparmene appena potrò andare all'udienza ho bisogno che ci vada presto anzi domani che cosa dice e la vede come mi trova non posso muovermi Eminenza abbia fede in Maria ausiliatrice e vada domani domani starà meglio e se poi mi accadrà il peggio sarò io il responsabile la Madonna sa come fare va bene se avverrà come lei dice andrò domani e farò di tutto per la sua società il giorno seguente i dolori erano completamente cessati e il cardinale poteva andare all'udienza e raccontava al papa il dialogo e la guarigione la febbre da cavallo scompare cadevano così ad uno ad uno gli ostacoli ma ne restava ancora uno e forse il maggiore il più restio all'approvazione era Monsignor Svegliati dotto ed attivissimo segretario della sacra congregazione Don Bosco decise di andarlo a trovare era a letto minacciato da serie polmonite Monsignore ho bisogno del suo aiuto gli dice Don Bosco e gli espone il suo desiderio caro Don Bosco la cosa è molto seria quasi impossibile io poi non so quando potrò andare in ufficio trovandomi come ella mi vede eppure io ho bisogno che ella vada e presto dal Santo Padre ma come vuole che vada con questa tosse così violenta e con questa febbre da cavallo Monsignore la tosse passerà diminuirai la febbre ho bisogno che vada domani il malato lo osservò con occhi stupiti e Don Bosco continuò abbia fede Monsignore io la raccomanderò alla Madonna e se lei promette di interessarsi per la Pia società salesiana le prometto che guarirà senz'altro se mi assicura questo andrò ma fra qualche di no no domani ho bisogno che vada assolutamente domani ebbene ci andrò domani se starò meglio e le assicuro che parlerò in modo che tutto andrà bene l'indomani la tosse era sparita la febbre calmata e Monsignore pienamente in forze andò parlò perorò in modo che pochi giorni dopo il 29 febbraio 1869 la società salesiana veniva approvata io vi salverò fra le reclute che dovevano partire per la guerra del 1859 contro gli austriaci c'erano anche due dei primi chierici di Don Bosco Cagliero e Francesia questi due si presentano tutti ansanti al santo il quale sereno e ridente disse loro niente paura io vi salverò andate alla Curia Vescovile e fatevi scrivere nella lista di quelli che si debbono presentare per l'esenzione obbediscono premurosamente ma poco dopo ritornano dicendo oh Don Bosco in Curia ci fu risposto che è troppo tardi perché l'elenco è già spedito al ministero e voi andate al ministero pregando di esservi aggiunti ritornano più affannati affermando anche al ministero ci fu risposto che è troppo tardi che la pratica è ormai compiuta ed è impossibile ogni aggiunta ebbene rivolgetevi al ministero di grazia e giustizia per le vostre ragioni voi come chierici dovete essere esenti ritornano la terza volta sospirando ed esclamando alla Curia e ai ministeri ci sono tutti contro tutti dicono che è troppo tardi che si tratta di guerra bisogna partire e voi non partirete ripeto ci andrò io dovete essere esenti io vi salverò quei due poveri figlioli commossi fino alle lacrime gridano oh padre perché tanto disturbo per noi se bisogna partire partiremo Vittorio Emanuele avrà due soldati in più o morremo sul campo o ritorneremo con le spalline non si prenda troppi fastidi ed io invece me li voglio prendere questi fastidi è proprio per voi vi ho detto che vi salverò e vi salverò ad ogni costo si portò alla Curia dalla Curia al Ministero e poi di nuovo alla Curia esaminò attentamente la lista dei chieri cesenti trovò che due proprio due fra gli elencati si trovavano come figli di madre vedova già in condizione di essere esenti allora volò con aria di trionfo al Ministero della Guerra e poté farli sostituire con i suoi due Cagliero e Francesia fu davvero un lavoro frebbrile ma coronato da esito splendido lo hai sentito quel tuono? Don Bosco amava teneramente i figlioli e anche lontano vegliava su di loro un giorno un suo chierico fu invitato da una famiglia di benefattori ad andare a passare la giornata insieme il santo conoscendo la bontà di quei signori accondiscese e diede il permesso ma ecco a un certo punto del pomeriggio domanda con insistenza del chierico assente e manda in giro a cercarlo la sua inquietudine si fa grande e va esclamando dove sarà che cosa farà ma Don Bosco non ricorda che lei stesso gli ha dato il permesso sì ricordo ma ora vorrei che fosse qui nessuno poteva comprendere il perché di tanta agitazione in lui sempre così calmo e inalterabile ma lo si seppe alla sera al ritorno di quel chierico il buon chierico si presenta lo saluta gli bacia la mano ed il santo gli dice lo hai sentito quel tuono sì padre l'ho udito e l'ho capito solo un miracolo mi ha potuto salvare mi sono trovato in grave pericolo ebbene va a ringraziare la Madonna e dille che le sarai sempre degno figliolo il chierico obbedì e ai compagni che curiosi volevano sapere raccontò in quella famiglia così onesta e cristiana era giunta una persona estranea poco corretta mise gli occhi su di me e mi pose in grave pericolo mi tese insidie e chissà che danno avrebbe tentato se in un momento non si fosse fatto sentire un fortissimo tuono allora ho capito che Don Bosco vegliava su di me ed ho subito fatto fagotto quella sera Don Bosco fu oggetto di molti commenti e di molte interrogazioni ed egli scherzosamente rispondeva questa volta il tuono fu senza tempesta ma allerta miei cari perché i tuoni di Don Bosco sono terribili ho indovinato nelle vacanze scolastiche dell'anno 1878 si presentò a Val Docco il capo stazione di Torino accompagnato da un ragazzo sui 16 anni figlio di un suo amico e studente di tecnica chiedendo di visitare l'oratorio Don Bosco che si trovava in cortile salutato al capo stazione si offrì egli stesso di accompagnarli facendo il giro della casa e fornendo le più esatte spiegazioni di ogni cosa quando furono per congedarsi Don Bosco salutando il capo stazione batte la mano sulla spalla del giovane e gli disse quanto a te Albanello fermati qui che ho bisogno di parlarti nessuno aveva detto Don Bosco il nome del giovane il poveretto restò come intontito sentendolo pronunziare da Don Bosco e lo seguì come un automa giunto in camera sua il santo soggiunse ed ora inginocchiati perché devo confessarti ma sono parecchi anni che non mi confesso lo so lo so ed è per questo che ti dico di confessarti ma ma ci vorrebbe un po' di preparazione non occorre io ti farò la storia di tutta la tua vita e tu giudicherai se ho indovinato quando ebbe terminato lo interrogò ebbene Albanello ho indovinato fin troppo rispose Albanello quasi sbalordito ora domandane perdono al signore poi ti assolverò quel giovane pianse come non aveva pianto mai poi alzatosi voleva congedarsi ma il santo posandogli la mano sul capo continuò non basta Albanello la Madonna ti vuole qui e tu ritornerai all'oratorio ti fermerai con Don Bosco che ti darà l'abito da prete e ti manderà missionario oh non so vedremo sì lo vedremo e vedrai se indovinerò l'albanello partì ringraziando ma ruminando in cuor suo oh questa poi no né prete né tantomeno missionario passarono intanto le vacanze ed Albanello vinto e stravinto dalla vocazione si presentò all'oratorio in due anni compì il ginnasio nel 1880 vestì l'abito per mano di Don Bosco e nel 1882 partì missionario nel Brasile di là ogni volta che scriveva Don Bosco ricordava la storia della sua vocazione festa e vaiolo non stanno insieme nel maggio 1869 si era recato a Lanzo Torenese per la festa di San Filippo Neri titolare di quel suo primo collegio la trovò tutti in desolazione perché ben sette convittori erano colpiti dal vaiolo che minacciava di estendersi a tutta la casa a quella notizia Don Bosco esclama già festa e vaiolo non stanno insieme andate a preparare loro gli abiti in fondo al letto che salirò a benedirli alla vista di Don Bosco i malati gridarono Don Bosco Don Bosco possiamo alzarci ci dia la sua benedizione avete fede nella Madonna sì ebbene alzatevi Don Bosco li benedisse e si ritirò tutti si alzarono si vestirono e si precipitarono in cortile meno uno certo Baravalle che dubitando di essere guarito veramente per precauzione se ne sta a letto alla sera viene il medico per la visita e sapendoli alzati in cortile in quella giornata umida e fredda si inquieta grida all'imprudenza giudica che quell'atto sarebbe stato fatale e si affretta all'infermeria dove non trova che il prudente Baravalle il quale con le cure premurose del dottore guarì dopo venti giorni mentre gli altri guariti all'istante da venti giorni correvano e cantavano allegramente che cosa sono mai 90.000 lire Anizza vedendo che la sua casa si era fatta troppo ristretta per il gran numero di giovani che chiedevano di essere accolti deliberò di acquistarne una più grande gli fu indicata una villa in piazza d'armi però gli si disse subito caro Don Bosco quella andrebbe bene ma che ma è troppo costosa pretendono 90.000 lire e che cosa sono mai 90.000 lire 90.000 lire sono 90.000 e lei dove le troverà le troverà la provvidenza eh sì lei ha un bel dire la provvidenza ma intanto non ha un soldo in tasca io non ho niente ma se Dio vuole l'ampliamento dell'istituto farà trovare il denaro per comprare la casa si faccia l'istrumento il comando di Don Bosco non ammetteva repliche il contratto fu concluso subito il denaro fu subito trovato il prezzo pagato e la bella villa a Gautier grande sontuosa magnifica capace di oltre 300 persone passò alle opere di Don Bosco e col nuovo anno si riempì di frugolini e frugoloni irrequieti che la facevano eccheggiare dei loro trilli e dei loro canti più gioiosi Don Bosco esclamava poi vedete che Villa Gautier è venuta anche in barba alle 90.000 lire oh la provvidenza la provvidenza essa ha le braccia più lunghe assai della nostra poca fede negli imbrogli nei suoi ultimi anni trovandosi il santo amati torinese per un po' di riposo non faceva che sognare i suoi figlioli ed esprimere il desiderio di far di più per loro quando ecco riceve da una insignia benefatrice un'offerta di lire 2.500 pregrazia ricevuta chiedendo ancora preghiere per una grazia nuova il santo risponde sollecitamente e promette che avrebbe pregato e fatto pregare poco dopo riceve dalla stessa signora un'altra offerta di lire 3.000 don bosco ringrazia di nuovo più sentitamente promettendo di nuove preghiere la signora manda una terza offerta di 10.000 lire allora il santo volgendosi ai superiori della casa esclamò ora mi trovo davvero negli imbrogli ditemi voi come debbo comportarmi costai non la vuol cedere e rideva di un sorriso angelico mentre due grosse lacrime dirigavano il viso ci rivedremo al cadere delle rose si presentò un giorno ad un bosco un suo religioso coadiutore il quale allettato dalle belle promesse dei parenti prese a dirgli che da qualche tempo trovava pesante la vita religiosa e quindi desiderava ritornarsene a casa sua don bosco l'ascoltò attentamente e poi rispose ho capito tutto tu dunque vuoi lasciare la nostra casa perché vi trovi qualche spina e vuoi ritornare in famiglia ove tutto ti pare fiorito ebbene va pure ma ci rivedremo al cadere delle rose il buon coadiutore lo salutò contento gli baciò ripetutamente la mano e se ne andò il suo arrivo in famiglia fu salutato con ovazioni e feste con pranzi e cene e inviti anche dagli amici e conoscenti ma col passare delle settimane e dei mesi incominciarono le angolosità le parole dure le risposte piccanti i tratti scortesi i diverbi le provocazioni le contese fino al punto in cui ad una sorella la più affezionata sfuggì la parola rinnegato fu l'ultima stilettata al cuore del povero religioso non mangiò più non dormì più radunò i suoi indumenti rifece le sue valigie e via a Torino all'oratorio dove buttandosi ai piedi di Don Bosco esclamò padre anche se non ne sono più degno mi accolga ancora fra i suoi figli Don Bosco che già lo attendeva lo rialzò sorridente e gli disse te lo avevo detto che al cadere delle rose ci saremmo riveduti or bene va ripiglia il tuo posto ritorna alle tue occupazioni e non pensare più né alla casa né ai parenti ti deve bastare il mio amore mani bucate un giorno Don Bosco che era nemico dei debiti si trattenne con alcuni dei suoi primi salesiani tra i quali vi era pure Don Rua che fungeva da economo ad un certo punto rivolgendo la parola quest'ultimo disse senti Don Rua tutti domandano denaro e tu li mandi via mo'anni vuote oh Don Bosco questo avviene per il semplice motivo che sono vuote le casse ebbene si vendano quelle poche cartelle che ci rimangono e così pagheremo i debiti qualcuna fu già venduta ma vendere proprio tutto non pare conveniente vendi vendi il signore provvederà perdoni Don Bosco su quei pochi denari che tengo ho già fatto i miei conti fra 15 giorni si dovrà pagare quel grosso debito di 28.000 lire che scade ma no questa è follia lasciare da pagare i debiti di oggi per pagare quelli che scadranno fra 15 giorni vendi vendi paga ma i debiti di oggi si possono differire quell'altro no vendi vendi il signore provvederà è un chiudere la via alla divina provvidenza il voler tenere in serbo per i bisogni futuri ma la provvidenza suggerisce pure di pensare all'avvenire e già altre volte ci siamo trovati in gravi situazioni vendi vendi ascoltami vai in ufficio metti fuori quanto hai soddisfa e mettiamoci nelle mani del signore poi rivolgendosi a tutti i presenti esclamò quando sarà possibile trovare un economo che abbia le mani bucate ossia che mi assecondi interamente tutti risero col buon padre di quella magnifica espressione e gridarono in coro l'uomo dalle mani bucate è bello e trovato è Don Rua e fu così davvero perché Don Rua da quel giorno assecondò interamente Don Bosco l'anima dei divertimenti Don Bosco era solito dire la gioventù bisogna sempre tenerla occupata perché l'acqua stagnante imputridisce egli amava le ricreazioni clamorose e per darne l'esempio era sempre il primo ai giochi e l'anima dei divertimenti sveltissimo a correre non di rado sfidava tutti i suoi giovani a sopravanzarlo li allineava e gridava uno due tre un nugolo di ragazzi si slanciava alla corsa ma Don Bosco era sempre il primo a raggiungere la meta allora per non lasciarli mortificati andava a riempirsi le tasche di caramelle e ne lanciava di qua e di là in mezzo agli crocchi e gli a tutti sorrideva a tutti dispensava con la caramella anche una parola dolce arguta incoraggiante veramente paterna questi suoi modi gli accaparrarono tanto l'animo di tutti che ognuno che ognuno andava a gara per dimostrare con l'obbedienza e rispetto quanto fosse l'amore e la riconoscenza di cui si sentivano pervasi così voleva facessero poi tutti i suoi salesiani e che la ricreazione fosse sempre animata e chiassosa un giorno che ne vide alcuni starsene in crocchio a chiacchierare si fece subito in mezzo a dire guardate che mentre voi riposate il demonio lavora a chi gli osservava che a correre e a giocare si sciuppavano le scarpe di vestiti rispondeva via via meglio spendere in scarpe in vestiti che in medicine sarti e calzolai li abbiamo in casa è meglio essere in grazia a Dio rattoppati che nelle mani del demonio lucidi ed attillati quello della cioccolata nelle case salesiane si suole celebrare con particolare solennità la festa di San Luigi Gonzaga e già fin dai primi tempi Don Bosco dava questa festa la massima importanza nell'anno 1858 per quella circostanza aveva ordinato ad un esercizio della città un servizio di caffè latte e cioccolata con i rispettivi panini e dolci a metà della messa giunge il garzone con un carretto e depone ogni cosa presso la sacristia poi entra in chiesa tratto dalla melodia dei canti e dallo splendore della funzione il sacrista che era rimasto a custodire tutto quel ben di Dio non seppe resistere alla fragranza che emanava da quelle caffettiere fumanti e dalla lecornia di quei dolci che pareva gli dicessero prendi e mangia di fatti dopo breve alternativa si fa coraggio e franco e risoluto mesce un primo tazzone poi un secondo e un terzo sempre inzuppando e insaccando a piene gote terminata la messa i signori si accomodano in un salotto attiguo il cameriere a un ceno di Don Bosco corre a prendere la colazione e trova quasi vuote le caffettiere e quasi sparito addirittura il servizio dei dolci oh povero me come si fa tutto tremante corre a raccontare a Don Bosco la sparizione Don Bosco che non si scoponeva mai lo rimanda di corsa per una nuova provvista e così si rimedia ad ogni cosa ma intanto chi sarà stato l'autore della birbonata quando ecco alcuni ragazzi si precipitano affannosi attorno a Don Bosco a dirgli piangendo presto presto Don Bosco venga a vedere il sacrista che muore dov'è? laggiù in fondo al cortile si stira e si dimena a terra e grida io muoio io muoio Don Bosco accorre Viglietti confesca la maracchella chiede perdono e prega di disporlo a morire no non morrai gli dice Don Bosco solo il ricordo ti resterà portato all'infermeria se la cavò con una buona dose di olio di ricino ma da quel giorno tutti presero a chiamarlo quello della cioccolata e questo nome gli era appiccicato ancora cinquant'anni dopo da che aveva lasciato l'oratorio generoso come un re Don Bosco quantunque povero era generoso come un re e così voleva che fossero i suoi figlioli un giorno un suo sacerdote condusse ad una passeggiata una schiera dei suoi alunni ad un certo punto avendo smarrito la via si trovò a mezzogiorno in un paese distante ove il buon parroco mosso a compassione li tenne a pranzo con sé facendo loro le più liete cortesie a ritorno raccontò la cosa Don Bosco il quale gli disse e tu che cosa hai dato in compenso? io che cosa dovevo dargli? tu dovevi chiudere in una busta un biglietto da cento lire e dargli la sugellata pregandolo di celebrare una messa per te e per i tuoi giovani ciò ti serva di norma perché in questi casi non bisogna essere stretti di mano ma generosi come un re questa volta rimedierò io allo sbaglio e così fece 500 lire sono troppe era facetto ed ammino anche con i suoi dipendenti nel 1871 inviava il professor Don Paolo Albera che fu poi il suo secondo successore a fondare la casa di Marassi presso Genova costui trattandosi di andare a fondare una casa aveva accettato da amici e conoscenti una piccola scorta di danaro e quando prima di partire il santo gli chiese se avesse bisogno di qualche cosa egli rispose Don Bosco la ringrazio ho già con me 500 lire oh mio caro gli osservò Don Bosco non è necessario tanto danaro anche a Genova vi sarà la provvidenza e tratte dal cassetto poche lire gliele diede ritirandogli il biglietto da 500 il serbare qualunque somma per i bisogni di domani mi pare un'offesa alla divina provvidenza questa massima la lasciò per eredità ai suoi successori e io mi farei salesiano un giorno un giorno in un crocchio di confratelli si parlava con grande ammirazione dei vari ordini religiosi elogiando le gesta e lo zelo di questo e quell'altro ad un certo punto uno esclamò se non fossi salesiano mi farei volentieri don bosco che aveva condiviso ed approvate tutte le lodi accoteste diversi ordini udendo quella conclusione con calma risoluta e incisiva a sua volta esclamò e io se non fossi salesiano mi farei salesiano tutti applaudirono e si buttarono a gara a baciargli la mano il gran segreto Monsignor Ferré vescovo di Casale tenendo una conferenza ai cooperatori salesiani venne fuori con queste parole sapete perché la congregazione di don bosco si estende così prodigiosamente e i collegi salesiani progrediscono così bene ve lo dico io gli è perché don bosco ha due grandi segreti che sono la chiave di tutto il grande bene operato dai suoi primo segreto quello delle spugne egli imbeve i suoi salesiani e i suoi giovani di pratiche di pietà che quasi inebriano e questi pur volendono non possono più fare il male e lo rigettano come le spugne piene rifiutano qualsiasi altro liquido il secondo segreto consiste nel caricare i suoi dipendenti di molto e svariato lavoro egli accumula su ciascuno tante cose da fare li affardella di tante faccende e cure che non hanno ne trovano più il tempo a peccare e quasi neppure a parare le mosche come i muli sotto il tiro continuo riferite queste cose ad un bosco egli approvava ed aggiungeva è per l'appunto così finché saremo buone spugne imbevute di pietà e buoni muli sempre sotto tiro la nostra congregazione marcerà sicura si può dire che tutti sono contro di noi e che noi dobbiamo lottare contro tutti il mondo legale c'è assolutamente avverso il vento soffia contrario da ogni parte ma niente paura finché saremo muli e spugne Dio sarà con noi noi abbiamo dinanzi agli occhi un orizzonte chiarissimo la nostra via è tracciata muli di lavoro spugne di pietà e viva sempre la pia società noi saremo sempre amici quando il buon padre fu colpito dall'ultima malattia il giovane Luigi Orione fu uno dei dodici che offersero la propria vita del Signore per prolungare l'esistenza del Santo sottoscrivendo in un foglio questa commovente implorazione O Gesù sacramentato Maria ausiliatrice dei cristiani San Francesco di Sales nostro patrono i poveri sottoscritti al fine di ottenere la conservazione del loro amatissimo padre superiore Don Bosco offrono in cambio la propria vita De vi supplichiamo degnatevi di gradire l'offerta e di esaudirci il foglio fu collocato sull'altare di Sant'Anna nella chiesa di Maria ausiliatrice mentre Don Berto segretario del Santo celebrava la messa per quella intenzione servito da Luigi Orione il Signore non accolse l'eroica offerta per dare alla chiesa un altro apostolo ai poveri un altro padre ma il giovinetto predestinato sentì la benedizione di Don Bosco appena morto il Santo Luigi Orione era giunto all'oratorio nell'ottobre del 1886 proveniva dal seminario francescano di Voghera dal quale era uscito dopo una forte polmonite era figlio di un povero selciatore di strada Luigi rimase incantato di Don Bosco quando raramente ormai scendeva in cortile Luigi gli correva incontro la prima volta Don Bosco gli sorrise e gli chiese dimmi su com'è la luna al tuo paese è più grossa che a Torino Orione ride estasiato e Don Bosco gli sfiora il capo con la mano se proprio non fiaffilo che sei un bel sempliciotto un complimento che il ragazzo gradì un mondo tanto più che Don Bosco congedandosi gli disse guarda che noi saremo sempre amici per essere amico di Don Bosco Luigino vuoleva anzitutto confessarsi da lui fargli una confessione generale di tutta la vita fece un accurato esame di coscienza consultò alcuni formulari si accusò di tutto tranne che di aver amazzato questo no scrisse riempì tre quaderni e poi anche lui si accodò alla porta di Don Bosco tra i ragazzi che attendevano di confessarsi quando fu il suo turno Don Bosco lo guardò sorridendo dammi i tuoi peccati il ragazzo tirò fuori il primo quadernetto Don Bosco lo prese tra le dita e lo stracciò dammi gli altri anche gli altri quaderni fecero la stessa fine Orione osservava sconcertato e ora la confessione è fatta disse Don Bosco non pensare mai più a quello che hai scritto e gli sorrise Orione non dimenticò mai più quel sorriso il miracolo del dito tagliato il 17 dicembre 1887 assieme agli alunni della quinta ginnasio Luigi Orione si confessò per l'ultima volta da Don Bosco infermo anzi rientrato come gli altri nella sala di studio Orione uscì di nuovo e tornò da Don Bosco fu quello il suo ultimo colloquio con il santo morto Don Bosco tra i giovani che vegliano accanto alla sua salma esposta ai fedeli il primo febbraio 1888 c'è anche Orione che prende dalla folla gli oggetti da posare sul corpo del santo ad un tratto Orione come scrive egli stesso ha una curiosa idea pensa di affettare del pane ridurlo in pillole da posare sul corpo di Don Bosco per poi distribuirle entrato nella sala di refezione prende un grosso e affilato coltello e si accinge ad affettare un filone di pane dalla fretta vibrando il primo colpo si spacca verticalmente l'indice della mano destra egli è mancino angosciato pensa subito che senza quel dito non potrà diventare sacerdote come già aspirava avvolge allora nel fazzoletto il dito tagliato stringendolo bene e lo sostiene con l'altra mano corre presso la salma di Don Bosco e con viva fede accosta il dito sanguinante alla mano di Don Bosco a quel contatto la ferita si rimargina all'istante narrando il fatto prodigioso Don Orione era solito mostrare la cicatrice rimasta nell'indice destro assicurando il perfetto funzionamento del dito divenuto sacerdote fondatore dell'istituto dei figli della divina provvidenza suscitatore di tante opere provvidenziali non dimenticò mai il suo maestro dello spirito di lui e del cottolengo animò il proprio spirito e ai due santi servò la più ferbida devozione non passava forse mai a Torino senza scendere a Valdocco a venerare l'ausiliatrice a pregare Don Bosco appena poteva si inginocchiava in presbiterio al posto che occupava quando giovinetto partecipava alle funzioni come membro del piccolo clero e riviveva pregando i fervori della pietà eucaristica dei tempi di Don Bosco il giorno della canonizzazione primo aprile 1934 egli fu a Roma a rendere omaggio al santo e a dividere con la famiglia salesiana la grande letizia di quella Pasqua che Pio XI definì Pasqua salesiana il 3 aprile seguente partecipò alla solenne udienza che il paparatti concesse ai pellegrini che gremivano la basilica di San Pietro l'essensore di queste note in quella occasione si sentì sussurrare da un alto prelato della curia romana vuol vedere il Don Bosco dei nostri giorni guardi laggiù e gli indicò Don Orione che in quel momento attraversava Piazza San Pietro solo l'aspetto dimesso lo sguardo raggiante di un'intima gioia che gli animava tutta la persona Don Orione fu beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 16 ottobre 1980 La politica di Don Bosco nessuna politica fare del bene a tutti del male a nessuno questa è la mia politica così diceva Don Bosco tattica e savoir faire saper fare furono sempre le armi che adoperava il santo da giovane con i compagni e i compaesani da seminarista con i codiscepoli e coi superiori da sacerdote con tutti e persino coi protestanti con i massoni e con le più alte autorità come attestano gli episodi più piacevoli e più gustosi della sua vita ne scelgo alcuni fra mille prete più prete meno in quei tempi di trionfante liberalismo uomini politici temendo in Don Bosco un oppositore volevano coinvolgere anche lui nei moti rivoluzionari e gli facevano insistenza perché prendesse parte coi suoi giovani ai pubblici festeggiamenti che si svolgevano in Torino un giorno incontrandolo il famoso angelo brofferio gli disse domani in piazza castello è fissato un posto anche per lei veda di non mancare scusi onorevole rispose Don Bosco sono tanto impegnato per procurare il pane ai miei orfanelli se anche non vandassi io altri meglio di me occuperebbero il posto e poi prete più prete meno che importa un altro giorno il marchese Roberto D'Azzeglio lo invitò ad intervenire col suo oratorio alla parata sulla piazza della gran madre di Dio per festeggiare la festa dello statuto signor marchese osservò Don Bosco il mio istituto è una famiglia di giovani poveri male inarnese ci faremmo burlare se facessimo tale comparsa ne scapiterebbe anche l'importanza e la grandiosità della festa mi abbia quindi perscusato altra volta in simili circostanze invitato a pronunciare un discorso d'occasione si scusò dicendo signori mi mettano in mezzo a un esercito di ragazzi o dinnanzi a un raduno di contadini e dei discorsi ne farò a loro piacimento ma dinnanzi a un pubblico colto e scelto col mio dire inelegante il mio fare bonario temerei di mettere a riso l'assemblea e guastare ogni cosa chiamato in municipio a rendere conto dei suoi rifiuti e del suo atteggiamento si presentò con aria di bonomo con la barba da radere con le scarpe mal legate dando risposte di un uomo distratto e poco intelligente tanto che uno di quei signori che non conosceva Don Bosco se non ti nome rivolto ai compagni e mormorò oibo lasciamo un po' stare questo povero mattarello non sarà colui che spianterà le istituzioni dello stato caramelle amare il tratto di Don Bosco coi personaggi del mondo politico e coi ministri di stato fu sempre improntato a un sano realismo e a sollecitudine pastorale eccone un esempio un giorno si recò al ministero degli interni titolare di quella di Castero era Urbano Rattazzi Don Bosco trovò l'anticamera già affollata ma il ministro appena seppe che Don Bosco attendeva si fece premura di riceverlo subito il santo attraversando la fila dei curiosi e meravigliati per quella preferenza si presentò e disse al ministro con quella semplicità tanto naturale in lui quanta gente eccellenza questo suo ufficio mi dà l'aria di un confessionale in tempo di Pasqua eh caro Don Bosco rispose il ministro con questa differenza che chi va a confessarsi se ne parte benedicendo il confessore mentre chi parte dalle nostre udienze spesso ci maledice perché non si è potuto soddisfare alle richieste la conversazione si protrasse assai e quando Don Bosco si alzò per licenziarsi si alzò anche il ministro che prendendo per mano il santo gli disse Don Bosco mi dica qualche cosa Don Bosco lo guardò meravigliato poi con la massima confidenza rispose eccellenza pensi a salvarsi l'anima il ministro stringendo forte la mano a Don Bosco abbassò la fronte e pianse come un ragazzo quando poi gli si chiedeva perché il ministro si fosse messo a piangere e gli rispondeva sorridendo eh gli ho detto qualche cosa ma sono le caramelle amare quelle che fanno bene questo stesso ministro un'altra volta gli fece una domanda strana mi dica Don Bosco io sono scomunicato il santo preso così all'improvviso stette alquanto pensoso e poi rispose eccellenza mi spiace ma non potrei trovare argomenti che lo scusino bravo Don Bosco soggiunse il ministro finora nessuno me l'aveva mai voluto dire preghi per me e faccia pregare i suoi giovani affinché non abbia ad andare all'inferno sì pregherò e farò pregare ma lei faccia così e così il ministro moriva poco dopo aveva chiesto e desiderato il sacerdote e il signore gli aveva certamente usato misericordia perché egli aveva usato misericordia agli orfanelli di Don Bosco gran funerale a corte l'anno 1855 vide uno scontro durissimo fra lo stato piemontese e la chiesa verso la fine del 1854 fu presentato alla camera un progetto legge del ministro urbano rattazzi agli interni nel primo ministerio del marchese camillo cavur tendente a ridurre l'influenza della chiesa come afferma lo storico Francesco Traniello esso proponeva di sciogliere tutti gli ordini religiosi contemplativi che cioè non si dedicavano a qualche ministero attivo istruzione predicazione assistenza ai malati e l'incameramento dei loro beni da parte dello stato che era ciò che soprattutto premeva al cavur le forze cattoliche guidate dai vescovi si organizzarono perché questa cosiddetta legge sui frati non passasse alle camere ma si dava per scontata l'approvazione alla camera dei deputati e di stretta misura anche quella al senato solo il re poteva bloccare la legge stante questa atmosfera in un rigido pomeriggio di dicembre Don Bosco che portava i suoi guanti di lana vecchi e sdruciti per proteggere i grossi geloni alle dita raccontò ai suoi più intimi di aver fatto un sogno strano era nel cortile quando aveva visto entrare dal cancello un valletto di corte vestito di rosso che gridò gran funerale a corte gran funerale a corte appena sveglio Don Bosco prese la penna e scrisse al re pregandolo di impedire a qualunque costo quella legge cinque giorni dopo sognò di nuovo gli pareva di essere nella sua camera intento a scrivere quando ode lo scalpiccio di un cavallo in cortile vede aprirsi la porta ed apparire lo stesso valletto in livrea rossa che entra a metà e grida annunzia non gran funerale a corte ma grandi funerali a corte e ripetute due volte queste parole se ne andò chiudendo la porta dietro di sé Don Bosco corse sul balcone e visto il valletto già in sella gli chiese il perché di tale annunzio ma quegli spronando il cavallo gridò ancora grandi funerali a corte e si dileguò appena giorno il santo indirizzò al re e un'altra lettera nella quale raccontava la seconda minaccia e pregava a sua maestà a fare in modo di impedire ad ogni costo quella legge intanto la regina madre Maria Teresa colpita in quei giorni da grave malore il 12 gennaio muore in età di 54 anni la mattina del 16 le si celebrano i funerali e la sera dello stesso giorno la regina Maria Adelaide riceve il santo viatico e muore il giorno 20 in età di soli 33 anni la stessa sera riceve il viatico il principe Ferdinando fratello del re che spira la notte dal 10 all'11 febbraio in età anche lui di 33 anni i chierici dell'oratorio i soli a conoscenza di queste cose erano esterrefatti nel vedere avverate in modo così fulmineo le profezie di Don Bosco scrive Don Lemoine nemmeno in tempo di peste si erano aperte tre tombe reali nel giro d'un mese intanto alla camera la legge sui frati viene discussa il 15 febbraio e approvata 94 voti contro 23 per passare poi al senato non erano finiti i lutti per casa Savoia il 17 maggio muore il figlioletto del re Vittorio Emanuele Leopoldo di appena 4 mesi si dice che a corte il re sia molto sconcertato per tanti funesti eventi ma il 22 maggio la legge passa anche al senato con 15 voti di maggioranza il re la firmò il 29 maggio questa volta Don Bosco non rise santo e menagramo a seconda da che parte si voglia vedere la cosa aveva previsto giusto purtroppo l'amicizia del re re Vittorio Emanuele secondo che passò alla storia con il nome di padre della patria con le virtù e i difetti che tutti gli riconoscono era in fondo un galantuomo e a modo suo anche un credente dopo le famose lettere dei funerali a corte che tanto l'avevano scombussolato cercò più volte di incontrare Don Bosco senza mai riuscirci con touch disse un giorno al conte d'Angrogna suo aiutante di campo voglio proprio vedere questo prete in faccia ed ecco che un bel mattino cavalcando col suo generale venne a Valdocco e chiese di parlare con Don Bosco per caso pochi minuti prima questi aveva detto al portinaio questa mattina ho molto da fare se venisse anche il re gli dirai che non posso riceverlo il portinaio fu fedele alla consegna e Vittorio Emanuele si allontanò aggrottato l'aiutante il giorno seguente si recò da santo e con fare risentito l'interrogò è lei Don Bosco? sì sono io e lei ha osato scrivere certe lettere al re cercando di imporgli il modo di governare? io ho scritto ma non ho inteso imporre la mia volontà a nessuno allora il generale cominciò ad inveire a chiamarlo impostore fanatico ribelle nemico del re Don Bosco cercò di interrompere quel torrente di ingiurie ma il generale che smaniava sempre più a un certo punto disse senta qui non ci vogliono parole ma fatti lei deve dare soddisfazione degli insulti che ebbe l'ardire di indirizzare al re in che modo? in nome di sua maestà Segga e scriva ciò che io le detterò eccomi pronto il generale incominciò a dettare una formula di ritrattazione che era la negazione della verità Don Bosco depose la penna dicendo non è possibile io non scrivo simili ritrattazioni eppure deve scriverla a qualunque costo e io non la scrivo il generale furibondo si toccò la sciabola come per sfidarlo a duello ma Don Bosco con l'abituale dolcezza lo disarmò e soggiunse Signor Conte se avessi saputo che desiderava aggiustare quest'affare io stesso mi sarei recato a casa sua e le avrei risparmiato l'incomodo di questa gita il generale mezzo sbalordito da quella proposta si sentì calmo e cambiato preso un tono più dolce soggiunse Dunque lei verrebbe a casa mia? Sicuro e ne avrebbe il coraggio? Certo e se la prendessi in parola? faccia pure il giorno dopo allora fissata Don Bosco fu veramente in casa del conte d'Angrogna là si combinò una lettera di convenienza al re e da quel giorno d'Angrogna divenne amico sincero di Don Bosco e suo benefattore in seguito anche Vittorio Emanuele concepì una stima grande per Don Bosco cercando di incontrarlo a Torino e a Firenze disse di lui un giorno all'arcivescovo di Genova Monsignore sa il nostro Don Bosco è veramente un santo è cosa singolare siccome le sue profezie avevano suscitato in Torino un'enorme impressione nel settembre del 1855 piombò all'oratorio il questore di palazzo che gli proibì a nome del re di fare ancora profezie circa le prossime morti e perché osservò Don Bosco perché sono cose che impressionano e potrebbero non avverarsi che impressionino e facciano del bene sì ma che non si siano avverate non è mai capitato ebbene dica a me il nome di chi in quest'anno sarà il primo a morire tra i suoi dipendenti mi dà formale promessa di conservare il segreto la do sul mio onore Boggero Giovanni il questore segnò quel nome sul suo taccuino e se ne andò questo Giovanni Boggero aveva allora 26 anni era di bella presenza di bell'ingegno amato da tutti e in piena salute tre mesi dopo ossia al mattino del 14 dicembre mentre stava per far colazione stramazzò improvvisamente a terra e morì da poplessia fulminante quando il questore venne a saperlo ritornò all'oratorio e disse a Don Bosco dica pure quel che vuole ai suoi giovani ne ha tutte le licenze immaginabili quindi baciandogli la mano commosso si allontanò ripetendo è cosa singolare è cosa troppo singolare a chi poi lo richiedeva circa si fatte profezie il santo sorridendo rispondeva è cosa singolare l'ha detto il questore viva vittorio emmanuele cavur e garibaldi un altro giorno trovandosi a pranzo con esponenti del governo e personaggi di varie tendenze politiche ascoltò i brindisi inneggianti alla libertà a vittorio emmanuele a cavur e a garibaldi invitato poi a parlare anche lui alzò il bicchiere e senza scomporsi esclamò sorridendo viva vittorio emmanuele cavur e garibaldi sotto la bandiera del papa affinché possano salvarsi l'anima tutti l'applaudirono ammirando il tatto fine del santo e la franca professione delle sue idee ed uno di loro gridò evviva Don Bosco egli non vuole proprio la morte di nessuno desiderium peccatorum peribit il 6 agosto 1876 inaugurandosi la ferrovia Torino Cirie Lanzo il prefetto di Torino aveva chiesto di servire il rinfresco alle autorità nel collegio che Don Bosco aveva in quest'ultimo paese vi parteciparono i ministri Agostino De Pretis Giovanni Nicotera Giuseppe Zanardelli con molti deputati e vi presenziò anche Don Bosco servito il rinfresco andarono tutti a sedere in giardino e si portò il discorso sui frequenti viaggi del santo a Roma e sulle sue visite in Vaticano quindi passarono a qualche amichevole scherzo ad un certo punto il deputato a Ercole esclamò Don Bosco legge nei cuori sentiamo un po' da lui chi è più peccatore Nicotera o Zanardelli tutti risero a questa uscita amena e il santo rispose veramente per poter dare una risposta giusta bisognerebbe che venissero qui a fare gli esercizi spirituali e allora dopo una confessione generale potrei dare un giudizio sul loro interno ma siccome Ercole insisteva Nicotera lo interruppe dicendo oh perché vuoi mettere me come termine di paragone domanda invece a Don Bosco se tu sei più peccatore degli altri ed egli non ho voglia di convertirmi io c'è tempo oh sì soggiunse Nicotera non sai che sta scritto nei salmi desideri un peccatore un peribit bene bravissimo ripeterono tutti ed un altro continuò mi dica Don Bosco e la crede che noi ci salveremo io lo spero rispose il santo la misericordia di Dio è tanto grande ma noi non abbiamo voglia di convertirci tanto presto il che vuol dire che desiderano continuare e poi se si sentiranno sì così per l'appunto e allora concluso il santo si avverrà ciò che ha detto quel signore poco fa desideri un peccatorum peribit segreti di famiglia Don Bosco per le sue frequenti visite al papa era sospettato dalla polizia nel maggio del 1860 fu sottoposto ad una minutissima perquisizione durante la quale gli agenti nel visitare un armadio trovarono un cassetto chiuso a chiave che c'è qui chiese con premura al delegato cose confidenziali cose segrete rispose Don Bosco non voglio che alcuno lo apra che confidenze e che segreti venga ad aprire non posso ci sono cose che possono tornare a mio disonore rispettate i segreti di famiglia con noi non ci sono segreti venga ad aprire o scassineremo lo sportello minacciato dalla forza io cedo ma non vorrei aperto il cassetto il delegato abbranca le carte e le ha contenute e facendole vedere ai compagni grida ora ci siamo gongolante di gioia si mette sollecitamente a farle passare assistito dalla cupida curiosità degli altri sbirri ne apre una poi una seconda indi una terza e legge pane somministrato a Don Bosco dal panettiere magra lire 7800 cuoio somministrato ai calzolai di Don Bosco lire 2150 stoffa amministrata alla sartoria dell'oratorio lire 730 ma che razza di carte sono queste adesso che avete cominciato continuate e lo saprete aprono gli altri fogli e non trovano che note di riso paste olio e simili tutte ancora da pagare allora il delegato esclama ma perché ci corbella così io non corbello nessuno non avevo piacere che i miei debiti fossero conosciuti ma già che li avete tutti voluti conoscere pazienza se vi compiacesse di pagarmi almeno qualcuna di queste note fareste un'opera di carità quei signori si posero a ridere e vennero a più miti consigli Don Bosco allora fece portare una bottiglia e bevero tutti alla salute della perquisizione Gatti nell'armadio tra gli inquisitori e i perquisitori più arrabbiati contro i preti e gli istituti religiosi e quindi contro Don Bosco vi era un certo Cavaliar Gatti un alto impiegato governativo con sui era stato incaricato di un'inquisizione alle scuole dell'oratorio e ne aveva fatto al governo non una relazione spietata e menzognera Don Bosco temendo la chiusura del suo istituto si recò direttamente dal ministro dell'istruzione a parare la tempesta il ministro chiamato il Gatti lo mise a confronto con il santo per sostenere le accuse fatte in detta relazione ma costui fu talmente impappinato ed arrabbiato che ad un certo punto non potendo più sostenere le sue menzogne si alzò e pieno di dispetto tentò di andarsene però nella confusione e nel livore che lo divorava sbagliò la porta ed aperto un armadio vi si cacciò dentro a quella vista il ministro gridò ehi cavaliere ad agio quello è un armadio ritorni indietro e alzatosi andò egli stesso ad aprirgli la porta d'uscita le astuzie di una marchesa nel settembre 1864 la capitale del regno fu trasferita da Torino a Firenze e Don Bosco a richiesta da alcuni insigni benefattori decise di recarsi Colà in cerca d'aiuti quel viaggio a Firenze fu un vero trionfo tutti i giornali di quei giorni parlarono di lui fu ospitato nell'arcivescovado i canonici della cattedrale tennero un'accademia in suo onore e le nobiltà tutte gareggiavano per averlo presso di loro la marchesa Gerini fra le altre lo pregò di fermarsi qualche giorno a Firenze e Don Bosco rispose non posso marchesa i miei figli mi aspettano che importa aspettino quando giungerà lo rivedranno oh sì essi aspettano il pane se io non vado chi paga loro il pane quanti sono? circa mille quale somma ci vorrà per provvedere il pane ai suoi giovani in questi giorni? diecimila lire circa e se si trovasse questa somma si fermerebbe davvero? perché no? ebbene io le darò le diecimila lire se è così il signore la benedica esclamò sorridendo puff 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 durante la sua permanenza nella città di Firenze Don Bosco venne chiamato d'urgenza al ministero degli interni per affari di importanza trovandosi a colloquio con il primo ministro Bettino Ricasoli e con il ministro Lanza questi gli chiese ma lei Don Bosco come fa a mantenere tanti giovani e sostenere tante spese? dove prende il denaro? Don Bosco ridendo rispose signor ministro vado avanti a vapore che vuol dire? vado avanti come fa il vapore cioè il treno puff 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 ossia debiti 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 tutti risero di cuore ma poi Lanza soggiunse questo si intende ma poi questi debiti bisognerà onorarli vede eccellenza io le dirò che dietro la macchina ci vuole fuoco perché proceda e Dio ci metto questo fuoco di che fuoco intende parlare? del fuoco della fede in Dio e nella sua provvidenza senza questo fuoco l'opera dell'uomo è nulla cadono gli imperi e rovinano i regni queste parole pronunziate come sapeva pronunziarle il nostro santo lasciarono in tutti coloro un'impressione solenne e si persuasero che egli era veramente l'uomo di Dio titolo di cavaliere quando il conte Luigi Cibrario ministro della pubblica istruzione gli inviò il diploma con la nomina di cavaliere dell'ordine dei santi di Maurizio e Lazzaro egli si affrettò a recarsi da lui e gli disse illustrissimo signor conte se mi chiamassero cavaliere chi oserebbe ancora farmi l'elemosina e poi di croci ne ho già troppe l'onorificenza la dia piuttosto ai miei orfanelli e in che modo? ottenendo loro qualche sussidio per provvederli di pane fu contentato e sulla gazzetta ufficiale di quei giorni comparve il decreto che fissava la pensione di lire 500 annue all'opera di Don Bosco i bersaglieri a Portapia il risorgimento italiano si concluse con la presa di Roma nel 1870 la Francia che manteneva un grosso presidio in Roma a protezione dello Stato Pontificio fu costretta a ritirarlo in seguito alla dichiarazione di guerra di Napoleone III alla Prussia 19 luglio il successivo disastro di Sedan 2 settembre nel quale lo stesso imperatore fu fatto prigioniero consentì al governo italiano di sentirsi le mani libere nei confronti di Roma un esercito di 60.000 uomini al comando del generale Raffaele Cadorna investì Roma che era difesa da 14.600 volontari agli ordini del generale Kanzler Pio IX che considerava un errore la sua fuga a Gaeta nel 1848 era ben deciso a restare in Roma nonostante che diverse nazioni fossero disposte ad ospitarlo una nave inglese era pronta per trasferirlo a Malta il Papa volle consultare persone di sua fiducia primo fra tutti Don Bosco la lettera di risposta del nostro santo fu copiata in bella copia da Don Giovanni Cagliero e allo stile solenne e ispirato di cui si serviva Don Bosco quando parlava in qualità di profeta che la sentinella l'angelo di Israele si fermi al suo posto e stia alla guardia della rocca di Dio e dell'arca santa alle 5.30 del 20 settembre i bersaglieri italiani aprirono il fuoco su Portapia squarciando una breccia di 30 metri il Papa un'ora dopo faceva issare la bandiera bianca su Castel Sant'Angelo poche furono le vittime il Papa si ritirò in Vaticano considerandosi prigioniero si aprinta al modo la famosa questione romana che si protrasse con alterne vicende per quasi 60 anni e che fu composta solo nel 1929 11 febbraio con la conciliazione e la firma dei patti lateranensi i quali secondo l'espressione di Pio XI ridonarono Dio all'Italia e l'Italia a Dio Don Bosco apprese la notizia della conquista di Roma mentre era in visita al suo collegio di Lanzo Torinese con meraviglia di tutti i presenti dice Don Lemoine che fu testè oculare egli non ne fu turbato come se si trattasse di una cosa risaputa da tempo sotto il piede del Papa Nella settimana santa del 1858 il Papa lo volle presso di sé in tutte le funzioni della Basilica di San Pietro e la domenica di Pasqua 4 aprile essendosi il santo portato con un cardinale sulla loggia di San Pietro dove il Papa si sarebbe recato a benedire il popolo di Roma mentre stava osservando e statico quello spettacolo di oltre 200.000 persone ecco arrivargli alle spalle la sedia gestatoria su cui era portato il Papa non potendo più ritirarsi da alcun lato si volse di fianco e la punta del piede del santo pontefice si posò sulla sua spalla due giorni dopo ritornato all'udienza il Papa appena lo vide gli disse con apparente serietà reverendo dove vi siete andato a cacciare il giorno di Pasqua durante la benedizione papale lì dinanzi al Papa e quasi con le spalle sotto il suo piede come se il Papa avesse bisogno di essere sostenuto da Don Bosco santità rispose Don Bosco fui colpito all'improvviso chiedoveni a sé e aggiungete ancora l'affronto col chiedere se mi avete offeso il povero Don Bosco lo guardò con aria così confusa che ci volle tutta la serietà di Pio Nono per non scoppiar a ridere tre papi debitori in un'altra udienza avuta da Pio Nono Don Bosco vi si recò portando una lunga lista di favori spirituali che desiderava ottenere per la società salesiana alcuni erano talmente importanti che egli non osava quasi sperare ad un certo punto il discorso venne sull'attaccamento di Don Bosco e dei suoi salesiani alla Santa Sede e al Papa in particolare e il pontefice esclamò con enfasi caro Don Bosco lo so tre papi sono a voi debitori ne avete difeso la fama oltraggiata con la vostra storia d'Italia con la storia ecclesiastica e con le letture cattoliche tre papi capite vi sono debitori il santo pigliata la palla al balzo alzò gli occhi al santo padre e argutamente soggiunse non solo i passati ma anche i presenti ho capito avete qualcosa da chiedere? allora Don Bosco tirò fuori e presentò la supplica ed il papa esaminatala gli concesse tutti i favori che desiderava dicendo così il papa presente paga i suoi debiti le trecento volpi nell'udienza che Don Bosco ebbe dal papa Pio IX il 19 gennaio 1867 poté constatare quanta fosse la familiarità con la quale questo papa lo trattava caduto il discorso sulle triste condizioni nelle quali settari avevano ridotto la chiesa il papa chiese a Don Bosco e in quanto all'amnistia che abbiamo concesso ai condannati politici che cosa ne dite il santo ben prevedendo i gravi avvenimenti che sarebbero succeduti esitava a rispondere ma il papa soggiunse insistendo su su dite pure liberamente il vostro pensiero vostra santità rispose Don Bosco con quel tratto di sovrana clemenza pare che abbia fatto come Sansone quando catturò le 300 volpi e poi le lasciò andare in libertà esse corsero ovunque a portarvi l'incendio e la distruzione bene bene avete indovinato esclamò il pontefice poi soggiunse noi ci siamo ingannati si ammansiscono e si addomesticano le bestie feroci ma le volpi perdono il pelo non il vizio la voce del cielo al pastore dei pastori l'8 dicembre 1869 Pio IX aprì ufficialmente il concilio Vaticano I voluto dal Papa allo scopo di esporre chiaramente la dottrina cattolica inserrato confronto con gli errori moderni e per definire dogma di fede la prerogativa della infallibilità del Papa ma i tempi per lo Stato della Chiesa volgevano tristi la guerra tra la Francia e la Prussia era nell'aria e la sopravvivenza medesima dello Stato Pontificio difesa strenuamente dal governo del Papa era in serio pericolo si comprende l'ansia di Pio IX nel tentativo di conoscere i segni dei tempi che coinvolgevano con il poter temporale i destini della Chiesa medesima fu detto e scritto che il Papa interrogò personalmente Don Bosco le cui ispirazioni profetiche erano divulgate nei due lunghi colloqui privati che gli concesse nell'udienza dell'8 e del 12 febbraio le precedenti edizioni di questo libro riportavano anche le battute drammatiche del dialogo tra Don Bosco e il Papa in realtà questi parlò delle speranze che riponeva nel Concilio e chiese al Santo di diffondere tra il popolo con la collana di letture cattoliche la dottrina sulla infallibilità del Papa gli chiese anche qualche previsione sul futuro del Concilio e della Chiesa in una successiva udienza 12 febbraio Don Bosco consegnò al Papa alcune pagine di previsioni sull'avvenire l'esposizione di cui si conserva l'autografo di Don Bosco ha uno stile immaginoso simbolico nel quale le previsioni si intrecciano alle invettive agli appelli sovente misteriosi e confusi ora la voce del cielo è al pastore dei pastori tu sei nella gran conferenza con i tuoi assessori allusione questa al concilio e ai padri conciliari in numero di 700 venuti da tutto il mondo ma il nemico del bene studia e pratica tutte le arti contro di te seminerà discordie tra i tuoi assessori susciterà nemici tra i figli miei le potenze del secolo vomiteranno fuoco e vorrebbero che le parole fossero soffocate in gola ai custodi della mia legge ciò non sarà tu accelera se non si sciolgono le difficoltà siano stroncate se sarai nelle angustie non arrestarti ma continua finché sia troncato il capo dell'idra dell'errore questo colpo farà tremare la terra e l'inferno ma il mondo sarà rassicurato e tutti i buoni esulteranno i giorni corrono veloci gli anni si avanzano al numero stabilito ma la gran regina sarà sempre il tuo aiuto e come nei tempi passati così per l'avvenire sarà sempre grande e potente aiuto della chiesa anche del papa poche righe più avanti si dice testualmente ora egli è vecchio cadente inerme spogliato di tutto tuttavia con la parola fa tremare il mondo questo è tutto quanto Don Bosco predisse sul concilio e sul futuro del papa lo sviluppo storico ha confermato quanto quella visione liberatoria ma per il momento impietosa fosse nell'ordine delle cose disposte dalla provvidenza per i suoi misteriosi fini sorpasserà gli anni di San Pietro dal seguente aneddoto appare sempre meglio come Pio IX ricambiasse l'amore che Don Bosco e i salesiani nutrivano per lui e per la sede apostolica e quanto fosse squisita la bontà di questo papa nel febbraio del 1869 ricatosi Don Bosco nuovamente dal papa questi l'accolse con le lacrime agli occhi e gli disse caro Don Bosco io sono vecchio da un momento all'altro posso mancare se avete qualche cosa da chiedere per la vostra congregazione fate presto il santo con la sua tranquillità e sicurezza abituale guardando amorosamente il pontefice rispose in tono profetico santo padre il signore vi serba ancora grandi cose e a fare del gran bene per la chiesa eh soggiunse Pio IX manca solo un anno e mezzo all'età del pontificato di San Pietro e voi santità lo sorpasserete che dite mai non è mai capitato ebbene io dico a vostra santità che non solo vedrà i giorni e gli anni del pontificato di San Pietro ma altri ancora la profezia si avverò predice il nuovo papa morto Pio IX si stava preparando il conclave per l'elezione del nuovo pontefice Don Bosco che aveva trattato con Francesco Crispi in merito al luogo dove si sarebbe potuto tenere un libero conclave in uno di quei giorni si aggirava in Vaticano quando ecco si imbatte in un cardinale che non aveva mai veduto chi gli faceva da guida gli disse ecco qui l'eminentissimo Pecci Don Bosco mira in faccia al porporato poi l'avvicina e con accento filiale gli dice vostra eminenza mi permetterà che le baci la mano chi è lei che si appressa così franco e disinvolto io sono un povero prete che ora bacia la mano a vostra eminenza pregando con ferma speranza che fra pochi giorni le possa baciare il sacro piede badate a quello che fate anzi vi proibisco di pregare a tale scopo ella non può proibirmi di chiedere a Dio quello che a lui piace se voi pregate per questo fine vi minaccio della censura eminenza ella non ha la potestà di infliggere censure quando l'abbia saprò rispettarla ma chi è lei che mi parla così autorevolmente io sono Don Bosco per carità taccete è tempo di lavorare non di burlare niente burla ma verità concluse Don Bosco sorridendo e che fosse la verità lo dimostrò il fatto che il cardinale Gioacchino Pecci pochi giorni dopo era il nuovo Papa Leone XIII incontrandosi poi con Don Bosco andava ripetendo voi foste il primo a salutarmi Papa ed io sarò il primo vostro cooperatore salesiano Il conclave si terrà a Roma Nel febbraio del 1878 incaricato dalla Santa Sede di saggiare le intenzioni del governo circa il prossimo conclave chiese udienza a Francesco Crispi primo ministro e vedendo che Crispi tentennava francamente gli dichiarò A nome del Sacro Collegio chiedo una risposta pronta e categorica perché in ogni caso il conclave verrà tenuto magari a Trieste a quel tempo sotto l'Austria o ad Avignone Francia Crispi colpito da quella fermezza e pensando che il governo avrebbe avuto tutto l'interesse che il Papa fosse eletto a Roma si alzò e tese la mano al Santo dicendogli assicuri da parte mia i cardinali che il governo rispetterà e farà rispettare il conclave e che l'ordine pubblico non sarà minimamente turbato Don Bosco si affrettò a portare la notizia in Vaticano e la segreteria si congratulò con lui per il buon esito della trattativa questa franchezza di carattere e fermezza di idee procurò sempre a Don Bosco ammirazione e benevolenza i papi di Don Bosco Don Bosco conobbe venerò ed ebbe familiari relazioni con due papi del suo tempo Pio IX 1846 1878 e Leone XIII 1878 1903 alcuni episodi rivelano quanto fosse grande la devozione del santo per il vicario di Cristo Niente Monsignore quando nel 1858 Don Bosco si recò la prima volta a Roma a conferire con Pio IX per la fondazione della società salesiana il santo padre per dargli un pegno della sua stima e del suo affetto aveva pensato di nominarlo suo cameriere segreto ossia Monsignore e Don Bosco che non aveva mai ambito onori modestamente ringraziò soggiungendo spiritosamente Santità che bella figura farei io quando comparissi in mezzo ai miei ragazzi vestito da Monsignore i miei figli non mi riconoscerebbero più non oserebbero avvicinarmi e tirarmi da una parte e dall'altra come fanno adesso e poi la gente mi crederebbe ricco e addio elemosine i miei poveri giovani ne avrebbero a morire di fame e le mie opere a perire o quant'è meglio che resti sempre il povero Don Bosco il Papa ammirò l'umiltà così graziosa di lui e lo prese in specialissima confidenza e familiarità la merenda del Papa in quella stessa udienza Pio IX per dimostrare a Don Bosco tutta la paterna bontà che nutriva per lui e per i suoi figli dopo avergli detto vi concedo tutte le facoltà possibili concluse ma voi avete ancora da chiedermi qualche cosa Don Bosco rimase quanto sorpreso e il Papa continuò sì sì voi desiderate ancora qualche cosa da me santità dopo la vostra benedizione che potrei ancora desiderare e come non desiderate far stare allegri i vostri giovani quando sarete ritornati in mezzo a loro beh santità questo sì dunque aspettate aperto lo scrigno ne trasse un bel rotolo di monete d'oro e senza neppure contarle le pose in mano al santo dicendo prendete e date e date loro una buona merenda a mio nome così fu fatto e quella merenda fu chiamata la merenda del Papa questo ante per la chiesa del Papa sfida contro la morte nel maggio 1883 Don Bosco va in Francia in cerca d'aiuti per le sue opere e specialmente per l'erigenda chiesa del sacro cuore di Gesù in Roma che il Papa Leone XIII gli ha caricata sulle spalle il suo viaggio per la Francia è un viaggio trionfale la stessa sera del suo arrivo a Parigi è chiamato a benedire un giovanetto moribondo figlio di una rinomatissima contessa al quale erano già stati amministrati gli ultimi sacramenti si andrò dice Don Bosco lo benedirò ma a patto che domani mattina venga a servirmi la messa alla Maddalena o veterrò una conferenza la proposta pareva strana e sbalorditiva ma egli calmo e sereno sa via a quella casa ed innanzi al morente già entrato nello stato comatoso fa una breve preghiera lo benedice e gli ripete domani verrà a servirmi la messa la notizia di quella sfida lanciata contro la morte si divulga e al mattino seguente la bella chiesa monumentale della Maddalena è presa d'assalto da una moltitudine incuriosita sulla folla taciturna e orante alita l'ansia dell'attesa squilla il campanello che annuncia la messa di Don Bosco ed ecco il giovane continuo ritto e bello come un angelo precedere Don Bosco col messale fra le braccia passava nella folla immensa un fremito di commozione mille binocoli si appuntavano a lui che solo la sera prima era moribondo una nobile donna presente al prodigio vota all'istante tutto il suo cospicuo patrimonio alle opere di Don Bosco altra sfida alla morte quell'anno non doveva chiudersi senza altri scherzi dello stesso genere da parte della divina provvidenza nell'autunno le più autorevoli persone aristocratiche dell'Austria lo richiedevano al letto del principe Enrico figlio del duca di Berri che era agli estremi tutti i giornali lo davano moribondo e si voleva Don Bosco nella ferma fiducia che egli lo guarisse Don Bosco esitava da condiscendere e diceva hanno tanti sacerdoti e possono anche avere dei vescovi che bisogno c'è di far correre il povero Don Bosco si è vero gli si rispondeva ma se quel principe vuole sentire una parola da lei finalmente cedette e partì giunto al castello disse senz'altro a quelli che corsero ad incontrarlo infirmitas aec non est ad mortem l'ammalato non morrà lo benedisse gli fece invocare Maria Ausiliatrice e discese per un po' di ristoro quel giorno era Sant'Enrico onomastico del principe alla fine del pranzo giunge in sala l'infermo a brindare con la moglie Maria Teresa d'Este e con quelli della corte che pendevano dalle labbra di Don Bosco e il giorno seguente prendeva parte ad una partita di caccia data in suo onore quella guarigione fece stupire le celebrità mediche d'Europa che avevano visitato e curato il principe e Don Bosco ritornato a Torino a quanti lo andavano complimentando diceva ridendo oh quanto sia meno in soggezione in casa propria e al letto della povera gente che non nei palazzi reali e al letto dei principi venite a vedere un santo a Marsiglia aveva preso alloggio dai fratelli delle scuole cristiane che tenevano colà un collegio di 600 giovani nei primi giorni passato da molteplici occupazioni non aveva avuto il tempo di intrattenersi con quei ragazzi e neppure i superiori avevano pensato di presentarlo loro un giorno uno di quei convittori attirato dalla curiosità gli si avvicina e Don Bosco con tutta affabilità e confidenza come solleva fare con i suoi di Torino si china al suo orecchio e gli dice una parolina fu una scintilla elettrica quel fanciullo si stacca da Don Bosco e prende a gridare forte compagni compagni venite a vedere un santo l'eccheggiar di quelle grida mise in subbuglio i giovani e i superiori che usciti sulle porte e nei corridoi si spingono si urtano si precipitano per le scale attorno al prete santo il quale sbalordito da quell'irruzione ma placido e sorridente li accoglie come avrebbe fatto un padre affezionato coi più affezionati figlioli la presenza di Don Bosco suscitò tale fermento che tutti vollero parlare e confessarsi da lui producendosi il salutare effetto di una muta di esercizi spirituali quegli zelanti fratelli concedando il santo andavano ripetendo ancora un poco e ci ruba il cuore di tutti i nostri giovani incominciamo ma intanto era passata una bella settimana da che si trovava a Marsiglia e a differenza delle altre volte o nulla o quasi nulla aveva potuto raggranellare per le sue opere un bel giorno mentre quasi angosciato se ne condoleva col direttore dell'istituto sembrò rianimarsi ed esclamò incominciamo e incominciò davvero ecco che essendogli presentato un giovane affatto incapace a reggersi in piedi egli con la benedizione di Maria Ausiliatrice lo raddrizza guarito accorrono a lui altri malati ed egli li sana pienamente ad altri legge nella mente ad altri tocca il cuore ad altri indovina i peccati ad altri predice il futuro li conforta e benedice la notizia di simili prodigi si diffonde come baleno e da tutta la città ed intorni una folla immensa sempre crescente accorre a chiedere la benedizione di Don Bosco e di implorarne grazie e favori con i miracoli fioccano le offerte tutti si accorgono che ha incominciato davvero fede che ammazza nel ritorno dai suoi ultimi viaggi in Francia passò per Grenoble un popolo immenso lo attendeva le piazze e le vie regurgitavano di gente e il parroco che gli era mosso incontro con tutto il clero in forma solenne lo pregò ad alta voce di benedire i suoi parrocchiani quella moltitudine però non si contentò ma tutti gareggiavano per giungere a lui per baciargli le mani o almeno toccarne le vesti alcuni non potendo riuscirvi presero a porgere i rosari e i crocifissi ed altri oggetti per farli arrivare fino a lui e con quelli lo colpivano nella persona nelle mani e perfino nel viso e gli premevano anche sulle mani perché li benedicesse e sulle labbra perché li baciasse ad un certo punto non potendone più pregò i vicini che lo liberassero esclamando povero me la loro fede mi ammazza ci volle del tempo per poter giungere alla vettura vi arrivò ansante e trafelato e facendo vedere ai compagni le mani e la faccia indolenzite diceva ridendo ancora un poco e mi flagellavano come Gesù nel pretorio di Pilato bagno involontario durante questo viaggio a Nizza prese un bagno involontario un giorno ritornando dalle sue visite per accorciare la via si azzardò ad attraversare il fiumicello Paglione sopra un ponticello di legno senza sponde e malfermo caso volle che mettendo il piede in fallo cadesse nell'acqua prima che chi lo accompagnava potesse dargli appoggio inzuppato dalla testa ai piedi fece in pochi passi il breve cammino fino al collegio e domandò abiti e biancheria per cambiarsi il personale e i confratelli accorsi si diedero attorno alla ricerca ma essendo la casa assai povera non fu trovata né una cosa né l'altra per cui il santo dovette mettersi a letto e attendere che il mite sole Nizzardo gli asciugasse gli indumenti avendo pertanto dovuto sospendere le visite e le udienze la cosa fu saputa da molti signori anzi pubblicata da qualche giornale fece in breve il giro della città e fu provvidenza perché giunsero al collegio tre sottane nuovissime due soprabiti fiammanti e molti capi di biancheria e calze per cui Don Bosco ridendo andava esclamando un bagno così redditizio altro che involontario si potrebbe fare ogni giorno l'abbè Bonhomme in quella stessa circostanza trovandosi a Nizza Marittima aveva preso una vettura di piazza ma quando si arrivò al momento di pagare si avvide di essere senza un soldo perciò pregò il vetturale che passasse più tardi dal Patronage Saint-Pierre dove lo avrebbe soddisfatto di chi debbo cercare? di me come si chiama? Abate Bonomo verso sera il vetturale venne e chiesto al portinaio dell'abate Bonomo questi rispose ma qui non c'è nessun Bonomo il vetturale insiste alza la voce ed il portinaio perduta la pazienza gli indica bruscamente la porta quegli tutto rabbioso stava per uscire quando entra Don Bosco al vederlo prende a gridare in aria trionfante voilà la Bebonhomme Don Bosco ridendo lo paga dandogli anche la mancia ed egli soddisfatto e confuso esclama cet homme n'est rien bonhomme il est grandhomme costui non è Bonomo è un grande uomo impresta la sua voce verso i suoi ultimi anni Don Bosco si era di nuovo recato in Francia in cerca d'aiuti ora accadde che il direttore di una di quelle case aveva per quella circostanza fatto preparare una recita con invito a tutti i cooperatori e ai signori della città giunto il momento di andare in scena ecco che viene a mancare improvvisamente la voce ad uno degli attori principali sostituirlo era cosa impossibile licenziare tanta gente senza la recita non era conveniente si ricorse a Don Bosco il quale chiamato a sé il giovane attore gli disse sei contento che ti impressi la mia voce oh Don Bosco lascia fare a me inginocchiati prendi la mia benedizione e va a sostenere la tua parte il ragazzo obbedisce ringrazia va sostiene la sua parte perfettamente ed il santo restò rauco e muto per tutto quel tempo senza poter proferire parola finita la recita e richiamato a sé il giovanotto dopo averlo complimentato gli soggiunse ed ora ritornami la mia voce affinché possa chiedere del pane per i miei orfanelli e la voce ritornò ad un bosco completamente mentre il ragazzo ritornò rauco come prima il trionfo di Barcellona nel 1886 cedendo alle vive istanze dei cooperatori salesiani si recò in Spagna preannunziato da tutti i giornali il suo arrivo a Barcellona fu come l'arrivo di un re da ogni parte erano accorse ad incontrarlo rappresentanze dei personaggi insigni alla stazione l'attendeva un corteo di 40 carrozze delle prime nobiltà per vederlo la gente saliva sui tetti delle case sui muri di cinta sugli alberi della strada si dovettero raddoppiare le corse dei treni e le macchine per trasportare i convogli sovraccarichi di persone l'entusiasmo regnò sovrano in tutti i giorni della sua permanenza in quella città dalle prime ore del mattino fino a tardasera era un affluire continuo di magistrati di dame di nobili di religiosi per vedere almeno una volta il santo ed avere la sua benedizione dalla balconata del suo alloggio in quei giorni guarì gli storpi e rattrappiti malati di ogni età e predisse ad un bambino di due anni che si sarebbe fatto sacerdote salesiano come di fatti avvenne il 15 aprile la società cattolica che contava tra i suoi membri il fiorfiore della cittadinanza volle dare un'accademia in onore di Don Bosco ed insegnirlo con una grande medaglia d'oro e con gli emblemi di San Giorgio si preannunciarono i primi entusiastici discorsi in onore suo e della sua mirabile opera e infine invitarono a parlare anche lui egli si alzò e disse brevemente infine ossia lo scopo della mia società è quello di spopolare le vie di ladroncelli e di scapestrati di educarli alla consolazione delle famiglie ad onore della patria di farne degli uomini che salveranno le vostre sostanze mentre un giorno ve le chiederebbero con la rivoltella alla mano e tutto ciò lo si compie mediante la vostra carità ma solo a Dio tutto l'onore e tutta la gloria quindi con enfasi speciale esclamò fortunata e benedetta Barcellona parlerò di te e delle tue virtù in tutta Italia farò vedere questa medaglia all'augusto pontefice e gli dirò come e quanto qui sia amata e riverita la santità sua fortunata e benedetta Barcellona che sei tanto attaccata alla religione dei tuoi avi e tanto prodiga di beneficenza verso i bisognosi un delirio di applausi e acclamazioni si sprigionò da quei cuori inteneriti e deliranti si fece seduta stante una colletta a favore delle opere salesiane infine diede a tutti la sua benedizione qui lo spettacolo fu dei più commoventi quella folla di signori e signore si prostrò in ginocchio e poi l'assediarono per baciargli il vestito e la mano ci volle un'ora e mezza prima che potesse giungere alla porta ed arrivò a casa molto tardi stanco e spossato ma pure ilare e andava esclamando per scemare alquanto il suo onore quam parva sapientia reggitur mundus quanto poco ci vuole ad ottenere l'ammirazione del mondo le arguzie di don bosco abbiamo detto fin da principio che don bosco era di carattere assai faceto e arguto lo stesso si può dire di sua madre i fatterelli seguenti ne sono una splendida prova il bastone della polenta nei primordi del suo oratorio per mancanza di locali era costretto a radunare in cucina i vari gruppi dei suoi giovani studenti e artigiani in un canto seduti su un tavolo c'erano i sarti che rattoppavano più in là ad un deschetto i calzolai che martellavano poi i legatori che cuccivano i libri dall'altra parte gli studenti che svolgevano i loro compiti don bosco era maestro in tutto insegnava anche il canto e la musica ed aiutava la mamma nel mestiere di cuoco un giorno mentre rimestava la polenta aveva radunato attorno al focolare i cantori ai quali insegnava una canzone per Natale ad un certo punto accortosi che precipitavano alquanto si volge ed alzando il bastone della polenta prese con quello a segnare il tempo quell'atto improvviso e repentino quel bastone giallo e fumante quegli spruzzi bollenti che piovevano sulle mani e sulle facce dei cantori in erba fecero sbellicare dalle risa peccato che non fossero ancora di moda le istantanee e le cartoline illustrate quando troveremo un bue quelle polente però e quelle altre brode di fagioli e di castagne secche non sempre stuzzicavano l'appetito dei suoi giovani e talora succedeva che or l'uno or l'altro facessero il niffolo allora Don Bosco da tenero papà li andava incoraggiando con le sue trovate amene e un giorno disse ad uno dei maggiormente schifiltosi su pin mangia di buona voglia quando troveremo un bue che non sia di nessuno lo macelleremo e faremo delle belle scorpacciate di costolette arrosto tanto bastò perché il ragazzo rassegnato e festoso mangiasse allegramente perché quel chiodo ogni volta che gli capitava di incontrarsi con qualche suo allievo o conoscente che per trascuranza o per inavvertenza non lo salutava faceva suo olfatto attribuito a San Filippo Neri ossia lo fermava e gli diceva amico perché quel chiodo sul cappello l'amico prendeva in mano il cappello e girandolo e rigirandolo rispondeva alquanto smarrito quale chiodo il santo sorridente e buono oh scusa sai mi pareva di vedere un chiodo che ti fermasse il cappello perché passando non mi salutavi tanto bastava per cattivarsi la benevolenza di tutti perché tutti passando l'innanzi lo salutassero con premura affinché non vedesse il chiodo sul cappello i numeri dell'otto un giorno vennero due signori a domandargli i numeri dell'otto il santo non avendo potuto scansarsi alle premurose insistenze disse loro ebbene giocate questi numeri dieci cinque quattordici quelli contenti se ne andavano ma don bosco soggiunse non ne volete la spiegazione no no non ce n'è bisogno ma se non ve la do non saprete giocarli ce la dia dunque sentite bene il numero dieci sono i dieci comandamenti di dio il numero cinque sono i cinque precetti della chiesa il numero quattordici sono le quattordici opere di misericordia corporali e spirituali giocateli davvero e farete fortuna grosso salame trovandosi un giorno con un buon numero di superiori e di ragazzi domandò a uno di questi delle cose che hai veduto in vita tua qual è che ti è piaciuta di più il ragazzo rispose prontamente don bosco tutti applaudirono il santo allora sorridendo raccontò nell'ultima esposizione di torino vennero a visitare quelle grandi novità dei contadini del mio paese entrando nei diversi reparti tutti facevano tutti facevano le più grandi meraviglie delle cose colà esposte solo uno se ne stava sempre zitto e indifferente ognuno pensava fra sé possibile che fra tanti oggetti così vari e meravigliosi nessuno abbia piacergli continuando per tanto il giro arrivarono ad una sala ove tra le altre cose era esposto un grosso e magnifico salame a tal vista quel tale tosto gridò oh questo sì che è proprio bello a quel punto tutti i ragazzi e i superiori capirono che il santo con quell'allusione aveva voluto ridimensionare scherzandoci su l'ammirazione di quel ragazzo per lui cerco il dolce altra volta in casa di signori gli fu portata una tazza di caffè nella quale per sbaglio avevano messo del sale inglese invece dello zucchero egli la centellinò con apparente buon gusto poi indugiando sugli ultimi sorsi esclamò cercavo il dulcis in fundo ma non lo trovo chiarita la cosa le risate furono molte e molte le scuse buon granatiere in uno degli ultimi suoi anni si recò a fargli visita una signora la quale vedendo lo sforzo che faceva per passare da un posto ad un altro del suo studio cercò di sorreggerlo per un braccio ma egli in tono risoluto e faceto si schermì esclamando come un granatiere come Don Bosco crede ella che abbia bisogno di farsi sorreggere questo mai e fece da sé raddoppiando la sua energia la bellezza di quattrocento lire un giorno trovandosi ad una mensa imbandita di molte esquisite vivande giunto al terzo piatto cessò di mangiare accortosene il padrone di casa gli disse lei Don Bosco non mangia non si sente bene sto benissimo rispose il santo ma dinanzi a tanta abbondanza penso ai miei giovani i quali stentano a sfamarsi uno dei convitati si alza e dice giusto ebbene pensiamo anche ai suoi giovani prende un piatto e va in giro per una colletta che fruttò la bellezza di quattrocento lire un peso sul cuore altra volta trovandosi a pranzo dal banchiere cotta ad un certo punto si rannuvolò ed avendogli il banchiere domandato se avesse qualche fastidio rispose ho qui sul cuore un certo peso di parecchie migliaia di lire che lei mi ha dato ad imprestito e che non non saprei come restituire stia di buon umore soggiunse il banchiere fra poco si porterà il caffè e questo le aggiusterà lo stomaco difatti venuto il caffè trovò nel piattino la ricevuta firmata a saldo di tutti i debiti che aveva con la banca farei di cappello al diavolo interrogato come riuscisse a farsela con tutti nobili e signori parlamentari e re rispose guardate miei cari io non avrei difficoltà a fare di cappello al diavolo purché mi lasciasse passare per andare a salvare un'anima tant'è siamo di carnevale quando si recò la prima volta in Francia dovendo fermarsi colà per parecchio tempo fu consigliato di vestirsi secondo l'uso dei preti di quel paese egli acconsentì e pavoneggiandosi con quel cappello e con quel rabacco letto alla francese andava esclamando ciao quest'oggi comincia il carnevale e bisogna far qualcosa di straordinario chi riderà sarà il demonio un giorno trovandosi a conversare con parecchi dei suoi figli questi fecero cadere il discorso sulla sua morte e sul compianto generale che ne sarebbe seguito egli con tutta serenità rispose ebbene se morisse Don Bosco la gente direbbe poverino è morto anche lui e basta chi farebbe gran festa e riderebbe davvero sarebbe il demonio il quale direbbe è finalmente scomparso colui che mi faceva gran guerra e mi rubava le anime Bertoldo Bertoldino Caterina da Ghero seconda superiora generale delle figlie di Maria ausiliatrice accompagnò un giorno dal santo una suora che soffriva di scrupoli ed era di tormento a sé e agli altri Don Bosco l'ascoltò pazientemente poi chiamata la superiora le disse conoscete il libro di Bertoldo Bertoldino e Cacacenno no padre non lo conosco ebbene cercatelo compratelo e quando vedete questa figliola pensierosa fategli releggere qualche pagina lei non ha bisogno che di distrarsi e stare in allegria o così o niente pranzo nel 1884 essendo ospite del vescovo di Pinerolo un giorno quel prelato dovette assentarsi e lasciarlo solo giunta l'ora del pranzo Don Bosco chiamò il cameriere e il giardiniere e li invitò gentilmente a sedere a mensa con sé quelli si profondevano in mille scuse e degli o così o niente pranzo forse che non dovremo stare insieme per sempre nel santo paradiso Giandu Ieide nel carnevale del 1869 che in Torino si festeggia nel modo più decoroso Signorile e Gaio ottenne dal municipio di porre un banco di vendita in piazza Castello negli ultimi giorni dei festeggiamenti il banco dell'oratorio fu tra i più belli e meglio forniti specialmente di libri ameni e divertenti i venditori erano vestiti in costume di Gianduia e attiravano un gran numero di persone spacciando a caro prezzo le loro mercanzie a tutta la nobiltà di Torino gli affari furono eccellenti e quando la contessa di Camburzano il giorno dopo scrisse a Don Bosco congratulandosi con lui dell'idea veramente singolare di cui solo i santi sanno farsi autori egli rispondeva come Don Bosco per tutti così deve approfittare di tutto anche col fare il Gianduia per sfamare i suoi giovani e tirare innanzi le sue opere argenteria che scompare Don Bosco come già si disse era molto spiritoso e faceto trovandosi un giorno a pranzo dal barone Marton in Francia ebbe modo di osservare che i commensali ammiravano assai un ricco servizio da tavola tutto in argento finemente cesellato prima di prendere commiato vedendo che il signor barone forse per dimenticanza o forse per riguardo ai forestieri non gli faceva la solita offerta per le sue opere ricorse a questa astuzia si accostò al tavolo sul quale stava esposto quel servizio e prese ad insaccare nella sua valigetta i baroni e gli altri stavano a vedere come andasse a finire quello scherzo ed egli compiuta l'operazione si volta al barone e chiede signor barone quanto potrà valere questo servizio se si volesse comprare nuovo ci vorrebbero diecimila franchi ma a rivenderlo se ne ritirerebbero forse solo mille ebbene soggiunge Don Bosco tutto serio piuttosto che rivenderlo ad altri lo rimetto a lei mi dia mille lire per i miei orfanelli fu uno scroscio di risa generale e il barone sborsò volentieri le mille lire restituitemi il mio orologio le sue sante arguzie ed amenità se le permetteva anche con persone di riguardo quando fosse stato necessario a Parigi recatosi a far visita ad un ricco signore si sentì rivolgere queste parole un po' adulatorie sento raccontare di voi tante meraviglie sarei curioso di vederne con i miei occhi qualcuna ben volentieri rispose il santo anche subito se volete oh si si esclamò l'altro Don Bosco divagò alquanto e dopo pochi istanti soggiunse eccomi duque pronto la prego di osservare l'ora precisa quel signore fa per cavar di tasca l'orologio e non lo trova più e allora prese a gridare datemi il mio orologio ho prove sufficienti della vostra santità oh no disse Don Bosco l'orologio non ve lo do se non mi date il prezzo equivalente per i miei ragazzi ma il mio orologio costa 300 lire bene bene datemi 300 lire ed eccovi l'orologio il signore regalò non 300 ma 500 lire uovo e gallina un giorno era in conversazione con due medici due avvocati e un professore costoro si erano messi in testa di provare a Don Bosco che l'esistenza di Dio è impossibile Don Bosco li lasciò sfogare per bene e quando ebbero sciorinato tutte le loro ragioni e prove raccontò loro a modo di scherzo la storia dell'uovo e della gallina e interrogò ora a voi è esistito prima l'uovo o la gallina? oh certamente fu prima la gallina rispose subito uno dei medici mentre gli altri approvarono e donde nacque la gallina dall'uovo proruppero insieme ma chi fece quel primo uovo da cui nacque la prima gallina? allora tutti tacquero già che più nessuno sapeva rispondere dite pure soggiunse il santo fu dunque prima l'uovo o la gallina? dopo un istante di silenzio l'altro medico esclamò al diavolo l'uovo e la gallina come si fa a rispondere? allora Don Bosco soggiunse piuttosto che al diavolo io darei l'uovo e la gallina al cuoco che li cucinasse per farci stare allegri ma voi signori miei andate pur dall'uovo alla gallina finché volete e dovrete al fin conchiudere che vi è un Dio che come ha creato tutte le cose ha anche creato l'uovo da cui venne poi la gallina o la gallina da cui venne poi l'uovo e così andiamo pure di figlio in padre finché ci piace ma dobbiamo terminare ad un uomo creato da Dio cioè con Adamo che fu il primo uomo tutti dovettero approvare o almeno tacere e congratularsi col santo che le aveva così bellamente e spiritosamente messi nel sacco curiosità appagata in un viaggio a Parigi si recò a far visita ad un signore molto danaroso ma non troppo benefico né largo in offerte costui desideroso di sapere il fine per cui il santo si fosse recato a Parigi gli disse signore signore abate c'è chi dice che voi siete venuto a Parigi per far conoscere le vostre opere chi per fondare un istituto chi per fini politici signore rispose il santo sapete che cos'è che spinge i lupi ad addentrarsi negli abitati è la fame la sola fame orbene è appunto per togliere la fame ai miei orfanelli e provvedere loro il necessario che sono venuto a Parigi qui vi sono molte persone caritatevoli e generose come voi dalle quali spero un'abbondante carità ho capito rispose quel tale che aveva capito la lezione e non volendo smentire Don Bosco gli lasciò una bella elemosina che non fu l'ultima con una signora bisbettica una signora assai caritatevole ma bisbettica un giorno invitò il santo a pranzo Don Bosco promise ma poi non poté tenere l'invito quella signora indispettita per la mancata parola gli scrisse una lettera di fuoco nella quale finiva col protestare che non avrebbe più dato soccorso alcuno all'oratorio il santo attese qualche giorno per lasciar calmare la bufera poi si recò in persona da lei e con i più bei modi le disse signora sono venuto a riportarle la sua lettera perché mi spiacerebbe se si conservasse per il giorno del giudizio la signora a quelle parole dette fra il serio e il faceto si rasserenò all'istante e fatta la pace riprese a mandare le sue offerte dieci lire per confessarsi un giorno si presentò ad un bosco un individuo chiedendo di confessarsi il santo subito l'accolse con premura e gli domandò quanto tempo è che non vi confessate? sono dieci anni allora datemi dieci lire continuò il santo ma perché? ho sempre sentito dire che per confessarsi non si paga nulla e se per confessarsi non si paga nulla perché mai voi avete aspettato dieci anni? quel tale alzò gli occhi confuso e vedendo Don Bosco sorridere esclamò ha ragione padre d'ora innanzi non sarà più così dunque io sono un burlone questa gli capitò a Parigi per la moltitudine di gente che desiderava parlargli o semplicemente vederlo spesso accadeva che la casa dove pigliava alloggio si gremiva talmente da impedirne l'entrata una mattina dopo messa essendosi alquanto attardato in sacristia non gli fu più possibile aprirsi il passo alle sue preghiere di lasciarlo passare per poter dare le udienze andavano rispondendo rie burlone voi ci volete ingannare no no voi non siete Don Bosco Don Bosco è là e noi vogliamo essere i primi il santo vedendo inutile ogni insistenza pensò bene di andare in cerca di un'altra entrata per la porticina del giardino e man mano che cotesti increduli si presentavano poi a lui in udienza diceva loro scherzosamente dunque io sono un burlone or bene fatemi un'offerta più generosa in compenso della figura patita e fioccavano i biglietti e le monete la contessa giovane Don Bosco aveva più volte udito parlare di una contessa persona molto ricca e molto religiosa e desiderava farne conoscenza ma le circostanze gli avevano sempre impedito di stringere relazione sapeva che Costei aveva un'innocua debolezza si piccava di essere giovane e si offendeva acerbamente che qualcuno accennasse alla sua età avanzata e siccome aveva una figlia che oltrepassava i trent'anni e che la gente chiama la contessa giovane era per lei insopportabile essere chiamata la contessa vecchia un giorno il santo si incontrò all'improvviso con questa contessa la quale si fece a dirgli scusi sarebbe lei Don Bosco per servirla signora ed a chi ho l'onore di essere interrogato sono la contessa X Don Bosco colse al volo l'occasione e subito soggiunse oh la contessa X sono proprio felice di questo incontro e la signora contessa sua madre come sta mia madre è da un pezzo che il signore l'ha presa con sé ma come sento sempre dire che sta benissimo e che è sempre più giovane d'Arzilla guardi Don Bosco lei forse prende a baglio mi scambia con mia figlia io sono la contessa madre oh perdoni signora contessa il mio sbaglio è pienamente scusabile già che la trovo così giovanile mi congratulo con lei eh che vuole soggiunse la contessa sorridendo con visibile compiacenza mi mantengo così perché non ho mai connesso disordini in vita mia ebbene concluse Don Bosco io me ne rallegro con lei e pregherò il signore che la conservi molti anni ancora grazie Don Bosco accetto l'augurio e lei accetta intanto questa piccola offerta per le sue opere d'ora innanzi procurerò di far di più erano due biglietti rossi da cento lire che metteva furtivamente nelle mani di Don Bosco se ne accorgerà abbiamo già raccontato parecchi aneddoti circa la forza di muscoli del nostro santo da giovane da giovane non trovava difficoltà a stritolare fra due dita noci nocciole noccioli di pesca e di albicocche e spezzava come fuscelli le verghe di ferro che servono comunemente di ringhiera ai balconi anche nei suoi ultimi anni di vita e dopo molte malattie poteva far vedere di avere di tale forza quasi nulla perduto nel 1884 trovandosi il santo a letto ammalato il medico curante vedendolo assai depresso volle misurare la forza dell'infermo e presentandogli il braccio gli disse Don Bosco mi stringa il polso con tutta la forza che può il santo lo guardò con aria di meraviglia e insieme di compattimento e rispose badi dottore che se ne accorgerà non abbia timore di farmi male Don Bosco accondiscese e prese a stringere il dottore dopo aver resistito alquanto mandò un grido e svincolando si esclamò basta basta l'esperimento è fatto che branca di ferro allora gli presentò il dinamometro che è l'instrumento col quale si misurano le forze e Don Bosco lo pregò di provarsi prima lui che poter aggiungere i 43 lo pregò ancora di passarlo al sacerdote che lo assisteva questi stringendo con tutta la vigoria raggiunse il 45 adesso mi provo io soggiunse il santo e presolo raggiunse i 60 ossia il massimo che tenaglie esclamò ancora il dottore egli malato è più forte di noi sani cercatemi due mantici questo spirito arguto lo conservò fino agli ultimi suoi giorni quando ai superiori e agli infermieri che l'assistevano e lo compassionavano essendogli il respiro molto pesante disse ancora quasi celiando andate andate in cerca di un fabbricante di mantici che venga ad accomodare i miei e si sforzava di ridere per temperare la comune mestizia di quelle ore affannose questa serenità perenne che l'accompagnò nelle vicende liete e tristi per tutta la vita l'ha ancora accompagnato certamente dinanzi a Dio nell'eterno paradiso Bobo Laia Faboia Anche la mamma di Don Bosco era arguta e facile alle mene trovate ancora quindicenne il padre la lasciò un giorno alla custodia del grano turco disteso nell'aia al sole in quel tempo bivaccavano nei dintorni dei soldati tedeschi che lasciavano liberi alla pastura i loro cavalli questi attratti dall'odore del grano turco si accostarono all'aia di Margherita e presero a mangiare tranquillamente Margherita grida ai cavalli prega i soldati di richiamarli ma i cavalli non se ne danno per inteso ed i soldati burlandosi di lei rispondono in tedesco Bobo Laia e la indispettita grida Boia Faboia e voi siete dei boia che lasciate divorare tutto il nostro raccolto e armatasi di una lunga pertica prese coraggiosamente a battere i cavalli e a cacciarli lontano Chiaroveggenza e doti metapsichiche conosci i segreti nel maggio-giugno 1844 si trova ricoverata all'ospedale di San Giovanni una povera donna tisica all'ultimo stadio la sua vita era stata deplorevole e si temeva che finisse con una morte disperata invischiata in mille tresche da molto tempo non si era più accostata ai sacramenti e dava in alte smanie quando il cappellano o le suore li invitavano a confessarsi anche don Giuseppe Caffasso era stato respinto e questi pregò don Bosco di interessarsene lui egli accorre si mette a parlare di cose indifferenti e infine le fa questa dichiarazione a nome di Dio vi dico che nella sua misericordia egli vi concede ancora poche ore di vita perché possiate pensare all'anima vostra fate presto a confessarvi e ricevere gli altri sacramenti domani sarete all'eternità queste parole riempirono di tanto terrore l'anima di quella infelice che richiamato il santo si confessò in quella stessa sera morì rassegnata e convertita predice l'avvenire erano passati pochi giorni dal fatto suddetto quando una ricca signora moglie dell'ambasciatore del Portogallo in Torino dovendo mettersi in viaggio pensò di sistemare prima le cose dell'anima sua e si recò a tal fine nella chiesa di San Francesco d'Assisi dove don Bosco era vice curato ella non conosceva il santo e neppure don Bosco si era mai incontrato con lei veduto un prete che inginocchiato presso un confessionale pregava con aria molto raccolta si presentò a confessarsi da lui don Bosco l'ascoltò e le consigliò una certa elemosina da farsi in quello stesso giorno padre non posso e come non può dal momento che possiede tante ricchezze la signora rimase sbalordita nel sentire come quel sacerdote avesse conosciuto la sua posizione sociale mentre era certa di non essersi data in nessun modo a conoscere e rispose padre non posso farla questa penitenza perché sto per mettermi in viaggio ebbene faccia quest'altra preghi il suo angelo custode che la preservi da ogni male in ciò che le accadrà quest'oggi la signora restò ancora più colpita ritornata a casa raccontò la cosa ai familiari fece con loro la preghiera all'angelo custode e salì in vettura con la figlia e con una cameriera fatta poca strada ecco che i cavalli si adombrano e si slanciano a una corsa sfrenata il cocchiere è sbalzato di cassetta la carrozza ribalta e la signora si trova col capo a terra mentre i cavalli continuano a precipizio in un attimo di lucidità e la invoca ad alta voce il suo angelo custode ed i cavalli si arrestano all'istante accorre gente a sollevare i caduti e con meraviglia grande trovano che nessuno sarà fatto il più piccolo male la nobile signora ritornata a Torino si recò nuovamente alla chiesa di San Francesco d'Assisi volle sapere chi era quel prete lo volle ringraziare e da quel momento divenne fervente cooperatrice salesiana chi gliel'ha detto? un giorno si presentò a confessarsi una persona che per soverchia timidità o paura più che manifestare i propri peccati cercava di infrascarli e scusarli il santo che leggeva nell'anima dei suoi penitenti lo lasciò fare alquanto ma poi interrompendolo gli disse con bel garbo scusi è venuto per accusarsi o per scusarsi? oh padre per accusarmi dunque si accusi e dica senz'altro ho pensato così e così ho fatto così e così mi è venuto questo questo e gli disse chiare e tonde tutte le sue miserie quel poveretto confuso marci contento baciandogli anche le mani gli domandò ma come ha fatto a sapere tutte queste cose? chi gliel'ha detto? me lo ha detto la sua confusione e paura o meglio gliel'ho letto nel cuore perdoni sa se l'ho indovinato non volevo che facesse un sacrilegio e andasse all'inferno giacché chi si accusa Dio lo scusa chi si scusa Dio lo accusa come fa a saperlo? il conte di Camburzano deputato al Parlamento e grande ammiratore di Don Bosco trovandosi un giorno in una conversazione con personalità politiche prese a raccontare le meraviglie di questo santo sacerdote quasi tutti ascoltavano con aria di sogginio ed una signora più evoluta esclamò vorrei vederlo quest'uomo miracoloso e provare se sa dirmi come mi trovo in coscienza allora crederò quanto si dice di lui tutti applaudirono venne stabilito di farne la prova e la signora in parola scrisse sull'istante a Don Bosco il santo con la solita premura e consueta semplicità rispose a volta di corriere la signora potrebbe starsene tranquilla in coscienza quando ritornasse a suo marito e rimediasse alle sue confessioni da vent'anni addietro quella persona era affatto sconosciuta a Don Bosco e tutte le persone di sua conoscenza la credevano vedova a tale risposta ella andava ripetendo come fa a saperlo e non poteva darsene pace ho la coscienza in regola in uno dei suoi viaggi a inizia marittima fu invitato da Monsignor Postel dopo una lunga conversazione col santo Monsignore venne fuori con questa domanda Don Bosco mi dica se ho la coscienza in regola col Signore il servo di Dio lo guardò con sorpresa e fece per andarsene ma il prelato corre alla porta la chiude a due giri si pone la chiave in tasca e ripete carissimo Don Bosco noi non usciremo di qua finché io non abbia saputo come io sto col Signore a questo tono risoluto e fermo Don Bosco diede un lungo sospiro raccolto in se stesso meditò un istante poi alzando gli occhi in faccia a Monsignore disse con infinita compiacenza e spiccando chiaramente le parole voi siete in stato di grazia oh Don Bosco ma io temo che la sola sua benignità per me lo faccia parlare in questo modo niente benignità questa è la pura verità ma come fa a saperlo le ho letto nel cuore e si abbracciarono teneramente un prete di Polenta un giorno si presenta a Don Bosco un operaio che gli dice di avere cinque bambini ai quali dal giorno antecedente non aveva potuto provvedere il cibo il santo lo guardò con aria di compassione poi fruga di qua fruga di là finalmente trovò quattro soldi e glieli diede accompagnandoli con una sua benedizione partitosi costui Don Bosco si rivolse all'amico Giuseppe Brosio detto il bersagliere che si trovava presente e disse poveretto se avessi avuto cento lire gliele avrei date tutte perché mi ha detto la verità e lei come fa a saperlo se non lo conosce anzi ti dico di più continuò Don Bosco costui è sincero e leale non solo ma laborioso e affezionato alla famiglia fu ridotto alla miseria dalla sola sventura ma come fa a sapere tutto questo allora Don Bosco prendendogli una mano e stringendola forte esclamò gli ho letto nel cuore combinazione volle che dopo qualche tempo Giuseppe Brosio incontrasse per Torino quell'uomo al quale il santo aveva dato i quattro soldi costui riconosciuto lo gli disse con quei quattro soldi ho comperato della farina di Gran Turco ed ho fatto la polenta ai miei bambini ma polenta miracolosa mentre poteva bastare appena per due ne mangiamo in sette e tutti a sazietà tanto che fino all'indomani nessuno sentì più fame Don Bosco è un santo e noi in casa lo chiamiamo il santo della polenta ma non basta dopo quella sua benedizione io ho trovato subito lavoro i miei affari migliorarono quando il bersagliere raccontò a Don Bosco quell'incontro e quel discorso questi esclamò sono proprio un prete di polenta Otis Botis Piatotis la sera del 7 febbraio 1865 Don Bosco raccontava ai suoi giovani il fatto seguente un ricco signore era ammalato da più di due mesi la malattia andava aggravandosi ed un suo amico buon cristiano gli fece notare che sarebbe stato cosa prudente chiamare il prete oh no rispose l'ammalato confessarmi no non voglio che venga nessun prete e se venisse Don Bosco Don Bosco veramente Don Bosco lo vedrei volentieri ne raccontano tante di lui venga pure ma ad un patto che non mi parli di confessione l'infermo si mostrò contentissimo della mia visita ma prego mi disse Tosto mi parli di storia di politica di mille cose ma non di religione né di confessione come desidera signore risposì io e presi a raccontare storielle amene e burlette ridicole rincarando ognor più la dose quando più vedevo che il malato vi pigliava gusto ad un certo punto non potendone proprio più mi pregò di cessare perché l'avrei fatto morire di riso prima che di malattia allora gli dissi bene parliamo dunque di cose serie sia pure ma ricordi Don Bosco che non voglio sentire di confessione questo è il patto che le feci ma signore vuole che non le parli di confessione e sempre me la nomina è segno che le sta a cuore comunque io non la confesserò le parlerò solo della sua vita passata e cominciai a descrivergli minutamente lo stato lacrimevole della sua coscienza l'infermo mi ascoltò con tutta attenzione e quando ebbe finito mi disse ma caro Don Bosco come ha fatto a conoscere così bene tutte le mie azioni ed io risposi vede signore io ho quattro parole con le quali leggo nell'anima a chi voglio quali sono queste parole sono otis botis piatotis il malato spalancò tanto gli occhi e soggiunse dunque è inutile che io mi confessi poiché lei sa tutto la confessione è bella e fatta sì è fatta ed ella non avrà difficoltà a dichiararsi colpevole di questi peccati e pentirsene e fare un proponimento fermo di cambiare vita se al signore piacerà conservargliela ancora nessuna difficoltà anzi ne sarò lietissimo orecchie lunghe viaggiando in treno diretto a San Pier d'Arena gli capitò di dover prendere posto di fronte a due suore della carità di San Vincenzo dei Paoli alla stazione di Asti parecchie persone si presentarono allo sportello a salutarlo e quelle suore capirono di trovarsi in faccia a Don Bosco del quale sentivano tanto parlare ma che non avevano mai veduto grande fu la loro gioia nel vederlo così da vicino e una di esse più ardita l'andava fissando alla sfuggita e pensava fra sé Don Bosco che sia proprio lui giudicandolo da quanto se ne dice io me lo immaginavo alto nella persona tarchiato di aspetto imponente mentre un prete da nulla e poi ha le orecchie così lunghe ad un tratto Don Bosco si volta al confratello che l'accompagnava e gli dice in modo da essere sentito anche dalle due suore senti una volta mi saltò il ticchio di farmi fare la fotografia ma quando il fotografo mi presentò sei piccole copie dopo averle alquante osservate esclamai oh credevo di essere una bella persona alto tarchiato di aspetto imponente e invece mi avvedo di essere un prete da nulla e poi queste orecchie così lunghe la suorina allibi ma Don Bosco per distrarla le domandò sorridendo suorina dove va in Sardegna e in Sardegna che cosa farà sono destinata ad un orfanatrofio femminile oibo lei invece deve occuparsi dei ragazzi che dice mai non le piace forse no eppure sarà così e coi birichini farà tanto del bene giunto a San Pierdarena Don Bosco discese e voltandosi ancora una volta alla suorina le disse sorbrambilla lavori poi volentieri per i ragazzi fu profeta sorbrambilla come scrisse poi lei stessa al santo appena giunta a Sassari si sentì cambiata di situazione e fu addetta all'ospizio maschile magnetismo spurio a Torino in via Santa Teresa uno pseudodottore tale Giurio teneva gabinetto di magnetismo in compagnia di una chiaroveggente chiamata Brancani e poiché molti infermi di malattie nervose o incurabili mandavano colà effetti di loro uso personale esaminando i quali essi diagnosticavano le malattie davano consigli e prescrivevano rimedi Don Bosco volle sfatare questa credulità dannosa e pericolosa vi si presentò con due compagni trovò la sala piena di spettatori dopo aver assistito a parecchie esperienze chiese al dottore di essere messo in comunicazione magnetica con la veggente ad un ceno del dottore il santo incominciò a interrogarla ma le risposte della sonnambula erano strampalate ed inconcludenti e gli trasse allora di tasca una ciocca di capelli e domandò di chi sono questi capelli povero giovane mormorò la donna quanto devi soffrire la persona a cui appartengono questi capelli rispose Don Bosco non è un giovane mi dica almeno dove abita 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 giù giù in via della zecca non è in via della zecca abita più giù e più giù al di là del po niente affatto non abita da quella parte mi dica qual è la sua malattia subito oh quante sofferenze povero infelice ma insomma qual è il suo male incalzò Don Bosco poverino è ammalato di epilessia ma che non fu mai epilettico a questo punto la donna prima impacciata divenne furiosa e ruppe in parole così oscene che provocarono tumulto e indignazione in tutti e fu sciolta la dunanza tutta quella gente uscendo sconcertata si compiaceva con Don Bosco che aveva loro aperto gli occhi la sonnambula un'altra volta avendo saputo che in piazza castello un alienista attirava la gente dando il loro spettacolo di rivelazioni e predizioni per mezzo di una sonnambula facendo persino leggere delle lettere chiuse vi si recò anche lui tenendo in mano una lettera sigillata venga avanti reverendo gridò l'alienista Don Bosco avanzò fin là dove sedeva una donna con gli occhi bendati che cosa comanda reverendo chiese il ciarlatano desidererei sapere il contenuto di questa lettera rispose Don Bosco alzandola alla vista di tutti sarà soddisfatto e rivolto alla sonnambula le comandò di leggere la donna esitò già che il gioco era imprevisto ma costretta a parlare esclamò vedo vedo tutto chiaro e preciso e che cosa vedete non posso dirlo perché non potete dirlo perché perché c'è il segreto quale segreto il segreto del sigillo si capisce signori spiegò l'alienista alla gente e a Don Bosco ha ragione la sonnambula il segreto delle lettere sigillate non può essere violato presto fatto soggiunse Don Bosco rompendo il sigillo così va bene ed ora leggete replicò il ciarlatano alla donna non posso ma perché non potete perché non posso e non voglio operare dinanzi a gente che appartiene all'altare allora tutta quella gente se ne andò fischiando la sonnambula e il ciarlatano ed elogiando il santo che anche qui aveva loro aperto gli occhi i calci dell'ingegnere nel 1869 Don Bosco viaggiava in treno da Firenze a Torino c'erano nel suo scompartimento alcuni signori che discorrevano delle vicende di quei giorni e la presenza di un prete svegliò in loro le antipatie che nutrivano per ogni genere di religiosi e specialmente per i gesuiti uno di loro venne fuori con queste affermazioni bisognerebbe farla finita con quella genia dei gesuiti e sopprimere tutti i collegi tenuti dai preti se comandassi io vorrei anzitutto distruggere quel covile che quel certo Don Bosco ha in Torino e piglierei a calci lui e tutti i suoi giovani indi volgendosi a Don Bosco continuò non è vero reverendo che andrebbe bene così il santo con la sua solita buonarietà e schiettezza rispose a me pare di no conosce lei Don Bosco un pochino non è forse come dico io non credo non è forse vero che l'educazione che egli impartisce ai suoi giovani non è secondo le nostre idee Don Bosco tentennò il capo come per dire non sarebbe meglio che la smettesse con queste sue fanfaluche ma quel Don Bosco alleva tanti gesuiti e noi non abbiamo bisogno né di preti né di frati il santo avrebbe voluto tacere ma compiacente e dignitoso come sempre entrò in lizza per sostenere la buona causa dell'opera sua e rispose senta signore io ho visitato più volte l'oratorio di Don Bosco ho parlato con lui conosco l'istruzione che dà so come educa quei ragazzi e posso assicurarle che egli non ha altra mira che fare di quei poveri orfani dei buoni cristiani e degli onesti cittadini sta bene reverendo quanto ella dice però ecco presentemente noi viviamo in tempi nuovi è passato il medioevo il treno entrò in stazione i viaggiatori si affrettarono a discendere e così fece anche il nostro Mangiapreti che era un ingegnere passarono circa sei mesi ed ecco che a Roma si pubblicarono degli appalti per importanti costruzioni il nostro ingegnere che si sentiva in gamba pensò di concorrere anche lui ma si sa alle volte non basta essere in gamba ci vuole anche quel calcio che aiuti a raggiungere la meta e allora che fare il nostro eroe sentì il bisogno di quel calcio ed incontratosi con un marchese di sua conoscenza lo pregò di interessarsi di lui promettendogli eterna gratitudine il marchese che aveva le braccia lunghe ma non abbastanza rispose ben volentieri direttamente però non ci riuscirei conosco tuttavia chi potrà far bene tutto e chi? Don Bosco Don Bosco? ne ho sentito parlare ebbene scenda a Valdocco si presenti a lui a mio nome e l'affare andrà a meraviglia è influente questo Don Bosco? a Roma e in Vaticano può tutto una sua parolina ai cardinale Antonelli farà il miracolo al signore ingegnere gelava il fegato nel doversi presentare a colui che poc'anzi avrebbe preso volentieri a calci ma trattandosi di una grossa impresa e di un lauto guadagno si fece coraggio ed andò dopo tutto Don Bosco non lo aveva mai veduto e non era conosciuto da lui il santo l'accolse con affabilità e gli disse il sacerdote è sempre felice di poter prestare un buon servizio presenti questo mio biglietto al cardinale Antonelli e si abbia i miei migliori auguri di felice riuscita grazie reverendo se comanda qualche cosa per Roma Don Bosco riflette un istante poi quasi scherzando disse ah ecco la prego che quando si troverà davanti al cardinale di stato non gli dica che Don Bosco bisognerebbe prenderlo a calci e metterlo fuori dall'oratorio l'ingegnere fissò il santo era lui proprio lui il prete del treno immaginate la sua confusione si profuse in mille scuse e protestò la sua perfetta stima per Don Bosco e per la sua opera promettendo che non gli sarebbe mai più capitato di dire male dei preti la pratica a Roma riuscì l'ingegnere ebbe il lucroso appalto e guadagnò fior di quattrini divenendo a poco a poco cristiano esemplare zelante cooperatore salesiano e benefattore insigni di Don Bosco Don Bosco milionario altra volta viaggiando in ferrovia si imbatté in un individuo che alla vista si poteva giudicare un commesso viaggiatore lo scompartimento era quasi pieno e il nostro viaggiatore venne a parlare di Don Bosco sul conto del quale prese a dirne di cotte e di crude quantunque non l'avesse mai conosciuto neppure di vista Don Bosco ascoltava e taceva ma quando il facile chiacchierone venne a dire che Don Bosco era un intrigante e che sprecava i denari della gente per arricchire i parenti lo interruppe dicendo scusi è sicuro di quanto asserisce lo conosce Don Bosco conosce la sua famiglia se lo conosco lo vedo quasi ogni giorno e conosco benissimo anche la sua famiglia egli manda continuamente delle belle somme alla madre e al fratello si è fatto fabbricare una villa al suo paese dove va a passarsi l'estate da gran signore con cavalli e carrozze ebbene mi permette di farle osservare che di tutte queste cose non vi è l'ombra di vero e che sono pure invenzioni come? a me una smentita? e chi è lei che osa tanto? il treno giunge a una stazione e salgono altri viaggiatori i quali vedendo Don Bosco esclamano oh Don Bosco lei è qui come sta? Don Bosco sussurrano i presenti è lui proprio lui sì sono proprio io Don Bosco e ripigliando il discorso mi sento obbligato a dichiararvi che tutto quanto ha detto questo signore non è altro che falsità e bugia mia madre è morta da anni dopo essersi sacrificata con me all'oratorio per il bene di tanti orfanelli mio fratello abita sempre la misera casetta dove siamo nati e di ville cavalli e carrozze ne ho tante quante costui che viaggia come me in terza classe tutti applaudirono alle parole del santo facendo lo segno alle più grandi cortesie ed il merlotto confuso e smarrito alla prima stazione cambia scompartimento i sogni di Don Bosco che valore dava Don Bosco ai suoi sogni? il primo compilatore delle memorie biografiche Don Lemoine riferisce questo giudizio di Don Bosco medesimo nei primi anni io andavo a rilento a prestare a questi sogni tutta quella credenza che meritavano molte volte li attribuivo a scherzi della fantasia raccontando quei sogni annunciando morti imminenti predicendo il futuro più volte ero rimasto nell'incertezza non fidandomi di aver compreso e temendo di dire bugie alcune volte mi confessai da Don Caffasso di questo secondo me azzardato parlare mi ascoltò pensò al quanto poi disse dal momento che quanto dite si avvera potete stare tranquillo e continuare però solo anni dopo quando morì il giovane casalegno e lo vidi nella cassa sopra due sedie nel portico precisamente come nel sogno allora più non esitai a credere fermamente che quei sogni fossero avvisi del Signore a sua volta Don Ceria biografo di Don Bosco che compilò gli ultimi nove volumi delle memorie biografiche classifica i sogni di Don Bosco in tre gruppi sogni che non sono altro che sogni come facciamo noi nelle notte di cattiva digestione a rigore di termini non ci dovrebbero stare nella vita di Don Bosco qualcuno fu riportato nelle memorie biografiche per conoscere più elementi possibili della vita di Don Bosco sogni che non furono sogni ma vere visioni avvenuti in pieno giorno come la rivelazione sul futuro di Giovanni Calghero sogni fate di notte che rivelano cose oscure o future è difficile però distinguere tra le tre categorie una volta non sappiamo quando Don Bosco sognò di trovarsi in San Pietro dentro la grande nicchia che si apre sotto il cornicione a destra della navata centrale perpendicolarmente alla statua bronzea di San Pietro e al medaglione mosaico di Pio IX egli non sa capacitarsi come sia capitato lassù vuole scendere chiama grida ma nessuno risponde finalmente vinto dall'angoscia si sveglia un sogno da cattiva digestione si direbbe ma chi guarda nella nicchia di San Pietro in questo 1936 si vede la grandiosa statua di Don Bosco dello scultore canonica e allora si capisce che la cattiva digestione non c'entrava il sogno che rivela il futuro a nove anni narra Don Bosco nelle memorie biografiche feci un sogno che mi rimase profondamente impresso nella mente mi parve di essere vicino alla mia casa ai becchi in un cortile spazioso dove era raccolta una moltitudine di ragazzetti che giocavano alcuni ridevano altri bestemmiavano io mi sono subito lanciato in mezzo a loro per farli smettere in quel momento apparve un uomo venerando nobilmente vestito il volto era così luminoso che non potevo fissarlo mi chiamò per nome e mi disse non con le percosse ma con la mansuetudine con la carità dovrai acquistare questi tuoi amici mettiti dunque immediatamente a parlare loro sulla bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù confuso e spaventato risposi che io ero un ragazzo povero e ignorante in quel momento i ragazzi cessando le risse e gli schiamazzi si raccolsero tutti intorno a colui che parlava quasi senza sapere cosa dicessi domandai chi siete voi che mi comandate cose impossibili proprio perché queste cose ti sembrano impossibili dovrai renderle possibili con l'obbedienza e acquistando la scienza come potrò acquistare la scienza io ti darò la maestra sotto la sua guida potrai diventare sapiente ma ma chi siete voi io sono il figlio di colei che tua madre ti insegnò a salutare tre volte al giorno il mio nome domandalo a mia madre in quel momento vidi accanto a lui una donna di maestoso aspetto vestita di un manto che splendeva come il sole scorgendomi confuso mi fece cenno di avvicinarmi mi prese con bontà per mano guarda mi disse guardando mi accorsi che quei ragazzi erano tutti scomparse e al loro posto vidi una moltitudine di capretti cani gatti orsi e altri animali ecco il tuo campo ecco dove dovrai lavorare renditi umile forte e robusto e ciò che in questo momento vedi succedere di questi animali tu lo farai per i miei figli volsi allora lo sguardo ed ecco invece di animali feroci apparvero altrettanti mansueti agnelli che saltellando correvano e belavano come per far festa intorno a quell'uomo e a quella signora a quel punto mi misi a piangere e pregai quella donna a voler parlare in modo chiaro perché io non sapevo cosa volesse significare lei mi pose la mano sul capo e mi disse a suo tempo tutto comprenderai aveva appena dette queste parole che un rumore mi svegliò e ogni cosa disparde io rimasi sbalordito mi sembrava di avere le mani che facevano male per i pugni che avevo dato che la faccia mi bruciasse per gli schiaffi ricevuti da quei monelli al mattino ho raccontato il sogno prima ai miei fratelli che si misero a ridere poi a mia madre e alla nonna ognuno dava la sua interpretazione diventerai un pecorario disse Giuseppe un capo di briganti malignò Antonio mia madre chissà che non abbia diventare prete ma la nonna diede la sentenza definitiva non bisogna badare ai sogni il sogno del campo di Meliga il 12 ottobre 1844 a Torino alla vigilia di trasferire l'oratorio nella periferia di Valdocco Don Bosco fa un altro sogno che mi parve un appendice di quello fatto ai vecchi a nove anni ancora irrompono i lupi ed egli tenta di fuggire ma una signora vestita da pastorella mi facenno di seguirla guidando quello strano gregge facemmo tre fermate ad ogni fermata molti di quei lupi si cangiavano in agnelli oppresso dalla stanchezza tentai di sedermi ma lei mi invitò a continuare il cammino arrivamo ad un vasto cortile con porticato intorno e all'estremità una chiesa il numero degli agnelli divenne grandissimo sopraggiunsero parecchi pastori per custodirli ma si fermavano poco allora successe una meraviglia molti agnelli si mutavano in pastorelli che si prendevano cura degli altri la pastorella mi invitò a guardare a mezzodì guardando vidi un campo in cui era stata seminata meliga patate cavoli barbabietole lattughe e molti altri erbaggi guarda un'altra volta mi disse e guardai di nuovo allora vidi una stupenda ed alta chiesa un'orchestra una musica instrumentale e vocale mi invitavano a cantar messa nell'interno di quella chiesa era una fascia bianca in cui a caratteri cubitali era scritto hic domus mea inde gloria mea qui è la mia casa di qui uscirà la mia gloria il sogno delle tre chiese nello stesso mese di ottobre rifece un altro sogno che è in sostanza una variante del primo Don Bosco lo riferì a Don Lemoine che si affrettò a metterlo per iscritto una signora mi disse guarda e io vidi una piccola chiesa piccola e bassa con un piccolo cortile e giovani in gran numero essendo la chiesa divenuta troppo angusta ricorsi ancora lei ed essa mi fece vedere un'altra chiesa assai più grande con una casa vicina mi vidi circondato da uno stuolo immenso di giovani e vidi una grandissima chiesa con molti edifici tutto intorno e con un bel monumento nel mezzo c'è evidente prefigurazione dello sviluppo dell'oratorio la prima cappellina ricavata dalla tettoia Pinardi del 1846 la chiesa di san francesco di sales consacrata il 20 giugno 1852 che fu la vera porziuncola salesiana e infine il grande santuario sognato la basilica di maria ausiliatrice chiesa madre della congregazione inaugurata il 9 giugno 1868 nel contesto sonante di tutte le istituzioni di Valdocco c'erano in chiesa 1200 giovani non manca neppure il monumento che i posteri erigeranno a lui Don Bosco davanti al santuario la strena della Madonna dopo le preghiere della sera il 2 gennaio 1862 i giovani in silenzio attesero Don Bosco aveva promesso di annunciare qualcosa di nuovo per l'anno nuovo disse infatti la strena che vi do non è mia che direste se la Madonna in persona venisse da voi ad uno ad uno per dirvi una parola se ella avesse preparato per ciascuno di voi un suo biglietto per indicarvi ciò di cui più ha bisognate o quello che lei vuole da voi ebbene la cosa è appunto così la Madonna dà a ciascuno di voi una strena prima di tutto però io voglio premettere alcune condizioni la prima è che non si divulghi il fatto fuori di casa perché io potrei essere compromesso la seconda è questa chi vuole credervi ci creda se qualcuno non ci vuol credere stracci il suo biglietto non ci diretta ma non se ne burli si guardi dal metterlo in ridicolo capisco che qualcuno vorrà sapere e domanderà come è avvenuto questo la Madonna ha scritto lei i biglietti la Madonna in persona ha parlato a Don Bosco Don Bosco è il segretario della Madonna io vi rispondo non vi dirò niente di più di ciò che ho detto i biglietti li ho scritti io ma come sia avvenuto non ve lo posso dire né alcuno si prende all'incarico di domandarmelo perché mi metterebbe negli imbrogli ciascuno si contenti di sapere che il biglietto viene dalla Madonna è una grazia speciale è da anni che domando questa grazia e finalmente l'ho ottenuta venite dunque in camera mia e darò a ciascuno il proprio biglietto vi assicuro che nemmeno io so quel che è scritto su ogni singolo biglietto io li ho scritti sopra un quaderno accanto al biglietto c'è il nome di ognuno di voi taglio il biglietto e trattengo i nomi per cui se qualcuno lo perde o se lo dimentica non ci posso più far nulla dato che la faccenda è molto lunga in queste sere potrete incominciare a sfilare in camera mia dormite bene e buonanotte i giovani si affrettarono ad affollarsi con grande ansietà nella camera di Don Bosco e ricevettero il loro biglietto personale chi era fuori di sé dalla gioia chi piangeva chi se ne stava appartato qualcuno lo faceva vedere i compagni altri lo tenevano gelosamente nascosto ma per ognuno c'era la parola giusta della Madonna la rivelazione delle proprie doti particolari utilizzate o no Don Bosco sapeva bene che i ragazzi hanno qualche dote che può diventare la qualità che più li distingue dagli altri quante doti aspettano di essere riconosciute nei più bravi che non vogliono farsi avanti in quelli che sono lenti per natura ma che poi finiscono con il fare un lavoro magnifico chi ha hobby al di fuori della scuola occorre essere pronti pronti a scoprire e incoraggiare queste doti naturali dei giovani il sogno dei due samaritani nell'aprile del 1864 a Torino Don Bosco tenne un corso di esercizi spirituali ai suoi giovani seguiti con grande fervore i ragazzi ne uscirono con una freschezza di gioia nel cuore come spesso succede dopo gli esercizi c'era stato subito dopo un crollo improvviso il demonio cacciato fuori aveva scoperto come narra Gesù in una parabola che la casa era pulita spazzata adorna ma vuota e allora con sette spiriti peggiori tentava di riprenderne possesso Don Bosco ebbe due sogni così narra il primo la notte che precedeva il 3 aprile mi pareva di stare dal balcone a guardare i ragazzi che si divertivano nel cortile all'improvviso vidi apparire un vasto lenzuolo bianco che si stese a coprire tutto il cortile i ragazzi continuavano a giocare e a gridare poi vidi molti uccellacci e spaventosi corvi svolazzare sopra quel lenzuolo cercando un barco appena lo trovavano picchiavano addosso ai giovani e li beccavano ogni volta che raggiungevano i ragazzi ne facevano strage a chi cavavano gli occhi ad altri bucavano la lingua tanto da ridurla in frammenti ad altri ancora beccavano la fronte a molti straziavano e laceravano il cuore e cosa strana nessuno dei ragazzi feriti reagiva tutti restavano come insensibili non cercavano neppure di difendersi subito dopo udì un gemito corale straziante prolungato i feriti dai corvi si agitavano gridavano e si ritiravano lontani dagli altri mentre stavo ragionando su quello che vedevo udì bussare la porta e mi risvegliai dopo aver raccontato il sogno ai ragazzi Don Bosco notò che nelle settimane successive pochi ragazzi si confessarono e le comunioni calavano allora il sogno si ripresentò mi pareva di trovarmi presso la ringhiera a guardare i ragazzi in ricreazione di lassù vedevo i ragazzi feriti dai corvi ed ecco vidi avanzare un personaggio con un flacone di balsamo un medicinale meraviglioso accompagnato da un individuo che teneva in mano un pannolino i due pietosi samaritani cominciarono a medicare le piaghe dei feriti appena spalmavano l'unguento i feriti guarivano di colpo ne vidi alcuni però che all'avvicinarsi dei due prodigiosi infermieri si scostavano e fuggivano perché non volevano essere guariti io li conosco tutti e procurerò di sanare le loro ferite il personaggio misterioso col vasetto di medicinale era Gesù chi l'accompagnava era il sacerdote l'usignolo e lo spardiero tra il 3 e il 7 luglio 1872 il caldo stagnava sulla città di Torino Don Bosco in quei giorni pregò il signore di fargli conoscere la cartella clinica spirituale dei suoi ragazzi e una notte sognò quanto narrò poi nel sermoncino detto la buonanotte con cui era solito congedarsi dai suoi figlioli al termine d'ogni giorno mi pareva di trovarmi in un cortile molto spazioso circondato e cintato di case di piante e di cespugli sui rami degli alberi e tra la verzura pigolavano uccelli dentro i nidi pronti ormai a spiccare i primi voli ad un tratto mi cadde davanti ai piedi un piccolo usignolo volevo raccoglierlo ma l'usignolo mi sfuggì e se ne volò al centro del cortile lo rincorsi per aiutarlo ma quello sbatte le ali e sfrecciò verso il cielo di colpo gli piombò addosso uno sparviero lo germì e se lo portò via per divorarselo povero usignoletto mormorai io volevo salvarti ma tu mi sei sfuggito perché hai fatto questo mi rispose un flebile lamento come un accorato pigolio poi udì una voce chiara che diceva siamo in dieci siamo in dieci siamo in dieci lì per lì mi svegliai ma la notte seguente ripresi il sogno dal punto di interruzione precedente vidi volteggiare nell'aria lo sparviero io lo rimproverai per la sua crudele rapina subito mi cadde ai piedi un biglietto su cui erano scritti i nomi di dieci ragazzi che avevano la cartella clinica della loro anima molto disastrata in quel mese di luglio si erano rovinati spiritualmente fin qui il sogno Don Bosco era persuaso che le vacanze sono un tempo difficile per i giovani una specie di pericoloso collaudo e usava una frase molto espressiva i ragazzi vanno in vacanza con Ale di colomba e tornano in autunno con le corna del diavolo voleva dire che i giovanetti quando vanno in vacanza si fanno l'idea anche se non le esprimono in modo esplicito che sia meglio vivere in fretta perché il domani potrebbe non venire mai e per troppi ragazzi vivere in fretta si traduce in dolorosa esperienza di peccato tocca ai genitori e agli educatori vigilare sul comportamento dei loro ragazzi e tenerli sotto un amorevole e dolce controllo un sogno missionario rivelatore l'immensa pianura e gli uomini feroci tra il 1871 e il 1872 Don Bosco fece un sogno nel quale convergono il fervore immaginoso degli anni giovanili in cui vagheggiava di andar missionario e insieme si profila il campo specifico della futura missione dei salesiani il santo lo narrò prima a Pio IX e poi ai suoi pretti Lemoine e Barberie che lo trascrissero fedelmente mi parve di trovarmi in una regione selvaggia e totalmente sconosciuta era un'immensa pianura incolta nella quale non si scororgevano né colline né monti nelle estremità lontanissime però si stagliavano scabrose montagne vidi turbe di uomini che la percorrevano erano quasi nudi di statura straordinaria aspetto feroce avevano capelli ispidi e lunghi colore abbronzato e nerognolo erano vestiti soltanto di larghi mantelli di pelli di animali che scendevano loro dalle spalle per armi usavano una lunga lancia e la fionda quelle tribù di uomini sperse offrivano allo sguardo scene diverse alcuni correvano dando la caccia alle fiere altri andavano portando conficcati sulle punte delle lance pezzi pezzi di carne sanguinolenta gli uni combattevano fra di loro gli altri venivano alle mani con soldati vestiti all'europea e il terreno era sparso di cadaveri io fremevo a quello spettacolo ed ecco spuntare all'estremità della pianura molte persone dal vestito e dal modo di agire capì che erano missionari di vari ordini si avvicinavano per predicare a quei barbari la religione di Gesù Cristo li fissai ben bene ma non conobbi nessuno andarono in mezzo a quei selvaggi i barbari però appena li videro con furore si avventarono contro e li uccidevano ficcavano i macabri il trofei sulla punta delle loro lunghe picche intanto vidi in lontananza un drappello di altri missionari che si avvicinavano ai selvaggi con volto ilare preceduti da una schiera di giovinetti io tremavo pensando vengono a farsi uccidere e mi avvicinai erano chierici e preti li fissai con attenzione e li riconobbi per nostri salesiani i primi mi erano noti e sebbene non abbia potuto conoscere personalmente molti altri che seguivano i primi mi accorsi a essere anch'essi missionari salesiani proprio dei nostri come mai dissi tra me non avrei voluto lasciarli andare avanti ed ero lì per fermarli mi aspettavo che da un momento all'altro toccasse loro la stessa sorte dei primi missionari quando vedi che il loro comparire metteva allegria in tutte quelle tribù di barbari abbassarono le armi deposero la loro ferocia e accolsero i nostri con ogni segno di cortesia meravigliato dicevo tra me vediamo un po' come va a finire e vedi che i nostri missionari si avanzavano verso quei selvaggi li istruivano ed essi ascoltavano volentieri la loro voce insegnavano ed essi imparavano con premura ammonivano ed essi accettavano e mettevano in pratica i loro ammonimenti stetti ad osservare i missionari recitavano il rosario ed i selvaggi rispondevano a quella preghiera dopo un po' i salesiani andarono a porsi nel centro di quella folla che li circondò si inginocchiarono i selvaggi deposte le armi piegarono essi pure le ginocchia ed ecco uno dei salesiani intonare lodate Maria o lingue fedeli e quelle turbe tutte a una voce continuarono il canto con tanta forza di voce che io quasi spaventato mi svegliai è riconoscibile la sceneggiatura delle immense distese della Patagonia del ciaco della terra del fuoco con la cornice nevata delle ande altissime i poveri indios selvaggi da salvare solo il 29 gennaio 1875 Don Bosco annunciò la prima spedizione missionaria in Argentina che sarebbe stata guidata da Don Giovanni Cagliero il sogno dell'identità salesiana sono miei figli e li affido a te è del 1877 il sogno profetico nel quale il carisma proprio della famiglia salesiana è reso in trasparenza dedicarsi alla formazione cristiana dei ragazzi mediante una tenera devozione a Maria parve a Don Bosco di trovarsi in un luogo sconosciuto ma nell'ambiente familiare della sua infanzia tribolata un rustico attrezzi agricoli sparsi su un'aia è l'alba silenzio d'un tratto sode una voce appare un ragazzo di stalla come era stato lui stesso alla cascina moglia vicino ad una donna soave vestita da contadina il ragazzo canta in francese amico venerato sii per noi padre di letto Don Bosco si smarrisce e non riesce a capire il ragazzo continua a cantare i miei compagni ti diranno ciò che vogliamo all'improvviso irrompono sull'aia una vera fiumana di giovani che ritmano un coro o nostra guida menaci al giardino della bontà ma chi sono questi ragazzi domanda imbarazzato Don Bosco gli rispondono in canto la nostra patria è il paese di Maria allora si avanza la gentilissima donna prende per mano il ragazzetto cantore accenna agli altri ragazzi di seguirla e si sposta verso un'altra aia più grande non molto lontana prospicente un grosso fabbricato la donna dall'aspetto misterioso e celestiale si volge a Don Bosco e gli dice questi giovani sono tutti tuoi miei risponde turbato Don Bosco ma con quale autorità lei me li affida con quale autorità la donna ha un leggero sbalzo di voce e un filo di sorriso sono miei figli e io li affido a te ma come farò con tanti giovani così chiassosi e requieti osserva gli ingiunge la donna Don Bosco si volge e vede una grande schiera di ragazzi che avanzano la madonna getta su di loro un suo lungo velo azzurrino poi lo ritira e di colpo come al tocco di una bacchetta magica quei ragazzi diventano adulti preti e chierici e e questi preti e chierici sono miei chiede Don Bosco saranno tuoi se saprai formarteli conclude la donna e scompare con un sorriso la gemma preziosa un altro sogno stupendo è del 1885 pochi anni prima della morte del santo è una sceneggiata poetica secondo il gusto del tempo volta a far capire ai ragazzi il valore della virtù della castità la sua bellezza rara e preziosa è la pulizia interiore che onora la vita l'arricchisce la rende capace di amore vero disinteressato generoso libero e rispettoso degli altri racconta Don Bosco mi pareva di trovarmi davanti a un immenso incantevole declivio verdeggiava in dolce pendio sembrava un paradiso terrestre illuminato da una luce più abbagliante del sole l'erba pettinatissima era punteggiata di fiori in mezzo vi si stendeva un tappeto di un candore così niveo da accecare sugli orli del tappeto si leggeva a caratteri d'oro la seguente scritta Beati i puri che camminano secondo la legge del Signore Dio non priverà di beni quanti camminano nell'innocenza non resteranno confusi in tempi critici e si sazieranno durante i giorni di carestia il Signore conosce i giorni degli immacolati e la loro eredità perdurerà in eterno poi vidi due stupende fanciulle dodicenni sedute sul margine del tappeto dove il declivio faceva scalino il loro contegno era dignitoso irradiavano dagli occhi una gioia di felicità celestiale sulle loro labbra sfavillava un dolce sorriso una veste bianca scendeva fino ai loro piedi e una cintura rossa fiammeggiante con bordi d'oro allacciava i fianchi portavano al collo come monile un nastro di corolle di gigli viole rose come braccialetti avevano ai polsi un mazzo di margherite ma la bellezza e il fulgore di quei fiori non erano confrontabili con le gemme più preziose una capigliatura discendeva lungo le spalle cominciarono un colloquio con uno squillo incantevole di voce una di loro disse che cos'è l'innocenza è lo stato felice della grazia santificante conservata per mezzo della costante ed esatta osservanza della legge di Dio e l'altra fanciulla ribatteva la purezza è fonte e origine di ogni scienza e di tutte le virtù la prima riprese il duetto dopo un attimo di silenzio e disse se i giovani conoscessero quale prezioso tesoro è l'innocenza ma purtroppo non riflettono e non pensano quale danno si infliggono quando la macchiano l'innocenza è come uno squisitissimo liquore e la seconda fanciulla giunse d'accordo ma era chiuso dentro un flacone di fragilissimo cristallo se non è portato con grande cautela facilmente si infrange come il vetro soffiato e la prima ancora l'innocenza è una gemma preziosissima la seconda commentò ma chi non ne conosce il valore la perde con facilità e la baratta con qualsiasi oggetto vile e banale ultimo sogno missionario i salesiani con Maria in tutto il mondo durante la notte dal 9 al 10 aprile del 1886 Don Bosco fece un altro stupendo sogno missionario gli pareva di essere vicino alla casa nativa presso Castelnuovo su un poggio detto colle del vino di lassù lo sguardo spaziava ed ecco ode lo strepito il chiasso di una numerosa moltitudine di ragazzi poco dopo se li vede spuntare dinanzi e correre l'incontro per gridargli ti abbiamo aspettato tanto ma finalmente ci sei e non ci sfuggirai Don Bosco li guarda e si chiede che cosa vogliono da lui a un tratto vede avanzare un immenso greggio guidato da una pastorella che separati gli agnelli dalle pecore si ferma dinanzi a lui per dirgli guarda ciò che ti sta dinanzi ebbene ricorda il sogno da te fatto a nove anni di età con un sorriso fa venire attorno a Don Bosco i ragazzi e gli dice guarda ora da questa parte spingi il tuo sguardo anzi spingetelo voi voi tutti per leggere quanto sta scritto che cosa si vede scorgo montagne poi mare e altri monti e mari risponde Don Bosco io leggo Valparaiso trilla un fanciullo e io Santiago interloquisce un ragazzo adesso continua la pastorella volgiti a guardare da questa parte scorgo montagne colline e mari soggiunge Don Bosco noi leggiamo Pechino esclamano i ragazzi e Don Bosco vede un'immensa città attraversata da un largo fiume su cui si scorgevano ponti lunghissimi bene approva la nobile stupenda pastorella che sembra la mamma di tutti quei giovani poi aggiunge ora tira una sola linea da un'estremità all'altra da Pechino a Santiago fa centro nel mezzo dell'Africa e avrai un'idea esatta di quanto dovranno fare i tuoi salesiani ma ma com'è possibile far tutto questo obietta Don Bosco le distanze sono immense i luoghi inaccessibili sono pochi i salesiani non ti turbare faranno questo i tuoi figli e i figli dei tuoi figli e i loro figli ancora ma si procuri di conservare lo spirito della tua congregazione poi con uno sguardo profondo la pastorella aggiunge mettiti di buona volontà c'è una sola cosa da fare raccomanda ai tuoi figli che coltivino costantemente le virtù della Vergine Madre ebbene conclude Don Bosco predicherò a tutti queste parole sta attento però con quelli che studiano le scienze divine perché la scienza del cielo non si deve mischiare con le cose della terra di colpo tutto si eclissa svanisce Don Bosco non vede più nulla quando Don Bosco raccontò per la prima volta questo sogno gli facevano corona alcuni sacerdoti che di tratto in tratto esclamavano oh la Madonna e Don Bosco sottolineava lei ci ama è la mamma intervista a Don Bosco l'intervista è lo scoop la trovata che fa colpo nel giornalismo moderno oggi tutti i personaggi si fanno intervistare per i mass media e per farsi conoscere al mondo Don Bosco non amava la pubblicità ma era divenuto una personalità di calibro mondiale specie sulla fine della sua vita e non poté sfuggire alle domande dirette di un reporte del giornal de Rome che lo affrontò appunto a Roma nell'aprile del 1884 l'intervista fu pubblicata sul giornale il 25 aprile 1884 eccone uno stralcio vorrebbe dirci qual è il suo sistema educativo semplicissimo lasciare ai giovani piena libertà di fare le cose che loro sono maggiormente simpatiche il punto sta nello scoprire quali sono i germi delle loro buone qualità e poi procurare di svilupparli ognuno fa con piacere solo quello che sa di poter fare io mi regolo con questo principio e i miei allievi lavorano tutti non solo con attività ma con amore in 46 anni non ho mai inflitto un solo castigo e oso affermare che i miei alunni mi vogliono bene il mio sistema voi l'avete capito è educare con ragione religione e amore come ha fatto a estendere le sue opere fino alla patagonia e alla terra del fuoco beh un po' alla volta che cosa ne pensa delle condizioni della chiesa in europa in italia e del suo avvenire io non sono un profeta lo siete invece un po' tutti voi giornalisti quindi è a voi che bisognerebbe domandare che cosa accadrà nessuno eccetto Dio conosce l'avvenire tuttavia umanamente parlando c'è da credere che l'avvenire sarà grave le mie previsioni sono molto tristi ma non temo nulla Dio salverà sempre la sua chiesa e la Madonna che visibilmente protegge il mondo contemporaneo saprà far sorgere dei redentori dei redentori grazie a tutti grazie a tutti